Scusate, vorrei iniziare, sono già ritardo circa di 20 minuti, è tutto tempo che eventualmente... Ciao, non so, dobbiamo sacrificare se non iniziamo subito un'eventuale discussione. Allora, questa sessione di stamattina completa il discorso avviato ieri, si è parlato ieri nella prima mattinata della parte del lavoro dell'Unità di Pisa, poggiato sul risorgimento grafico, il pomeriggio invece è stata protagonista all'Unità di Genova, con la ripiena Libre e tutto l'indotto di collaboratori, che cosa succede? Rosso però, ok. Allora, stamattina diciamo che è di scena un po' il parterre del comitato scientifico, cioè di tutti quanti sono stati un po' i punti di riferimento anche metodologici nel progetto del FIRB e in una chiave di contesto e di rapporti internazionali e che costituiscono diciamo il contraltare di confronto con cui questa CAPTI va a situarsi. Cominciamo subito con Evangelia Stead, che è una collega che insegna all'Università di Versailles Saint Canton e che ha lanciato in Francia un gruppo di ricerca che diciamo è stato abbastanza emblematico per l'attività di CAPTI, cioè il gruppo di ricerca Tigre, Texte e Images e un gruppo di ricerca centrato sull'Ecole Normale Superiore di Parigi, per cui sono stati pubblicati, uno è già stato pubblicato, uno è in via di pubblicazione, due importanti raccolte di studi e titolate l'Europe des Revues con uno sguardo sul réseau, sulla rete delle riviste europee fra 1880 diciamo e 1920 all'incirca, una raccolta improntata soprattutto da una ricerca di quali possano essere gli approcci metodologici per affrontare in chiave effettivamente aggiornata e problematica questo fondo di ricchezze incredibili che è appunto costituito dalle riviste. Allora Evangelia se vuoi venire e l'intervento con cui apriamo appunto stamattina, Evangelia ne parlerà in francese ma penso non ci sia nessun problema per nessuno di noi e il titolo è Quelque approche comparaison de periodica in Europe che fa un po' il punto appunto su una nuova impostazione che è stata data a questo progetto Europe des Revues con questa seconda fase di ricerca, il volume adesso in uscita. Grazie. Buongiorno, io grazie per la presentazione, io ho affidato il volume a Michael Zimmerman e può circolare un po' così vedete a che cosa assomiglia. Devo chiedere scusa perché non ho fatto in tempo per fare la comunicazione in italiano per cui parlerò in francese con l'appoggio di un PDF ma spero che ci saranno domande anche domande di chiaramente che posso, spero, trattare in italiano. Dunque, io vorrei proposerci un tableau sintetico dei moyens e dei metodi che abbiamo suivito nella ricerca sui periodiche in Francia e in Europe ces derniere anni. Io mi fonde soprattutto sui lavori del séminaire interuniversitario e interdisciplinare del TIGRE che ha un nome agressivo ma che vuole dire texte e image gruppe di recherche a l'école, l'école normale supere. Io animo questo séminaire depuis 2004. sui collocchi, seminari e ateliere di discussion in Francia e in altri paesi. E su due volumi collectivi co-editi con Helen Vedrine. L'Europe des revues 1880-1920 estampe photographie e illustration qui è sorti in 2008 come vous le voyez e che è stata re-editata in 2011. e poi l'Europe des revues 2 1860-1930, Réseau e Circulazione dei modelli, che sorti in settembre 2016 e che accueille diverse contribuzioni, notamment una contribuzione a 4 su il progetto CAPTI che ciò che è stato colore con questo colloquio. En pleine expansion, donc, depuis quelques anni, le recherches sur les périodiques sono soprattutto marciate par les travaux collectifs come celui-ci. La Synergie è in fait le mot d'ordi per venire a un bout d'expériences aussi complexe. Dans son introduction au volume collectif « La belle époque des revues 1880-1914 », c'est l'une des premières entreprises dans ce domaine. Il parut en 2002 à l'initiative des historiens de la presse et de l'édition. Donc, dans son introduction, Olivier Corpé, qui dirige l'IMEC, a defini un certain nombre de critères méthodologiques et a affirmé certains principes sur les périodiques. La première chose, c'est qu'il met en garde contre le positivisme statistique, comme vous le voyez. Il rappelle que le monde des revues résiste à l'investigation quantitative par excès. Il demande une approche qualitative extrêmement fine et impose, dit-il, à l'analyse historique et sociologique une grande circonspection méthodologique et interprédative. Olivier Corpé qualifie la revue de « fait éditorial total » et attire l'attention sur la dimension propre à sa fabrique, un facteur qui, pour lui, est aussi significatif, aussi signifiant que le contenu, mais qui est souvent délaissé. Il souligne enfin l'incroyable et enfin reconnu pour ce qu'est les performances de la revue dans la création et la diffusion des formes, il s'agit des formes artistiques surtout, du savoir et des opinions. Alors, c'est un beau défi méthodologique et la recherche à essayer de répondre de trois façons. D'abord, par le modèle historique interprétatif que représente par exemple bien cet ouvrage de Michel Descaudins, « La crise des valeurs symbolistes, 20 ans de poésie française, 1895-1914 » qui est paru en 1960. Dans ce livre, Michel Descaudins a récusé justement le modèle monographique d'analyse des périodiques. Il a choisi de travailler sur des regroupements parlants et il a mis ces regroupements parlants de revues en relation avec la lecture de la poésie, avec la lecture des journaux, des mémoires et de certains romans. Son étude, comme vous le voyez, porte sur un champ fluctuant et il interprète des tendances les unes par rapport aux autres. C'est un des premiers travaux d'ailleurs à pouvoir travailler sur ce domaine, sur ce passage entre un siècle et un autre de cette manière-là. Comme vous le voyez aussi, il n'y a aucune revue spécifique qui fait les honneurs du titre, mais on a une illustration de couverture qui fait allusion au monde des revues. Justement, l'image parlante, elle met en évidence le rôle essentiel des revues lorsqu'on cherche, comme Descaudins, je le cite, à dégager le sens d'une époque qui n'est pas un simple intérègne aux contours incertains et aux inspirations vagues entre le symbolisme et le surréalisme et à suivre son évolution sans la réduire à quelques monographies exemplaires. Ensuite, donc, premier modèle, le modèle historique interprétatif. Deuxième modèle, le modèle sociologique tel qu'il a été soutenu notamment par les travaux de Pierre Bourdieu. On a eu d'excellents travaux comme par exemple l'étude des revues d'art par Yves Chevrefis de Biol, qui a été réédité d'ailleurs l'année dernière avec une nouvelle préface. Ou encore les études sur les périodiques espagnols sous la direction de Daniel Bussi-Genevoix. Je vous donne là deux exemples, mais évidemment dans ce domaine, sur le modèle sociologique de Pierre Bourdieu, il y a plusieurs travaux. Donc, j'ai mentionné la typologie de la presse hispanique et le projet national de Blanco y Negro, qui est une revue importante et assez consistante. De manière analogue, dans The Oxford Cultural and Critical History of Modernist Magazines, qui est une œuvre collective étendue, comme vous le voyez, en trois volumes. Le troisième volume a deux tomes, donc c'est vraiment une œuvre très ample et de référence. Donc, Peter Brook et Andrew Thacker, avec qui nous avons travaillé d'ailleurs, ont considéré le périodique comme une tendance forte du champ littéraire et un élément clé du modernisme. Ils ont suivi Michael Levinson et une micro-sociologie d'invention moderniste, à l'intérieur de laquelle de petits groupes d'artistes ont pu soutenir leur résolution, en créant, dit Levinson, des petites communautés florissantes fondées sur les forces de la reconnaissance réciproque. L'apport, bien entendu, de cette approche est considérable, parce que la revue artistique et littéraire n'est plus considérée comme un produit ou un objet marginal, mais comme un indice des innovations, un nœud des échanges entre contributeurs majeurs et mineurs, et elle est examinée dans un système de relations entre la culture minoritaire et la culture de masse. Enfin, dans l'Europe des revues, estampes, photographies, illustrations 1880-1920, et dans les séminaires du tigre, nous avons cherché à contribuer à ces interrogations méthodologiques en soulignant d'abord la nature hybride, générique et formelle de la presse périodique, et en invitant les chercheurs à adopter une approche intersémiotique et interdisciplinaire, en interrogeant les liens entre les revues artistiques et littéraires, les lieux et les instances culturelles à une échelle européenne. On a donc cherché à combiner dans ce volume les approches des littéraires, des historiens de l'art, des comparatistes et des médiologues, et nous avons considéré le périodique comme un acte culturel à ne pas dissocier de la presse. Nous avons privilégié dans notre approche la matérialité, car le périodique non seulement signifie créer et transmettre, mais il est, tout d'abord, il existe à travers sa matérialité, autant qu'il signifie. Il signifie d'abord, je dirais, par sa matérialité, qui est une matérialité signifiante et parlante. Et afin de souligner autant que possible le rôle performatif de la revue que mentionnait Olivier Corpet, nous avons essayé de montrer les liens des périodiques avec le domaine éditorial, avec le théâtre, avec les stamps, avec la création artistique, les réclames et la publicité. Nous avons donc cherché à combiner les deux codes de Jérôme McGann. Vous savez que dans The Textual Condition, qui est un livre important de ce point de vue, Jérôme McGann parle du code bibliographique et du code linguistique. Le code bibliographique, personnellement, je n'aime pas beaucoup cette expression, le code bibliographique, parce que pour nous, ça veut dire tout à fait autre chose que pour McGann. Je dirais que ce qu'on appelle, nous, matérialité, correspond en fait à ce que McGann appelle le code bibliographique, c'est-à-dire tout ce qui concerne la disposition et le codage du texte, la forme et sa typologie, la présence des images, la mise en page, etc., etc., y compris la rayure, bien sûr, tout ce qui fait une revue, une revue, et puis le code linguistique, tout ce qui relève traditionnellement du texte, d'une approche philologique du texte, les idées, les genres, l'expression, etc. Donc nous avons cherché, en fait, à combiner ces deux codes avec le rôle culturel des périodiques. Et notre approche était assez inédite à l'époque, nous avons choisi justement l'image et non seulement le texte, nous avons en fait invité tout le monde à regarder d'abord les périodiques tout en les lisant. Et ce qui nous a préoccupés, c'était les modalités d'insertion de l'image, les effets sur le texte et la matérialité, les modes de reproduction, les liens entre les lieux publics, les spectacles, les galeries, les maisons d'édition que nous avons privilégiées, avec l'appui d'un riche dossier iconographique et une longue bibliographie en saisie mutée. Outre le dialogue entre les disciplines, le volume s'est aussi ouvert au domaine européen en accueillant des chapitres sur les périodiques français, allemand, suisse, anglais, espagnol et catalan, hongrois, italien, polonais et russe. Il a également innové par la fourchette chronologique, 1880-1920, parce que nous voulions montrer les continuités entre les périodiques fin de siècle et les périodiques d'avant-garde. C'est un clivage, surtout dans la bibliographie française, c'est un clivage très très important. Vous avez d'un côté la fin de siècle, de l'autre côté ce qu'on appelle traditionnellement les avant-gardes. Et nous voulions montrer qu'il y a une réelle continuité entre les uns et les autres. Donc réunir une fin et un début de siècle, ce qui est traditionnellement séparé. Et je dois dire que Peter Brook et Andrew Thack, qui s'arrêtent beaucoup plus loin que nous au XXe siècle, selon l'espace qu'ils examinent, vous l'avez vu tout à l'heure, selon l'espace qu'ils examinent, ils s'arrêtent soit en 1955 pour la Grande-Bretagne, en 1960 pour l'Amérique du Nord et en 1940 pour l'Europe. Mais il commence toujours en 1880, comme nous, et donc il envisage ce laps de temps dans sa continuité, ce qui me paraît une chose importante. Je vous montre maintenant un petit tableau synthétique des principes de Brook et Thack et de nos propres compléments, de ce point de vue, que nous pensons utiles. Donc Brook et Thack se sont arrêtés sur la revue comme élément d'une nouvelle économie du marché du modernisme. Ils ont montré qu'elle est liée au mécénat et à l'objet artistique qu'on produit. Ils ont parlé des stratégies commerciales de publicité et de réclame et ils ont montré que la revue cherche et parfois trouve un grand lectorat. Et nous, nous avons insisté sur la revue comme objet polymorphe et hybride à la matérialité parlante, sur une approche intersémiotique, sur le rôle de l'image, sur la revue examinée dans son rapport à la presse, sur l'acte performatif et culturel en relation avec le livre, les stampes, la scène, le spectacle, les galeries. Et puis, deux points que je vais développer par la suite. Donc, nous avons cherché à montrer que la revue est le support d'un réseau de relations nationales et internationales qui requiert, en fait, le croisement méthodologique. Alors, le deuxième volume, et je voulais dire qu'il n'y a pas de méthode imparable sur les périodiques qui sont polymorphes de nature, on doit donc se laisser guider par l'objet et adopter sa méthode à son inventivité et à la pluralité des formes. C'est pour cela que, dans un entretien que j'ai donné au musée Kassak à Budapest, on m'a posé la question de savoir si je considère que les périodiques sont une discipline. Et j'ai répondu, non, les périodiques ne sont pas une discipline et surtout, il ne faut pas la constituer en discipline. Nous avons suffisamment de discipline jusqu'à présent. Regardons les périodiques et essayons de voir comment notre discipline répond aux défis de l'objet, n'est-ce pas ? Parce que créer encore une discipline, nous n'en avons vraiment pas besoin. Et en plus, une discipline, c'est un couteau à double tranchant, n'est-ce pas ? Parce qu'elle vient avec des obligations et toutes sortes de codes, etc., dans lesquels je ne veux pas entrer. Donc, nous avons continué notre recherche. Ce deuxième volume, l'Europe des revues 2, 1860-1930, réseau et circulation des modèles, explore plus avant les réseaux, en fait, donc c'est les deux derniers points, les réseaux nationaux et internationaux des périodiques. Il a été conçu sur le même modèle conceptuel, graphique et typographique que le précédent, avec un objet et une intention qui sont un petit peu différentes. Comme vous le voyez d'abord, la tranche chronologique initiale, qui avait été expérimentalement choisie comme une des moins exploitées dans les continuités et les chocs esthétiques qu'elle révèle, a été élargie en amont et en aval. Le volume 1 était issu d'un colloque international et interdisciplinaire co-organisé avec Hélène Védrine en 2006. Le deuxième volume est en très grande partie issu d'une entreprise de plus longue haleine, en fait une sélection des travaux qui ont été présentés au séminaire du Tigre entre 2008 et 2014, avec certains articles supplémentaires spécialement sollicités auprès des spécialistes, notamment dans les deux dernières sections. C'est le cas de l'article que nous avons demandé à CAPTI. Comme le précédent, ce volume est comparatiste dans sa démarche. Il est axé sur les transferts culturels et il examine les périodiques comme des vecteurs culturels polysémiques inscrits par essence dans le régime de l'échange, qu'il soit national ou international. Les périodiques, en fait, dessinent une géographie européenne séduisante grâce à la circulation des textes et des images, grâce aussi à la circulation des formes et des matrices typographiques, des titres et des modèles de revues. Il forme aussi des noyaux nationaux qui polarisent des tendances contre les modèles introduits depuis l'étranger. Et cette double approche permet d'examiner l'importation des idées et des textes étrangers, de revenir aussi sur les hiérarchies figées de l'histoire littéraire et de mettre en avant de nombreuses interactions, par exemple entre le champ littéraire et l'édition, mais aussi entre les diverses tendances esthétiques. Les périodiques, en fait, permettent de remplacer une vision successive, évolutive, voire évolutionniste de la littérature comme monument ou comme patrimoine déchiffré et classé, réinforcé par la forte catégorisation par siècle et par école telle qu'elle est imposée par l'histoire littéraire, ce sont en fait, c'est le fond de notre formation, par une synchronie littéraire vivace aux idées foisonnantes et aux esthétiques souvent superposées. Par ailleurs, le fameux clivage entre petites revues et grandes revues, alors les petites revues sont traditionnellement définies par leur petit format, leur petite enverdure et leur brièveté de vie à l'opposé des grandes. Donc ce clivage, cette différence fameuse vient à être questionnée dans ce projet par la forte interaction entre ces deux domaines qui ne sont pas étanches et qui nous invitent à relativiser la terminologie en vigueur. Il y aura là-dessus d'ailleurs un numéro spécial de Journal of European Periodical Studies qui est une nouvelle revue fondée par Esprit. Je pourrais dire quelques mots sur Esprit par la suite si vous le souhaitez. Donc c'est un numéro prévu pour 2016 précisément sur ce questionnement entre petites et grandes revues. Alors ce volume privilégie bien sûr l'interdisciplinarité comme le précédent. Encourage le dialogue des disciplines et enrichit l'approche des objets en révélant le rôle performatif des périodiques. L'idée est que les périodiques n'émettent pas seulement des messages esthétiques, ils agissent aussi comme des capitaux symboliques. Ils combinent en fait dans leurs pages différents champs d'expression et instaurent des domaines perméables au sein desquels émerge lentement la presse périodique spécialisée. Cette dynamique, qui est une dynamique souple et plastique, s'appuie sur des sociabilités mouvantes, qu'elles soient intellectuelles, politiques ou professionnelles, et révèlent le régime périodique comme l'épicentre d'une large activité culturelle. L'enverdure de ces activités s'étend des scènes officielles au cabaret et mêlent les types d'événements, par exemple les réunions, les entretiens, les assemblées, les banquets, les expositions, les conférences et les lieux, les maisons d'édition, les galeries, les librairies, les spectacles, les photographies, les émissions de radio, le cinéma, etc. Le périodique est éphémère et lié par sa périodicité au temps comme sentiment fugace, mais il est aussi le lieu de réalisation fortement motivée qu'il érige en vitrine de la modernité et de la vie littéraire et artistique. Cette tension est intéressante, ce choc entre la date prévue de la disparition du périodique, parce qu'un périodique naît pour disparaître, on peut dire, et son rôle de vitrine, c'est-à-dire son rôle d'exposition qui garantit, explique peut-être la fascination que les publications périodiques exercent sur la recherche. Alors, je vous invite à regarder rapidement cette notion de réseau. Le terme réseau, en fait, vise à introduire, parallèlement à l'approche sociologique du champ littéraire telle qu'elle a été élaborée par Pierre Bourdieu, une saisie plus fine des relations entre les acteurs de la vie intellectuelle et culturelle. Le terme a été introduit par les recherches sur l'histoire des intellectuels, et il a également été mobilisé dans l'analyse des revues, par exemple, par Françoise Levaillon, dans sa préface à l'ouvrage d'Yves-Chefris-Débiol sur les revues d'art. Donc, je la cite, « La revue est considérée comme l'épicentre d'un réseau, le support d'une stratégie. Elle est légitime et réclame à son tour la légitimation d'un milieu. » Depuis, ce terme a été repris par Daphné de Marnef, Benoît Denis et Paul Aron dans le collectif Les réseaux littéraires, en 2006, et dans le numéro de la revue Contexte, qui est une revue en ligne consacrée à l'étude des revues littéraires belges. Je vous ai donné l'adresse que vous pouvez consulter. Paul Aron et Benoît Denis se sont demandés en quoi réseau est un terme plus pertinent que groupe ou école, voire que le terme de champ littéraire, pour décrire le champ littéraire belge à un champ particulier, à la fois dépendant des lettres françaises et hétéronome, puisqu'il révèle d'une institution faible où les instances littéraires se trouvent souvent sous l'influence de relations sociétales. Les deux chercheurs soutiennent que la théorie des champs de Pierre Bourdieu est un modèle de description particulièrement pertinent quand il s'agit de figures ou de positions dominantes à contenu positif qui instituent une loi. En revanche, l'analyse réticulaire serait, elle, un instrument plus adapté à des formes littéraires dépendantes ou dominées, par exemple, à des formes littéraires périphériques, régionalistes, marginales, paralittéraires, qui sont souvent pauvres en capital symbolique. Le réseau, en fait, serait un modèle heuristique et souple qui s'adapterait mieux à des formes plus floues d'appartenance et des structurations car il permet de suspendre les catégories préconstruites de la perception de la littérature. Notre hypothèse de travail dans le deuxième volume de l'Europe des revues est de tester l'efficacité du terme réseau face aux nombreuses interactions entre revues et au vaste phénomène de la circulation des formes d'art, des textes et des idées en Europe. Nous n'abordons pas seulement les périodiques éphémères, mais aussi les périodiques qui ont su s'imposer comme modèle. Nous postulons donc qu'une approche du domaine périodique par la notion de réseau offre un type d'approche qui est plus étendue, plus difficile à baliser et à montrer, mais aussi plus fin, surtout là où les revues se manifestent comme une nouvelle force polymorphe qui conteste et dérange la structuration du champ littéraire et ses hiérarchies. Un des avantages de ce terme est qu'il souligne justement la dynamique relationnelle. Cette dynamique relationnelle a été bien entendu le plus souvent comprise en termes de relations humaines. N'est-ce pas ? Il s'agit quand on parle de réseau traditionnellement on se représente le réseau, on se représente une revue comme l'émanation d'une personnalité forte ou marquante X et sa revue, Y et sa revue, etc. Des noms donc et de son réseau de relations mais nous invitons les chercheurs à modifier cette perspective et à l'étendre aux relations entre les idées, les formes et leurs actions en prêtant attention à la circulation et à la transmission des créations littéraires des idées, des modèles graphiques et typographiques ou bien encore au rapport entre force commerciale d'un côté et configuration esthétique et littéraire de l'autre. Vu sous cet angle, les impériodiques et les relations et les relations entre périodiques deviennent un terrain d'enquête plus difficile à définir mais plus représentatif et plus dynamique. Il ne gagne pas disons seulement en termes d'activité, il acquiert un surplus d'énergie, de bouillonnement, d'inventivité qui en souligne justement l'efficacité performative. Lorsque l'approche des relations entre les hommes, ce qui est fort courant, s'étend aux relations entre formes d'expression à l'œuvre dans les revues qui en sont la devanture, les transferts culturels et les études comparées gagnent en vigueur. Du coup, la méthode monographique montre ses limites. Il ne s'agit évidemment pas de recuser tant de travaux précieux faits dans la perspective monographique et dont nous avons toujours besoin. Il ne s'agit pas non plus de focaliser, d'éviter, disons, la focalisation d'une étude qui se ferait en termes de groupes, d'écoles, de générations ou de coterie parce que j'estime que ça serait saut mais il s'agit de souligner le gain interprétatif qu'apportent les échanges, les transferts culturels et la comparaison. L'intérêt du réseau justement n'est pas centré sur la valeur littéraire, idéologique et esthétique des créations percées mais plutôt sur leur valeur d'échange qu'elle soit commerciale, intellectuelle, symbolique, émotionnelle ou relationnelle. Une telle problématique permet en fait de passer de la notion d'oeuvre au sens parachevé et close sur elle-même qui est portée d'ailleurs par l'histoire par l'histoire de la littérature, par l'histoire de l'art, à la notion de pratique, pratique des lettres, pratique des images, pratique des formes qui privilégient les passages, l'intertextualité et l'inter-sémioticité. Je considère ce terme comme particulièrement souple et dynamique car il est multidirectionnel. Il suffit en fait de le penser à travers son équivalent anglais network qui a le double avantage de désigner à la fois le travail à l'oeuvre work et les liens qui se tissent net, n'est-ce pas un network pas nécessairement dans un seul sens ni dans un rapport de dépendance. C'est pour cela que d'où d'ailleurs la contestation de ce clivage traditionnel entre petites et grandes revues. Notre enquête sur la circulation et les échanges ne vise évidemment pas une exhaustivité ou une catégorie impossible à atteindre mais cherche à indiquer des tendances majeures. Nous partons donc dans ce volume de la naissance et de la diffusion de quelques modèles de périodiques nous avons en particulier travaillé sur les illustrations sur le modèle d'illustration en prenant en compte leurs intentions leurs déclarations leur lectorat programme contenu typographie et mise en page puis la circulation des textes l'introduction des nouvelles idées des nouveaux auteurs est associée à la migration des formes et des tendances esthétiques ainsi qu'à la circulation des images sur une base à la fois artistique et commerciale d'un pays à l'autre. Pour montrer le fonctionnement réticulaire nous avons choisi un modèle une double approche l'une est centripète et l'autre centrifuge la manière centripète concerne la manière dont les revues interagissent et la manière centripète la manière dont une revue se constitue en réseau et compose son réseau la mobilité et la médiatisation touchent en fait non seulement aux structures des formes et des imaginaires mais conduisent aussi à la redéfinition des genres et des domaines cette circulation n'est pas sans susciter et sans motiver sans contraire l'émergence des périodiques spécialisés que nous interrogeons par quelques catégories par exemple les revues de théâtre les revues d'art de photographie et de cinéma nous indiquons enfin comment les humanités numériques d'aujourd'hui envisagent et cherchent à reconstruire les réseaux historiques en nous tournant à la fois vers de grandes institutions comme la bibliothèque nationale de France et des initiatives comme Kapti qui reconstruit en fait un réseau historique en mettant en relation les institutions aujourd'hui ou des entreprises plus personnelles nous avons même fait appel à un blog à une initiative de blog intitulée les petites revues en France justement pour montrer que le domaine des humanités numériques est très et complexe et très divers et qu'il est intéressant de rendre compte de cette diversité donc l'ambition de ce volume est d'élargir notre vision et l'espace des revues pour percevoir comme des lignes de force opposées les mouvements centrifuges et centripètes qui caractérisent la circulation des modèles les croisements des trames et des chaînes qui constituent le tissu de réseau ça serait ainsi percevoir simultanément et le canard et le lapin donc l'anatra et il coniglio chose que les neurologues semblent tenir pour impossible voilà je vous remercie merci 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 a questa comunicazione che è stata veramente preziosa per delineare i punti guida di un approccio alle riviste che superi il vetero discorso di un approccio esclusivamente monografico che normalmente è quello che anche per economia di mezzi di risorse eccetera il più praticato ci sono indubbiamente degli elementi che poi porteremo alla discussione che mi sembrano molto interessanti cioè il carattere performativo delle riviste il fatto che l'accento sul loro aspetto di effimero ma insieme di forte motivazione e quindi l'incidenza e l'efficacia tutto questo che riconduce proprio alla performatività e poi certamente da tenere molto presente quello che tu hai detto a proposito della differenza fra campo letterario e reso e rete con questo secondo modello che effettivamente ha una flessibilità maggiore e che ci permette di interrogarci meglio su questo scarto fra le grandi riviste e le piccole riviste insomma mi sembrano questi dei punti nodali che possono essere assolutamente di grande rilievo anche proprio per la ricerca di capti e che poi potremo sviluppare nella discussione alla fine chiedendoti magari qualche altro chiarimento su questa impresa anche forse è anche interessante come voi avete lavorato nell'approccio ai corredi illustrativi ai corredi visivi che anche questo è un aspetto di grande rilevanza e va bene adesso invito David Skelton a intervenire David Skelton è professore emerito professore emerito di letteratura inglese all'università di Cardiff e viene qui giustamente per darci un ulteriore approccio quello che è il ruolo dell'illustrazione nell'accompagnare appunto la pubblicazione la fortuna la diffusione di opere letterarie con un particolare accento sulla cultura dell'epoca vittoriana in Inghilterra di cui è stato diciamo è tuttora un grande studioso con rilevanti contributi la sua bibliografia la trovate qui negli abstract non mi dilungo su questo mentre invece il titolo del suo contributo oggi di riprendere questi temi che vi ho detto di illustrare un novel dell'English life in the 80's 60's how the conventional introduce the modern so I pray you if you can speak rather slowly so it will be easier for our audience to understand yes thank you first I must find which Italian word I have to click on to get from my notes page to ordinary slides these are the difficult things in life translation we are all lost in translation absolutely ah there we are now how do I get it up there ah that's good ok that should be good now my slide now comes up we should be in absolute joy I'm terribly grateful to Evangelia for putting so much clear theoretical work in front of you she and I agree on many of the main things though we work on different periods so therefore my work doesn't map entirely onto her but our general ideas of the materiality of the diffusion of ideas of meanings generated by the words and texts together are similar the state of illustration studies in the United Kingdom and indeed the state of collections of illustrations are so different from those in France you want me to be louder or softer or give me signs be a conductor and I shall obey are very different now in Cardiff Julia Thomas and I began by experimenting with collecting all the wood engraved illustrations to literature which occurred in one year because we argued that nobody knew what there was there was of course no censorship in Britain hence no collecting by officials of the images that came so there is no collections of images such as you find in the Bibliothèque Nationale which is so wonderful so we started with the database of Victorian illustration and we collected all 680 wood engraved illustrations to literature which occurred in 1862 in order to show how such a collection enabled one to investigate how illustration worked as a cultural force also also of course to give the idea of how if one had more of it one could actually study the mechanism of the work in the professions and in the trade but of course we were never given any money to continue that and we have one year and that is it but we were given a lot of money to experiment with adding metadata including iconographic tags to a miscellaneous collection of a very large number of images some of which are literary some historical some strangely random which arise from the scanning of 68,000 volumes from the British Library and extracting all the things which are not text there are a million of these and if I tell you that the subject is defined by the fact that the librarians told the firm that came in to do the scanning start at that wall and work this way until the money runs out you will see that it was very scientifically conceived but we were given 15 months to work on this which is of however we lost visions as it was called still exists and is still working it is still open for crowd sourced tagging and the computer wizards set up ways by which the machine may learn from the experience of the human taggers and attempt to discover which images might resemble others because they attract similar sets of tags and have similar characteristics which can be analysed in computational terms then again of course we have no funding to continue that but we hope that it is of sufficient computing interest for people to come back to it now in that situation where we don't get funding because when we apply it is not thought to be important I have devoted myself to making a case for the importance of our work based on things which those ignorant people who judge grant applications may have heard of or may themselves have experienced there is nobody reading your application if you ask to work on literary illustration who knows that subject very well and nobody who would respond to any clearly scientifically defined terminology so what I'm doing really is looking at something that might catch the eye so what do I do bicentenary of Anthony Trollope this year haha most people think it's the bicentenary of the battle of Waterloo or something dull like that no no an author was born and there's been quite a lot of news so I'm cashing in now I've given you a list of the names and titles because I find when listening in another language I often miss those they can be quite difficult and I end up at the end thinking I've seen something very interesting and it very much resembles that Emilio Isgro Weltanschauung out there you've got a complete map of the world but actually no names at all so I've given you the names and this particular piece of work which I shall romp through at enormous pace is an attempt to convince that in the 1860s in a very short period of time which you might find the same thing replicated exactly elsewhere or with a difference who knows illustration illustrated literature makes meanings which may actually influence the world and not just be a reflection of the world so my aim is to examine some illustrated texts from the heyday of realistic illustration to demonstrate how intense was their identification with growing consumerism which following Baudelaire of course we link strongly to the formation of a modernism or the modern in the process I'll give examples of broader artistic literary changes which accompany this of course it's a significantly bourgeois to our development and these things are all linked however sophisticated we may believe we are when we look at prose narrative and we've had a lot of help in the last 30 years with this or more it remains true that when we come to illustrated prose fiction there's a strong tendency to simplify to hope that it will be sufficient to suppose that first of all a text is generated in the realistic case the text has reference to the real world that strange thing we think we live in then come the illustrations which derive from the text so everything works in one direction and it doesn't occur to us to think in the other way I hold a strongly opposed view that since one of the aims of one of the functions of realism is to construct that world that was seen as the real world the illustrations are not passive products but are actually reaching out and helping to construct that world so let me move on and show you a frontispiece I wonder if we can get the pictures filling the screen so that you don't want to see me you can see me anyway how is that done well they can't see the metadata at the well that's better than nothing I mean it's slightly distorted but you still ah that's better you see you don't want me I do my best to look reasonable I had a triumph the other day I got off Eurostar I dressed to be in Paris I got off Eurostar and I had to say something to the woman at the desk and she addressed me in French and I thought ah at last my dream is fulfilled but I can't keep it up so here we have the title page to Trollope's Orley Farm the frontispiece now frontispiece is of course used to be of the author or very often of a scene of antiquity to show the value of the work particularly a gothic building or something like that I haven't put examples it's not necessary here's a new style frontispiece but it does some of the same things almost understated almost undetected in fact this is Orley Farm the farm of the title but it is also drawn by Millet from one of the houses in which Trollope was brought up so secretly it's the autobiography of the author as well even though the novel isn't about that so we have the feature of putting the author on the frontispiece in a secret way which I rather like Trollope the author is middle class from a professional family with pretensions to landed gentility his father never did inherit the baronetcy and the Sir Hugh Trollope now lives in Australia but there we are it missed him his father was a highly educated but unsuccessful barrister in Lincoln's inn now the setting of the house in this image is a shortest distance from London it's now in a London suburb the scene invites the middle class reader whether urban or rural into the novel it is both of London and of the country it's idyllic and yet you can get there you can commute the only thing strange is that I think the milkmaid is on the wrong side but then perhaps she's milkmaid I haven't examined that when I was a child my cousins milkmaids when they went out into the fields with their buckets and stools sat on the other side but still we needn't worry about that now do I just clip that and it moves oh I do isn't that wonderful now this is an example of the materiality this is the opening of the small house of Allington as it appears in the periodical in the monthly in which it came which is actually different of course from when it's bound up as volumes it was sold in Orley Farm was sold in monthly parts but this is the recently founded and incredibly successful Cornhill magazine it ran it had a circulation of 120,000 at one point which in the early 1860s is enormous for something which cost a shilling a month and some people had to live on a shilling a month let's face it and it was at this point there are three remarkably good serials in operation there's a trollop there's a George Elliot and there's a Thackeray imagine getting all of those in one shilling's worth now this is the opening of the first installment of one of them the small house at Annington the vignette sets the scene in a traditional village here we are now into the country you have the country dream obviously everyone living in a town wants to be a small holder and everybody living in the country wants to be a small shop keeper but that's another matter generation follows generation because we've got the graves under the eye of the established church oh how lovely for its part the first plate shows the mistress of a house her head protected from the sun by a bonnet because she's been picking peas for the family dinner which is a thing a mistress often does you see in the English system and the maid is waiting to shell them this is a modest middle class home and you know the mistress is worried about something well let's have a look more closely at the first page of the narrative there's the vignette which incidentally is not reproduced in the novel because it would have probably cost too much I don't maybe I've no idea otherwise why the vignette should not be there and as far as I know they haven't been reproduced until the last few years in any edition so it's very important well there we are there's the first page but I want to click in a bit further to the first sentence or two because I want to show you how that illustration those illustrations which invited you in as a middle class reader are carried out in the text of course there was a great house at Allington how otherwise should there have been a small house well you've known the title small house at Allington a long time because you've been waiting for it you loved his last novel you want the next it's like you know Downton Abbey or something you know you're really mad on it and what he does is to concentrate you onto the small house where people of fairly modest that you might be like that you certainly wouldn't think they were way above you but he starts by introducing you to the possibility of the much richer people the great house I could go on at length about the clever rhetoric in those two sentences but the reader knows a lot already and the logic which supposedly determines the existence of a great house is of course completely fallacious but that doesn't matter the important thing is that readers have been persuaded to view this matter as though they're on social terms with the lady in the bonnet opposite now let me move to one of the other serials it's an illustration from the same issue of the magazine it's by a rival academic painter that was a Millet this is Frederick Leighton both later presidents of the Royal Academy both supposedly friends though I'm not quite sure that it was an easy reciprocal relationship but I won't go into that this is an illustration to George Eliot's Romola set of course in the late Quattrocento and hence not the current Middle Ages but what I want to look at here is the fact that Leighton an academic painter is doing something which would be rather difficult to do in an easel painting that's with figures overlapping to that extent the extraordinary amount of overlap which would be at that point unusual in an academic painting though of course you might find it anywhere among the crowds of people in a Veronese or anything else but to take it out is something that can happen in an illustration so illustrations it seems to me are always pressing opening possibilities up with their elbows as it were but here heavens above in the same issue is Millet saying well I can do it even better here are four characters who overlap in one way or another and I wonder whether there's a competition whether images are in dialogue with each other they occur in the same issue of the same magazine Cornhill of December 1862 and is Millet challenging his younger rival and saying actually I can do that you know or is it sheer chance because that happens Millet we know has been operating working experimenting for a couple of years on getting seven people into a canvas where things are happening this is a ransom the girl has been captured by brigands and a ransom is being exchanged for her and it seems perhaps no coincidence that some of the things are tried out in illustrations and in easel painting at the same time there is literature on this which I haven't bothered to note up there let me come into another image a little bit earlier two years earlier with overlapping figures again but of course quite different now because it's a father and children and nobody notices that they're grouped in a certain way but nevertheless of course something is happening in this illustration which is of an illustration and not of an easel painting the face in the doorway somebody is coming in something is happening the father is aware of that person as well as the young woman who's looking after the baby he is in fact a very poor clergyman I mean desperately poor there's no carpet on the floor he is obliged to appear to be middle class on the income of an artisan because he has such a bad living and what he is doing is transgressive in Victorian terms he's teaching his daughter's Greek the one on the left the elder is very advanced in her Greek which they're learning of course through the medium of Latin as you did in those days and the eight year old has a better ear for Greek meter he says so it's good recognisable and of something which is transgressive and what is happening with that figure in the door the figure in the door is favourite of course in 18th century illustrations to fiction too sometimes of course that indicates some sexual surprises about to happen according to Natalie but there are many other possible reasons we'll go to a wealthier interior oh much wealthier yes goodness me flush lush the sick young man who's had a hunting accident is being taught is talking to the housekeeper who's been sent by the daughter of the family who is not allowed to come and see him because he's in pyjamas obviously and they communicate only by the arrangements made for his food hence the title bread sauce is so ticklish which is completely incomprehensible as an utterance except by contextualising it and this shows something else Millet is doing which is inventing the problem picture where there is something there that you have to add a narrative to yourself in order to make sense of the picture and this is continued of course right into Sickert and people like that so already the reader viewer is being worked on by the illustration as well as just being given it to look at now here's a lovely picture it's one I absolutely adore it is I am told by the staff of the hunting museum did you know there was a museum of fox hunting in England there has to be doesn't there and indeed there is I'm glad to say and they say this is that they agree with me this is probably the first picture of a hunt as the collective of hunters and dogs are called before it moves off it's a meet before it moves off but look how carefully you are placed as the viewer reader you're on your feet aren't you you're standing there a short few paces away you could be of them or you could be watching them you are allowed to belong or just think you're a viewer isn't that clever as the positioning of the reader who might belong to that class or might not it's absolutely brilliant and the picture itself is pretty good equally important though is that the house in the background is very very fashionable this one looks as though it might actually be old but if you were unlucky enough to inherit a house that had been modernized you spent a lot of money trying to make it look 200 years old again or for the first time I have some hideous examples of that which I haven't time to show you but Trollope and Millet both are encouraging that fashion okay it's difficult to prove just how much effect they had there but here is a fashion where we can prove there is a great effect oh Lucy throws herself on a bed because she has said she doesn't love Lord Lufton and it's a lie you see which upsets a Victorian maiden enormously but of course what is significant what do you see here is the crinoline more than anything else at first Trollope saw it and thought it was absurd but a bit later declared himself satisfied when he saw an identical dress in a street in London I saw the very pattern of the dress sometime after the picture came out now people have said oh that shows Millet is very realistic no it doesn't because historians of dress I've consulted to confirm that that dress did not exist until Millet did it when you got your Trollope novel you took pictures like that to your dressmaker if you were wealthy enough to have it made up and they were made up they were patterns he invented this and it's in the context of the story she hasn't enough money for something like that whereas this lady has Princess Mary of Cambridge a cousin of Queen Victoria affectionately known to the London crowd as Fat Mary was notorious for running up the biggest dress bills in Europe £10,000 one year she could afford this but of course most of the characters in the fiction couldn't and Lady Caroline Guest the wife of an immensely wealthy industrialist is also pictured by the same photographer in the same month in the same pose by the same urn wearing a similar dress I rest my case it is plain Millet is very clever with dress now here you see is a story set in Scotland in the late 18th century ah me she was a winsome maid whatever that might mean it's very difficult to know what words like winsome means it means fanciable in some way but I mean exactly what he was very clever with ladies fashion you see because this seems a good image for a late 18th century poem but in fact the jacket is the immensely fashionable zouave jacket which was fashionable in the late 1850s and he has pictured it exactly it is a picture of today as well as appearing to be a picture of yesterday and that if you want to be in touch with fashion cleverly is extraordinarily good it seems to me now materiality I said was important and Evangelia already knows this one this is the opening the two pages that occur at one point in small house of Allington plate on the left vignette on the right the lady in the chair is another of Trollope's characters who's also a fashion plate immensely wealthy so people could well imitate her the young gentleman is heir to an enormous fortune but is a cold stick and has never really taken much interest in women and his heart has never been moved before but the narrative says blood was flowing where blood has never flowed before and Millet puts his hands in the correct place to indicate I think what that might also mean if you're a grown up and Millet then puts a large pair of somethings on the back of that bull just to make sure that you notice that sexuality might be an alternative to frigidity and it seems to me that meanings which are generated by the actual physical layout of something by the fact that it opens like that are significant and they're part of what Evangelia was talking about of course sometimes there is a deliberate effort by both well natural it's not an effort both Trollof and Millet love to take their fiction into realms that you don't normally see a group of travelling salesmen they've been drinking a bit that's why one's fallen asleep and Mr. Cantwise is showing the strength of his folding cast iron furniture which he's you know travelling trying to sell and selling successfully indeed and so the novels are aware of salesmanship of the commercial system the novels are part of it because Smith Elder were making an enormous amount of money out of this periodical and its novels so it brings both the selling of cast iron furniture and the selling of literature into one system it seems to me which is the that's consumerism it's highly developed capitalism and that is not only visible here but it's actually being produced by these pictures one particular professor from Bologna said to me at one point when I showed this in a seminar she said oh David why do you study such ugly things but there we are it happens sometimes so I'm now going to show you something even uglier because Trollope wrote a story which was actually about selling and this is about the setting up of a new Haberdacher shop with all the apparatus of modern advertising and here is the opening with it's not the real title page there's a printed title page this is an ornamental title page and a frontispiece it's magenta house thus named after the battle of magenta and painted ghastly magenta all over it's Trollope's effort which failed it had no success it wasn't illustrated at the time it's illustrated in a book edition of 1870 here's another curious illustration in it you can tell that the man making the pancakes is not a favourite of the narrator but how strange to have characters looking straight out that isn't Millet we don't know who that is lots of people recognise the monogram without being able to name it but a strange thing that illustration allows you to have people who look out and even popular illustrations as somebody I know who is working on Marie Duval and various people of that sort that doesn't really happen there it certainly doesn't happen in academic painting people looking out are looking just there usually or there they don't look right into your eyes like that in general even Millet's favourite famous painting of Sophie his stepdaughter doesn't look actually at you so this is a foray into different types of realistic fiction and of course all Trollope's main works are recycled in cheaper forms marketed for a socially wider readership than he first wrote for because lots of people couldn't afford that but he was in he may have been more widely appreciated as time passed we don't know because we don't get a record really of how sales of those early those small those cheaper editions and very few written comments about them but I will just show you one by the way that readership the opening of the small house of Allington means that certain people with aesthetic pretensions later can't be seen to read Trollope because they wouldn't like to be part of that but even in T.S. Eliot's poem Gerontian when he's waiting for his boy to read the man it is in fact Edward Fitzgerald I'm waiting for my boy to come and read the next installment of Eustace Diamonds I'll just show you this a cheap two shilling edition of some Trollope things and this is the back page the back cover and it's got an advertisement on it and I love this it's for revolving shutters but they're adapted for mansion or cottage just like Trollope's novels I think I think it's absolutely wonderful it all comes back it refers back into the interior of the book and so it seems to me these things don't remain safely in the book but like Puck at the end of Midsummer Night's Dream they break out of the page at you as Puck of course leaves the play and talks to us as though he's real Kenny Meadows an alcoholic Welsh illustrator of considerable distinction and I will just mention that I have this illustration courtesy of a student of ours who has just completed the Victorian Illustrated Shakespeare database with 3,000 illustrations from Victorian editions of Shakespeare and I think they probably did something about forming the world they probably made sure that Stratford-on-Avon looks as it does today thank you no 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 problem Allora siamo entrati nel dominio proprio dell'illustrazione in questo caso in gran parte l'illustrazione applicata a quella che potremmo dire la produzione di Feilletun cioè di queste pubblicazioni di novels nei periodici popolari a grandissima tiratura e è stata una dimostrazione quanto mai anche piacevole cioè di vedere il ruolo autonomo dell'illustrazione che non è assolutamente una descrizione o accompagnamento mimetico ripresa del testo quanto una propria chiave di narratività riposta proprio nell'articolazione compositiva stessa basta cercare alcuni elementi di dettaglio e si vede appunto quale specifico discorso l'illustrazione conduca spesso credo in competizione se vi si è una sorta competition with the written text d'accordo grazie grazie professor Skelton adesso è Michele Zimmerman che è professore alla Cattolice Universitet di Eichstet in Baviera e da dieci anni conduce un interessantissimo programma di laurea magistrale Eichstesis organizzato all'interno di una rete consistente delle principali università della Baviera e con un programma effettivamente multidisciplinare in cui questi studi anche sull'illustrazione e sulle reti culturali come agenti performativi di trasferti culturali hanno avuto una forte rilievo e nell'ambito degli studi che qui ci interessano Zimmerman ha pubblicato un volume interessantissimo ai ment tedesco di cui vorremmo molto avere quanto prima una traduzione non funziona una traduzione in italiano per quanto riguarda una disamina compiuta non approccio inedito della pittura italiana del secondo ottocento vista attraverso la sua trasmissione nelle riproduzioni illustrate nei periodici di grande diffusione facendo riferimento a casi chiave come quelli per esempio di Michetti o Segantini e nella comunicazione di oggi specificamente si occuperà del caso di Giovanni Segantini con la morte di Giovanni Segantini una storia mediale come si costituisce una sorta di mito a partire proprio dalla sua costruzione attraverso i media buongiorno grazie di avermi invitato in questo ateneo prestigioso devo dire che parlo con la mia voce ma sentite in parte le parole di Giorgio Bacci che ha preso il tempo all'ultimo momento un po' di rivedere un po' il mio italiano dunque sono le undici e otto e temo che spero che non parlo troppo lungo ma non anche non posso neanche attrappare col tempo la produzione di riviste artistiche illustrate anche con fotografie all'epoca estremamente costose da stampare raggiunse il culmine attorno al 1900 rappresentando un elemento importante nell'immaginario visivo della belle epoche nuovi media tendevano a produrre nuovi miti presentati in un linguaggio iconico specifico per chiarire alcune premesse metodologiche concernenti l'analisi mediale dei miti sarà bene fornire un esempio l'assassinio del presidente statunitense John F. Kennedy il 22 novembre 1963 fu certamente uno degli eventi più drammatici trasmessi in diretta nel momento in cui la televisione stava entrando nelle case degli americani eventi come quello relativa all'invasione della baia dei porci a Cuba il discorso che Kennedy dopo la costruzione del muro aveva tenuto a Berlino erano diventati iconici nella coscienza visiva internazionale per riassumere l'immagine del giovane presidente difensore della libertà dopo la sua morte l'immagine della sua vedova bella accolta internazionalmente stimata rappresentava non solamente la donna in lutto ma anche le speranze deluse della morte del marito carismatico l'immagine di Jackie Kennedy in lutto non ricordava soltanto quello che era accaduto a una famiglia potente di migranti cattolici di origine irlandese a Boston ma si caricava di tutte le speranze connesse alla missione liberalizzatrice incarnata a sua volta dalla figura del giovane marito e presidente la foto che vedete fu pubblicata su Magnum famoso settimanale illustrato il taglio visivo con Jackie vista da vicino eppure non così primo piano come in un film di Eisenstein o di Caldria provoca una forte emozione di stampo tipicamente televisivo poco dopo gli eventi Andy Warhol tradusse l'effetto di massa di tali immagini immersive e di altre già note dalla sposa del carismatico presidente in una sequenza di serigrafie multicolori anticipando la diffusione della televisione a colori questa andromaca in lutto è un mito moderno Roland Barthes aveva dimostrato nel 1957 nel suo libro Mitologie che il mito ha sempre un secondo significato accanto ad un primario in questo caso sarebbe la nazione in lutto ma fiera della sua missione civilizzatrice e anche il medium la televisione con la quale l'America stava conquistando la fantasia di un pubblico mondiale nel 1963 anche il libro di Marshall McLuhan The Medium is the Message Se la morte di John F. Kennedy fu il mito mediale dell'inizio degli anni 1960 la morte di Giovanni Sigantino fu il mito mediale per eccellenza della Belle Epoque prima di seguire la storia sulla stampa internazionale italiana francese inglese e tedesca dell'epoca bisogna introdurre altri elementi teorici prima di studiare una storia qualificata come un mito mediale il citato Mitologie di Barth è stato infatti nel frattempo sorpassato come testo di riferimento dai contributi di due autori tedeschi che hanno lavorato sulla cultura della memoria basandosi da parte loro sulla teoria sulle teorie del sociologo francese Maurice Halbwachs si tratta dell'egittologo Jan Asman e della comparatista Alida Asman secondo loro ogni evento storico può diventare un mito certamente bisogna nella storia dei miti anche mediali trattare libri come quello di Cassira ma anche di Hans Blumberg è un bellissimo libro sulla storia del concetto del mito di Gerhard von Grevenitz ma io mi baso soprattutto su I.T. Asman secondo loro ogni evento storico può diventare un mito come distingue allora tra una forma retorica qualsiasi di narrare un evento storico e un mito la risposta può arrivare non tanto da un'analisi formalista quanto da un'analisi relativa alla funzione del mito analisi pragmaticista dunque un mito ha sempre lo scopo di unire un popolo un gruppo intorno a un comune passato reale o immaginario che conferisce al gruppo stesso la sua identità si può trattare di un'identità etnico-culturale o nazionale ad esempio i greci in quanto conoscitori dei miti omerici distinti da tutti gli altri popoli identificati come barbari nel romanticismo storico italiano la storia medievale raccontata da Sismondo dei Sismondi e rappresentata da Giuseppe Verdi nell'opera o in altre opere i Vespri siciliani può funzionare come un mito corificato nella forma mediale specifica del melodrama lirico per l'America del Sud Benedict Anderson ha studiato il ruolo formativo che il mito nazionale che i miti nazionali hanno avuto nel nation building nel caso di Jackie Kennedy però non era solamente la nazione statunitense ad essere unita dal mito televisivo intermediale ma quello che era chiamato il mondo libero la funzione del mito non è dunque riducibile solamente come Bartolo aveva sostenuto a un secondo livello narrativo accanto alla narrazione primaria a una connotazione superiore che si aggiunge alla denotazione inferiore diciamo al mondo libero in lutto che si aggiunge a quello della vedova con i suoi bambini la funzione viene definita invece da un elemento identitario messo in moto in un modo o l'altro dal mito non basta però neanche che il mito fondi un'unità mitica del popolo pubblico che se ne impregna oltre a ciò il mito deve essere autentificato come credibile e fedele agli eventi il mito dunque si riallaccia alla storia veridica in una dialettica tra una narrazione formalmente unita chiusa in se stessa e un rapporto fedele credibile o documentato degli eventi il mito invita continuamente a negoziare e rinegoziare la sua autenticità Jan Aßmann ha definito l'interazione tra narratività e autentificazione come una dialettica iscritta alla produzione dei miti seguirò questo metodo dialettico tra autentificazione e diciamo costruzione del mito come un universo chiuso seguo questo metodo analizzando miti nei media visivi ma aggiungo un altro elemento importante per l'analisi della fantasia iconica in un sistema mediale nel quale la fotografia era un elemento importante quella aveva il ruolo di medium documentario e realista per eccellenza una foto non mostra solamente il suo contenuto ma anche il suo carattere di fedeltà assoluta Segontini riuscì a rivalizzare e in un certo senso addirittura a superare la fotografia alla sua epoca ridotta al bianco e nero tramite la tecnica divisionista che introduceva nei suoi quadri come un disegno illustrativo o un quadro astratto è un medium che vuole essere preso in considerazione come tale cioè nel suo ruolo nella mediazione nella comunicazione visiva un'immagine inventata da un artista romantico o simbolista per contrasto non è solamente più fantasioda ma anche più immersiva invita lo spettatore a perdersi tra le fila dell'immaginazione sollecitata da quello che gli è presentato tendenzialmente a dimenticare il carattere del medium a prenderlo come un trompe se aggiungiamo la dialettica tra media autoriflessivi e media immersivi alla dialettica sviluppata da Jan Asman costruzione autonoma del mito e strategie di autentificazione disponiamo di strumenti concettuali per analizzare i miti mediali in questo caso miti efficaci costruiti nella pittura e in testi cui si farà riferimento Segantini era non solamente il creatore delle sue opere ma anche un personaggio che faceva parte del suo stesso modo di operare della sua oeuvre e questo ben prima della sua morte prematura avvenuta sullo Schaffberg sopra Pontesina il 28 settembre 1899 studiando in modo sistematico la critica d'arte che ha accompagnato il percorso pubblico della sua produzione artistica e cercando gli inizi del mito autobiografico si capisce che già nei primi testi che introducono elementi biografici è presentato come un David Copperfield italiano nel romanzo di formazione di carattere parzialmente autobiografico pubblicato nel 1949 a 50 da Charles Dickens l'eroe dopo un'infanzia che aveva conosciuto anche aspetti idillici è espulso dal paradiso primordialo dopo la morte della madre e deve lavorare in una fattoria costretto dopo anche a condurre una vita in partambulante e sempre incerta in modo simile Segantini raccontava la sua infanzia come un'espulsione da un paradisiaco villaggio montanaro causato dalla morte prima della madre e poi del padre la storia del bambino di sette anni costretto a vivere lui diceva cinque anni costretto a vivere rinchiuso nell'appartamento di una sorella che lo trascurava e che dopo la sua fuga fu aiutato da semplici contadini si trova già nei primi testi critici sull'artista fu solamente nel 1901 due anni dopo la morte dell'artista che si venne a sapere grazie alle ricerche di un anonimo documentarista che nel 1870 il ragazzo dodicenne era stato condannato per ozio e vagabondaggio e ricoverato in un pubblico stabilimento di lavoro sinché abbia appreso un'arte o una professione fine citazione Segantini passò dunque tre anni della sua giovinezza fino al 1873 nell'istituto Marchiondi via Quadronno a Milano un istituto per il ricovero dei fanciulli discoli e abbandonati dopo un suo fratello acquisito Napoleone lo prese con sé a Borgo Val Sugana dove Segantini faceva il garzone in un negozio di alimentari e un atelier fotografico diretti dallo stesso fratello dunque quel fratello erano i poveri contadini l'artista però aveva sempre nascosto questi episodi preferirò parlare invece del periodo dopo la morte della madre che Segantini passò da prima chiuso nell'appartamento della sorella un evento del quale narra gli episodi più inquietanti probabilmente non era una sola giornata nata che era chiuso e poi presso una famiglia di semplici e poveri contadini inserendo anche degli stereotipi vasariani nel suo percorso nell'autunno del 1895 Segantini scrisse uno studio autobiografico per Vigili Colombo professore di letteratura e critico che aveva fondato lo stesso anno la rivista Il Focolare un anno dopo la scrittice Anna Radius Zuccari nota con il pseudonimo di Nera pubblicò questo materiale su Emporium e ne ho già parlato in questa sede Nera è un personaggio importantissimo nel primissimo femminismo italiana ma alla volta anche dipendente da il Mantegazza Lombroso dunque crea una specie di femminismo di signorina diciamo compatibile con le visioni un po' isteriche della maternità della missione della donna della maternità eccetera dell'epoca come Giotto Segantini sosteneva di aver imparato a disegnare come guardiano di pecore o di porci ritrasse anche un bimbo morto per la madre che glielo aveva chiesto apparentemente il mito Copperfield non era una proiezione dei critici ma era lo stesso Segantini che giovanissimo lo aveva ripreso completandolo con altro materiale mitico dipinse le stazioni del suo percorso in Brianza 1880 a 86 a Savonino nella valle del Reno superiore 86 a 94 poi alla Maloia 94 99 come la storia di un graduale ritorno di un noble savage e insisto un po' su un noble perché all'epoca del colonialismo c'erano anche i selvaggi un po' meno nobili all'origine della sua infanzia allo stesso tempo il ritorno di un uomo primitivo alle pure sorgenti della vita quando si cercano le fonti per questa versione di un primitivismo russoiano non bisogna cercare lontano di Jules Michelet si legge oggi soprattutto la sua storia della rivoluzione francese pubblicata tra il 1847 e il 1853 lo storico aveva però anche pubblicato libri sulla geografia culturale dell'Europa tra i quali la mer nel 61 e la montagna nel 68 trasformando il paesaggio in un ambiente mitico si seguono i grandi fiumi che bagnano le metropoli come Parigi specie di Babilonia moderna bodleriana diciamo prima di irrigare le pianure e di nutrire le megacity dell'industrializzazione i fiumi provengono dalle cime delle montagne dove i ghiacciai conservano la purezza dell'acqua per tempi immemorabili che sorpassano ogni memoria storica il percorso biografico segantiniano non era altro che un continuo ritorno verso una natura primaria e materna questo ritorno a un paese d'origine dal quale l'artista era stato cacciato dopo la morte della madre racchiude già un elemento mitico biografico che diventa importante dopo la morte dell'artista l'incontenibile nostalgia di un ritorno alla sorgente si traduce in un desiderio inconscio e paradossale di morire il pittore aveva appena 28 anni quando l'urigi archinti detto chertani in un almanaco sulla sesta esposizione nazionale artistica tenutasi a venezia nel 1887 dunque otto anni prima della prima biennale ne delineava il primo ritratto artistico per la prima volta appare il cliché sul ragazzo si è cito chertani si è gettato da fanciullo a corpo perso nel mare magno della vita ed ha fatto parecchi mestieri tra i quali il pastore il garzone di masseria il guardiano di pecora fine citazione poi il chertani si dimostra impressionato dal carattere nello allo stesso tempo semplice addirittura zingaresco e signorile del personaggio sulle labbra li corre un sorrisetto malizioso che tempera la troppa benevolenza dei suoi giudizi sulle opere altrui al prima il suo viso fa l'impressione di una faccia zingaresca ma osservato un po' di più l'impressione cambia e vi trovi un che definemente distinto come di gran signore di nascita tipo di boemia artistica della più precaria e invece ha mogliato da parecchi anni ed ha già quattro o cinque figli famiglia sana non ama bagordi spassi barahonde riunioni vive nella sua famiglia sempre su qualche montagna nel 1892 Alberto Sormani in vita moderna dette la sua forma canonica al mito primitivista del ritorno verso la purezza non senza sottintesi davinistici la forza diventa una caratteristica essenziale dell'artista alla ricerca della semplicità della natura stessa la sua maestra è la natura la sua forte ispiratrice è la solitudine questa vita austera lo ha fortificato ha sviluppato in lui tutte le qualità poetiche che forse nella solita vita comune si sarebbero soffocate smussate o dannebbiate nato fra le montagne una specie di nostalgia lo condusse verso le montagne sempre più in alto alla vallassina alla val di chiavenna e infine al paese di savonin presso al passo del giulia sopra all'engadina a 1600 metri d'altezza qui egli vive da circa cinque anni immergendosi nella vita superna di quella forte natura alpina che a lui solo suo unico amico e confidente svela i suoi segreti più profondi e inviolati dal inizio degli anni 90 dell'ottocento in poi gli elementi simbolisti incomprensibili per una critica d'arte che seguiva tuttora il credo di un verissimo positivista fecero cambiare l'immagine dell'artista sano e primitivo la natura così pura appare ora come un'allucinazione è Domenico Tumiati che nel 1897 nel Donunziano il Marzocco trasforma il Montanaro in un filosofo niciano e prete zarathustriano della natura il nirvano del quale aveva condannato nel 1892 l'illusoriose diventa ora anche per lo stesso artista una patria spirituale in tutte queste opere era chiuso un nirvana lo spirito sembra adumentarsi in seno alle cose così la solitudine trasfigurava agli occhi dell'artista la materia onde tutto gli appariva in luce virginea l'arte nuova sarà l'inno della fede sarà come l'artista espresse la scienza dello spirito un luminoso sacerdozio sulla montagna fu elevata l'altare e giù si diffonde un suono ignorato per il geniale Robert de la Ciserane in un articolo del 1898 sulla revue dei Deux Mondes tutta la natura vista da Segantini era già il risultato di una risurrezione Ciserane parte di un episodio raccontato dallo stesso artista da un bambino non era riuscito a suicidarsi o forse era anche salvato da un accidente quando cadeva in un canale collegato a un mulino Tristezza ne voyons plus son tableau dans ces nuées qui passent le peintre revoit les fantômes de sa vie passée sa mère morte le laissant a 5 ans orphelin son père qui l'a abbandonné il revoit son enfance triste comme celle de David Copperfield prédestiné comme celle de Giotto il revoit Arco où il est né et les figures des humbles montagnards qui se prend chère sur son berceau et les voisins les arbres le canal où il tomba tout enfant et faillit se noyer et son petit bonnet de laine rouge qui allait se noyer aussi et le grand ciel bleu plein d'alouettes qui passaient sur lui quand revenu à la vie il rouvri les yeux ces alouettes qui savaient nagé nagé dans l'eau immense et bleu des cieux si capisci da dove Freud prende visioni comme il sentimento oceanico Ciserrand racconta questi episodi partendo da un incontro alla Maloia quando l'artista lavorava a un quadro del suo trittico dell'Alpi i funerali di una vergine rimasto incompiuto ancora un anno dopo alla sua morte l'immagine dipinta da Ciserrand non da Segantini di un cielo oceanico traversato dalle rondini si raddoppia dunque di quella della donna che non si è mai concessa alla vita tornando nel suolo di una natura glaciale anche prima della sua morte la stampa costruiva il percorso biografico di Segantini conferendogli un'identità doppia allo stesso tempo quella di un grande primitivo che seguiva il percorso dei fiumi fino alle loro fonti per ritrovarvi la vita semplice di un contadino sulle Alpi e quella di un decadente infettato dalla malattia del secolo il sapere spirituale filosofico attraverso il quale la purezza di una natura materna si perde paradossalmente nel momento in cui questa diventa soggetto di un sapere artistico la via attraverso la quale lo stesso Segantini poteva diventare una figura corrispondente alla Vergine in cui mostrava i funerali era già spianata dopo la sua morte il desiderio inconscio di morire diventava l'elemento biografico che univa i due lati del personaggio la morte inaspettata era dapprima spontaneamente interpretata come un compimento della sua parabola artistica Luca Beltrami il 30 settembre 1892 due giorni dopo la morte del pittore scrisse cito il destino si è spezzato una vita non ha lasciato incompleta una figura d'artista che rimarrà fra le più elette di questo scorcio di secolo fine citazione poco dopo in natura ed arte un autore anonimo confermava cito nella tranquilla pace dei monti l'anima bella di un pittore poeta è trasmigrata serenamente o improvvisamente come un congedo dopo una missione compiuta fine citazione mission completed le battaglie condotte in precedenza attorno al simbolismo segantiniano risorgevano dopo la sua morte gli aderenti del simbolismo d'annunzio e altri commemorarono il pittore come un prete un devoto dell'arte che aveva scoperto dietro all'apparenza della natura che aveva compreso più chiaramente di ogni altro pittore l'essenza spirituale di una natura darwiniana scandita dai cicli del divenire e del perire gli apostoli di un verismo tardo risorgimentale tuttavia scoprirono allora l'elemento decadente in Segantini un critico del calibro di primo levi che spesso si fermava come primo levi l'italico dunque era un altro primo levi riassunse nella rivista d'Italia di dicembre 1899 questa tendenza con un tono lombrosiano quella squisita sensibilità del sistema nervoso che dava a Segantini il dono di afferrare e di rendere le più sottili delicatezze del bello naturale era la causa stessa di una irritabilità divenuta non più occasionale ma organica la difficoltà dei primi passi l'ostilità palese o tacita con cui egli veniva accolto davano alle sue opere un senso di combattività che a prima vista le rendeva meno attraenti lo teneva personalmente in una specie di effervescenza spirituale che era essa pure come un stato di guerra permanente il senso troppo letterario delle sue telesimboliste per Levi testimoniava del suo carattere di un nervoso moderno egli stesso avvertiva il pericolo di questa autosuggestione ed era appunto per sottrarvi sì che aveva adottato l'esperiente di farsi leggere mentre lavorava i libri che andavano poco a poco formando così la sua cultura disordinata ma geniale fine citazione dunque da primitivo sano forte diventa e da un essere quasi virginale diventa un isterico nel 1902 Franz Zervas pubblicò una monografia uscita nello stesso tempo in un'edizione poco costosa e in una versione splendidamente illustrata con riproduzione a colore riprodotta in una tecnica utopicamente complicata sedici lastre litografiche sovra imprese sedici Zervas racconta tutte le leggende biografiche di Segantini inserendovi anche l'episodio della casa di correzione prima di poetizzare la morte dell'artista lo stesso artista avrebbe sognato pochi giorni prima della sua morte che invece della vergine mostrata nel suo trittico delle Alpi fosse lui a essere portato morto nella capanna sotto la neve successivamente Zervas canta la bellezza di tale morte che nessun poeta avrebbe potuto inventare più maestosa nove anni dopo Carl Abraham un fedele allievo di Sigmund Freud leggeva ancora il libro di Zervas e non a metà lettura del percorso biografico già fortemente mitizzato Abraham speculava sull'immagine che Segantini dava della donna secondo la lettura del psicologo Segantini inconscemente si era sempre accusato della morte della madre uccisa da una peritonite cioè indirettamente dalle conseguenze della nascita dello stesso artista questa congiuntura aveva prodotto in lui da un lato una voglia inconscia di punire la madre per averlo lasciato solo così precocemente e dall'altro un sentimento di colpevolezza alla fine secondo Abraham Segantini aveva seguito il desiderio di morire rifiutando per molto tempo di chiamare un medico quando stava già morendo sull'altezza dello Schaffberg nel 1921 Sigmund Freud pubblicò un articolo nel quale osava finalmente come diceva di pensare accanto alla pulsione del piacere una pulsione contraria accanto all'eros il thanatos l'essai intitolato Jenseits da Freud solo dopo la catastrofe della prima guerra mondiale bisogna a questo punto inserire nuovamente un tale mito biografico in un doppio ambiente mediale e social discursivo i critici come Cizan non si stancavano di rilevare l'oggettività positivista di Segantini pittore della luce e in questo superiore agli impressionisti francesi a questa strategia di conferire credibilità alla visione segantiniana si aggiungeva secondo quello che abbiamo denominato dialettica del mito l'immagine di un pittore di un'umanità primitiva ancora inserita nei cicli primitivi del divenire e del perire Segantini aveva superata la pittura detta ideista di Jean-François Millet Edward Bonne-Jones e Heinrich Böcklin perché la sua visione era radicata nell'osservazione l'artista però non restituiva solamente la luce alpina con la sua tecnica di visionista ma la sintetizzava in una specie di musica lineare e ornamentale trasformando le cime delle Alpi in una muta orchestra la sua pittura era considerata come una realizzazione del Gesamtkunstwerk wagneriano alla tecnica dimostrativa si contrapponeva un immaginario immersivo influenzato da tutti il pittore Segantini superò e sintetizzò anche tutti i linguaggi visivi europei il carattere della sua opera allo stesso tempo verista e astratto lo rendeva una sintesi perfetta del sistema intermediale delle arti nel periodo tardi naturalista e simbolista l'ambiente social discorsivo di tale mito era dunque il mondo delle esposizioni internazionali o mondiali il tritico delle Alpi venne mostrati all'esposizione mondiale di Parigi del 1900 dalle prime esposizioni mondiali quella tenutasi nel 1852 a Londra fino alla Biennale di Venezia fondata nel 1895 le esposizioni internazionali e la critica attorno ad esse erano impregnate dalla psicologia dei popoli la luce dell'Ile de France era dolcemente razionalista ed ancora più spiccatamente lo era la luce italiana i tedeschi erano contraddistinti da un insieme di carattere e di complicazioni filosofiche gli inglesi dimostravano un spirito pragmatico e sociale mentre gli americani scoprivano una natura vasta e sublime eccetera eccetera la poesia del naturalismo commentava e rafforzava questi stereotipi efficaci fino ad oggi e il simbolismo li illustrava anche tramite un ricorso a miti ossianici poi germanico wagneriani o storico romantici Segantini era al di sopra degli stereotipi stereotipi nazionali ma non al di sopra del sistema l'artista non aveva mai avuto il passaporto di una nazione per gli italiani era uno di loro ma anche gli svizzeri e gli austriaci lo reclamavano per la loro storia culturale poiché la città di Arco dove era nato nel 1858 faceva allora ancora parte dell'impero austro-ungarico i francesi come Robert la Cisaran se lo rappresentavano come un apolide dell'arte per lui era la sintesi perfetta di un Monet e di un Bjorn Jones questo apolide trovava infine la sua patria nell'inconscio europeo per una volta in Segantini un noble savage si era perduto nel mondo di un'Europa nervosa e decadente un uomo che non aspirava ad altro che a tornare a quelli origini puri dove l'uomo si realizza ancora interamente non segnato dall'alienazione da se stesso che è lo stigma del decadente moderno un tale essere doveva sparire nella sua opera nel mito mediale che aveva lui stesso creato grazie allora qui c'è un altro aspetto su cui riflettere intanto questa prima distinzione su cui sarà molto utile per continuare il lavoro di oggi sui media autoriflessivi e i media immersivi che può essere un punto anche di discussione a partire da questo caso esemplare e le modalità della costruzione del mito a partire da specifiche identità nazionali e qui appunto le reti poi dei media concordano moltissimo e una cosa che mi veniva da pensare sarebbe molto interessante uno studio comparato di casi esemplari su come vengono costruiti questi tre casi più o meno nello stesso decennio morte di Van Gogh morte di Segantini e morte di Gauguin che sono tre esempi di ricupero di una sorte di origine ma in tre diversi contesti antropologici e culturali e vedere allora la rete di costruzione mediale che insomma determina queste tre prime figure mitiche del modernismo però questa scusate è una mia deviazione adesso il tempo per un caffè dieci minuti no Giorgio perché siamo un po' penso in ritardo poi abbiamo ancora tre comunicazioni molto interessanti testimonianze scritte e lo Iato diceva appunto fra queste due testimonianze scritte e lo scarno apparato fotografico che documenta i casi italiani solo solo cinque su 64 con le concise ma pregnanti note esplicative di cui parlava appunto della Marisa Dallai il Museo Nazionale archeologico di Napoli utilizza le gallerie dell'Accademia di Venezia le cadre ancien naturel poi veniva Brera quindi come approfittare di una grande sala a decorazione architettonica e come mettere e d'altro canto approfitto gli inquadramenti naturali e poi di nuovo ancora il Museo Nazionale di Napoli per facilitare le ricerche ecco più che reportage autonomo si tratta appunto nel caso italiano di un reportage in totale contrasto con le due testimonianze fuori tema quella da salotto direi della Sarfatti che indistintamente e impressionisticamente criticava le pratiche di restauro troppo invasive praticate sia in molti musei stranieri sia da mercanti sia da privati e lo diceva sulla base dell'esperienza maturata visitando la famosa mostra di arte italiana recentemente aperta a Londra una voce fuori dal coro anche Neitoni Wildenstein nella prefazione citando Henri Fossione aveva detto noi abbiamo voluto fare oeuvre di ingegner e non non di turisti c'è c'è prima di tutto il testo di specialista che ci lo scriviamo al pubblico troviamo invece Margherita Sarfatti che esclama avevi mai stato a Harlem se charmant se charmant tu fleuri tu fleuri tu li prende des pignons e des fleches pointues abbrita dans son hospice de Veillard la plus autonante collezione di Franz Hals che esiste au monde prodromo per una dura condanna poi contro chi aveva eccessivamente pulito queste opere di Franz Hals Pellati dal canto suo archeologo partendo dall'assunto che le collezioni museali cambiano secondo le condizioni del milieu vorrei quasi dire secondo le condizioni del clima artistico e le tradizioni storiche dei differenti paesi del mondo Pellati ripercorreva a grandi linee in maniera prosopografica la storia del collezionismo italiano concludendo con la necessità inevitabile di un rispetto della tradizione italiana anche nelle sue articolazioni regionali e locali il fa rispettare le caratterie historiche delle differenze a porte le particolarità che dans chaque région de la péninsule sono l'héritage des anciennes civilisations considerazione condivisibile ma che riguardava più i materiali che non la loro disposizione e mostrava poi la corda quando alla fine quasi di passaggio proponeva piuttosto fumosamente un accordo fra il principio storico di ordinamento cioè la classificazione quella che definisce la classificazione scientifica e il principio estetico d'altro canto Pellati esprimeva qui probabilmente inconsapevolmente un concetto di museografia in totale disaccordo con gli intenti dell'inchiesta francese per Pellati che così si era espresso già alcuni anni prima la museografia si identificava nella storia delle collezioni tucure laddove il discorso dei vari operatori presenti nel volume che erano francesi olandesi statunitensi tedeschi inglesi eccetera si incentrava secondo i dettami degli organizzatori dell'inchiesta sull'operare pratico sul lavoro organizzativo all'interno del museo sui principi che dovevano informare le operazioni se ne ricava inevitabilmente l'impressione di posizioni non allineate con riflessioni che all'estero erano state sollecitate anche da prese di posizione estreme come la famosa riproposta nel 1920 sulle orme marinettiane dell'equivoco slogan d'autombure l'elufo rilanciato dall'esprit nouveau su questo sfondo che da parte italiana vede uno scarso approfondimento teorico vorrei proporre quindi una casistica per forza di cose di tempo a disposizione parzialissima riguardante la documentazione visiva degli allestimenti museali nelle riviste dei primi decenni del novecento sottolineo museali perché deliberatamente tralascio tranne in un caso particolare di cui fra poco dirò la questione degli allestimenti effimeri degli allestimenti delle mostre il cui intreccio con gli allestimenti stabili richiederebbe un discorso a parte e fra le riviste voglio brevemente esaminare sia quelle di settore più specialistiche sia soprattutto quelle di impostazione più generalista e divulgativa che peraltro meglio si adattano alle questioni trattate in questo convegno per le riviste di settore però si liquidano abbastanza rapidamente perché va subito sottolineato che le riviste di stampo più disciplinare mostrano una sostanziale assenza di documentazione visiva sugli allestimenti nulla nei volumi delle gallerie nazionali italiane la pubblicazione voluta tra il 1893 e il 1902 da Adolfo Venturi proprio per documentare l'opera di rinnovamento di assetto razionale lo chiama delle collezioni quelle collezioni ereditate dice ancora in gran parte senza ordine e luce di storiche ricerche e questo pur ponendosi la rivista anche come palestra di confronto fra le varie esperienze ma prevale evidentemente l'aderenza ai modelli individuati da Venturi per mettere al passo la museologia italiana con quella degli altri paesi europei prevalgono prevalgono come modelli gli annuari di musei pubblici editi da altri governi ricchi di nuovi tributi alla scienza come diceva appunto Venturi ma certamente molto meno attenti ai modi espositivi i famosi per esempio gli artbücher di ambito tedesco della collezione di Vienna per esempio nulla o quasi anche nell'arte e lo stesso discorso vale ugualmente per il più tardo bollettino d'arte dove una certa attenzione per i musei e le gallerie è accompagnata da scarsissime testimonianze e tra le poche direi è significativa la distanza fra le due serie testuale e visiva che emerge per esempio in quest'articolo di Luigi Serra sull'ordinamento della Pinacoteca di Pesaro in cui all'accurata elencazione delle singole opere presenti nelle sale e delle loro attribuzioni fa riscontro persino la sciatta denominazione delle didascalie nelle due sole fotografie di interni che insieme invece ad una ricca documentazione fotografica sulle singole opere accompagnano il testo e tornando un attimo all'arte anche in questa rivista almeno negli anni appunto che ho nei primi anni del secolo come dire l'analisi più accurata per quanto riguarda gli allestimenti interni concerne due le mostre retrospettive in Castel Sant'Angelo era l'unico caso appunto di allestimento effimero di cui parlo oggi in questo articolo appunto vi era una larga documentazione di interni in quanto si voleva sottolineare appunto il carattere di il nesso esistente appunto fra le opere e i luoghi si dice si è fatta opera importante di evocazione storica di restituzione artistica e si è cercato di dare a queste mostre quasi il carattere di introduzione alla grande esposizione di Torino dedicata alle vittorie dell'industria d'oggi e all'arredo dell'ambiente moderno l'antico mausoleo d'Adriano che nella sua rude bellezza mostra le tracce dei vari uffici a cui dalle successive civiltà fu adibito è stato sapientemente utilizzato in ogni suo angolo mentre se ne è rispettata la fisionomia e così per esempio le due sale qui illustrate nelle due fotografie vengono appunto attentamente descritte e lodate e del resto soprattutto una storia di allestimenti d'epoca di ricostruzione di contesti storici quella che restituiscono anche le riviste dedicate alle arti applicate come arte decorativa in arte italiana decorativa e industriale la rivista di Camillo Boito pubblicata dal 1890 al 1911 mi scuso per le orribili riproduzioni ma sono tratte come vedete da quel sito Biasa che certamente voglio dire si usa ma è una disperazione ecco anche come funzionamento sono riuscita a trovare una a fare una d'altro canto poi dall'illustrazione italiana vedete le fotografie mie che forse sono ancora peggio quindi ecco qui appunto ovviamente è un articolo che celebra il nuovo assetto del museo Paul di Pezzoli un articolo firmato da Misuvulgo pseudonimo appunto del critico musicale Aldo Noseda che però fu anche amatore d'arte in contatto con Berenson e implicato appunto anche nella gestione del museo nel 1898 era entrato infatti a far parte della commissione direttiva di questo museo chiamato da Camillo Boito che da due anni ne era diventato il direttore e l'articolo è una sorta di comunicato stampa appunto dell'apparato di gestione del museo e mette in evidenza appunto il lavoro di ordinamento che nella convinzione si scrive che la necessità era quella di conservare e mantenere in pieno assetto nell'ambiente sontuoso che li accoglie i tesori d'arte affidati alla tutela di farli valere con una saggia e ordinata distribuzione di metterli alla portata del maggior numero di visitatori possibili un riordinamento che certamente aveva mutato in maniera abbastanza consistente l'allestimento iniziale si era deciso di mantenere il contesto decorativo ma nello stesso tempo appunto veniva lodato il tentativo di classificazione stilistica delle opere e a parte il poll di pezzoli in cui così pressanti erano gli interessi promozionali da parte appunto della redazione della rivista sono comunque questi gli allestimenti cui è attribuita maggiore attenzione vi faccio vedere rapidamente appunto l'illustrazione di un articolo che non riguarda proprio un museo cioè riguarda quella che era ancora una collezione privata le raccolte di arte industriale del palazzo Bagatti Valsecchi ma mi servivano appunto per dare un'idea del tipo di illustrazione che al massimo troviamo in questa rivista arte italiana decorativa industriale dove peraltro un altro esempio può essere fornito da questo ampio articolo del pittore Pietro Chiesa sul museo nazionale di Zurigo dove veniva ugualmente sottolineata l'importanza della creazione di ambienti creazione di ambienti architettonici e anche creazione di insiemi con la giusta preoccupazione si dice nell'articolo di raggiungere il colore locale infatti ben più chiaramente ci possiamo formare un concetto dell'arte di un paese e del valore delle singole opere se i molteplici oggetti anziché essere aggruppati nelle sale secondo il solito ordine di epoca di materia e di scuola vengono restituiti al loro primitivo ufficio nell'ambiente caratteristico per il quale l'artefice li ha creati nell'insieme ecco dalla pubblicistica più o meno specializzata più o meno di settore emerge un panorama piuttosto scarno sia per quanto riguarda la documentazione fotografica sia per quanto riguarda anche le riflessioni scritte mentre all'estero come è noto si registrano proprio in questi anni delle iniziative importanti come il Museum Journal che nasce nel 1902 e ancora di più come il Museum Skunde che viene fondato in Germania nel 1905 e anch'esso una copertura internazionale e presenta un'ampia documentazione più mosso invece il panorama che emerge dalla stampa di carattere divulgativo in primis dall'illustrazione italiana da Emporium e in parte successivamente da Dedalo innanzitutto dobbiamo registrare una maggiore presenza di documentazione figurativa sugli allestimenti che trova una sua motivazione chiaramente nella cronaca questo appunto è un caso dall'illustrazione italiana e riguarda l'inaugurazione riguarda un evento l'inaugurazione dei musei del Castello Sforzesco e questa inaugurazione dava occasione per illustrare appunto una serie di interni detto per inciso parallelamente ne dava immediata notizia anche l'arte nel 1901 ma illustrando in un articolo di Emil Jakobsen esclusivamente le opere e non gli interni l'autore appunto Carotti Giulio Carotti accompagnava la narrazione visiva con il suo commento dice tentiamo una rapida visita nei due nuovi musei inaugurati il 10 di questo mese e lungo il nostro giro osserviamo pure le sale i porticati i cortili che da soli interessano già quanto un museo d'arte quindi venivano illustrate le sale venivano illustrati anche degli scorci diceva Carotti a questo proposito la grande immensa sala degli scaglioni rossi ci aspetta con i capolavori del Bambai e del Fusina ecco la figura giacente di Gastone De Foix la perla di questo museo oltre alla statua stupenda di Gastone qui si conservano alcune statuette ed un fregio ornamentale in ampie vetrine sono aggiunti calchi di molte delle statuette dei bassorilievi dispersi nella seconda parte della sale in mezzo a un miscuglio di sculture di date più tardi una testa di ebronzo vi attrae e vi commuove e la magnifica testa di Michelangelo eccetera eccetera ecco quello che volevo sottolineare è come l'apparato figurativo l'apparato fotografico che accompagna questo e anche altri articoli dell'illustrazione italiana possa appunto configurarsi come un racconto spesso il racconto di un evento in cui naturalmente in questo racconto appunto gli interni si abbinano anche con chi questi interni per esempio ha creato come appunto qui la raffigurazione all'interno dello stesso articolo Luca Beltrami e si abbina anche ovviamente all'evento l'articolo si apre proprio quasi come una specie di entrata appunto trionfale con i notabili con le autorità che entrano nel castello sforzesco per l'inaugurazione è un tipo di appunto di come dire di racconto che poi ritroviamo anche nel 1903 a proposito della della riapertura del con il nuovo ordinamento della pinacoteca di Brera dove vediamo anche che la narrazione necessita evidentemente di una tastiera più ampia della documentazione fotografica c'è quasi la necessità di una manipolazione direi probabilmente le matrici le fonti sono sicuramente fotografiche ma sono appunto riviste sotto la penna degli illustratori Riccardo Salvadori e Gennaro Amato naturalmente appunto però è un racconto che ingloba anche la documentazione fotografica la documentazione fotografica più rigorosa delle varie sale così come anche la celebrazione dei vari come dire dei personaggi che sono stati tra i più importanti per appunto per nella storia della della galleria di Brera con ultimo naturalmente il Corrado Ricci a cui si doveva appunto il recente ordinamento e che nella nella appunto nella sua nell'articolo che era quello di un di Comandini di Alfredo Comandini un giornalista veniva appunto esaltata dice riguardo all'ordinamento precedente dice ma questo l'ordinamento del Bertini era l'ordinamento convenzionale come allora generalmente sentivasi non era l'ordinamento razionale storico il quale il Ricci ha voluto e felicemente attuato onde la Pinacoteca Nazionale di Milano può dirsi oggi una delle più belle delle meglio ordinate d'Italia la pianta topografica che qui ne diamo mostra all'evidenza quanti nuovi locali sono stati aggiunti a questa Pinacoteca nella quale non sono più necessari andirivieni per ritrovare le opere d'arte di una scuola e dove il delizioso viaggio artistico si compie razionalmente seguendo cronologicamente i secoli dell'arte italiana e osservando svolgersi logica inevitabile l'influenza dei tempi e degli artisti gli uni sugli altri e persino l'andamento topografico a tutto gli orici ha provveduto a tutto ha pensato da uomo moderno e vivente nella realtà positiva conscio dei bisogni e diciamolo pure delle condizioni di cultura del pubblico in generale oltre che dei desideri e dei bisogni degli studiosi e infine il terzo caso è quello di Napoli del Museo Nazionale di Napoli l'autore dell'articolo è Luigi Conforti poeta e segretario del museo stesso che appunto annuncia l'inaugurazione del museo con il nuovo ordinamento compiuto da Ettore Paes in questo caso appunto vediamo ugualmente quasi citando anche una fotografia che vedremo subito dopo vediamo appunto una copertina diciamo un'introduzione appunto di questo genere seguita poi da due pagine con un montaggio quasi a mosaico di allestimenti di vari appunto di vari interni con arricchito diciamo così da degli inserti ornamentali ecco meno raccontati se si può dire così appaiono gli stessi gli stessi come dire gli stessi eventi nel in Emporium appunto qui vediamo due immagini riguardanti il museo Pol di Pezzoli e di nuovo appunto l'articolo due immagini tratte dall'articolo di Malaguzzi Valeri sempre sulla riapertura di Brera ecco la predilezione per il racconto direi appunto caratterizza contraddistingue il soprattutto l'illustrazione italiana una predilezione per il racconto che si vede anche nel caso di nuovi allestimenti come quello che riguarda nel 1908 il gruppo dell'Ercole Lica di Canova che era stato trasportato alcuni anni prima da Palazzo Torlonia a Palazzo Corsini ma che come appunto dice l'autore dell'articolo era rimasto tutto avvolto in un candido velario attendendo le sue sorti in un andito a pian terreno di Palazzo Corsini fino a quell'anno ne uscì finalmente 16 anni poi per salire al secondo piano sollevato su come un fuscello di paglia per virtù di un vecchio artiere romano il taburè e al secondo piano accanto alla galleria dei quadri trovò una degna di mora nell'edicola che per la costanza di Federico Ermanin direttore della galleria di arte antica e per l'energia del senatore Monteverde apostolo fervente della glorificazione canoviana gli era stata elevata a similianza di quella già esistente nel palazzo Torlonia da un giovane architetto che è anche un apprezzato scrittore di storia artistica il professor Gustavo Giovannoni elevata superando felicemente la maggior difficoltà che era di innestare la nuova alla vecchia costruzione è chiaro che appunto in una rivista come in un periodico come l'illustrazione italiana si privilegiano gli eventi le aperture i riordinamenti e anche il caso del museo Stibbert dove appunto le immagini riguardano il parco il parco che circonda il museo ed è arricchito da molte statue e da frammenti di costruzioni antiche disposte con gusto e da notarsi scriveva Alemanni un tempietto egiziano costruito sulla riva di un poetico laghetto e naturalmente appunto la cavalcata con le armature che troviamo è uno dei come dire degli interni più gettonati nelle riviste del periodo tuttavia ecco direi che oltre che questa maggiore attenzione agli interni che deriva appunto anche da questa necessità anche di creare una sorta di narrativa per immagini sia Emporium sia l'illustrazione italiana mostrano anche un'apertura di stampo più internazionale per esempio già alla fine dell'Ottocento troviamo su Emporium troviamo documentato seppur nelle sue parti più monumentali lo scalone e la cupola il museo imperiale artistico di Vienna però va detto anche che nell'articolo si parla si accenna a soluzioni museografiche notando appunto le pareti che le pareti della Pinacoteca per esempio sono state tinte di un verde scuro uniforme con basamenti zoccoli stipiti di marmo nero oppure troviamo appunto anche casi più curiosi come il museo nazionale polacco che si trovava a Rappersville in villaggio svizzero oppure esempi più accreditati come appunto il museo di Pergamo come recitè il titolo a Berlino o ma qui si tratta appunto di un esterno la notizia del museo del Friedrichs Museum di Berlino spesso va anche detto che questa apertura internazionale risponde a necessità o a fattori nazionali è il caso per esempio della presentazione del Metropolitan Museum che viene che è occasionata dalla morte del conte Palma di Cesnola che del museo era stato direttore e questa presentazione appunto dell'esterno e di alcuni interni di alcune sale del Metropolitan Museum di New York dava naturalmente il destro per sottolineare la quantità di fondi di cui il museo disponeva il numero delle sale 72 locali tre gallerie grandiose aule contiene anche una biblioteca speciale diceva d'arte antica e moderna a gabinetti e laboratori per fotografia restauri lavorazioni in plastica è aperto ogni giorno al pubblico e a lunedì e venerdì anche di sera illuminato da 10.000 lampade elettriche dice noi ci meravigliamo ogni volta che si viene a sapere che un oggetto d'arte è emigrato dall'Italia in America come le statue di scavo che ornavano a Roma lato del palazzo Giustiniani ed ora ornano quello del Metropolitan Museum ma la meraviglia cessa quando si riflette che solo in un anno nel 1903 il museo americano ha potuto spendere in acquisti 1.125.000 delle nostre lire cifra che nel nostro paese il ministero per l'istruzione non arriva a spendere in 10 anni e il ancora prima su Emporium anche Antonio Ghisleri forte di un suo viaggio negli Stati Uniti e sull'onda anche della pubblicazione va detto di Luigi Roversi proprio sul Metropolitan New York di Museum e sull'opera del sul Metropolitan Museum e sull'opera appunto del suo direttore Antonio Ghisleri appunto aveva pubblicato un variopinto articolo intitolato l'Isola di Cipro e il Museo Metropolitano di Nuova York che iniziava con una lunga che un lungo cenno storico sull'Isola continuava con una biografia di Luigi Palma di Cesnola infine sulla sua scoperta che era poi finita appunto sulle sue scoperte finite poi al Metropolitan ecco un'altra particolarità delle riviste divulgative rispetto a quelle di settore però questo è più naturale è l'attenzione per una gamma ovviamente molto più ampia di esperienze museali vi faccio vedere molto rapidamente questo era ancora il Metropolitan ecco faccio vedere molto rapidamente una serie di immagini appunto su cui non voglio soffermarmi anche per non per non togliere troppo tempo agli altri relatori il museo per esempio delle passioni umane che è il museo di antropologia di Firenze il museo dell'ingegneria militare di Castel Sant'Angelo siamo nel 1911 o ancora il museo tetrale della Scala ancora da Emporium nel 1913 sono dei casi come dire all'interno di una casistica molto degli esempi all'interno di una casistica molto più ampia che mostrano appunto una disponibilità che nel decennio post bellico viene sempre più focalizzandosi su attitudini belliche e celebrative che sembrano soppiantare almeno a livello di pubblicistica anche le riaperture dei musei e i parziali riallestimenti del primo dopoguerra e di nuovo troviamo per esempio il museo del genio militare a Castel Sant'Angelo dove viene anche riproposta la stessa documentazione fotografica l'inaugurazione del museo coloniale a Roma nel 1923 i musei Benito Mussolini in Campidoglio siamo nel 1926 e infine il museo navale di Milano dove di nuovo appunto troviamo il solito schema appunto delle autorità che entrano e degli interni museali con l'esaltazione appunto anche della natura bellicosa insomma di questo museo dalla sciabola da bordaggio che ti ricorda il vecchio corsaro al siluro ecco in questo quadro riprendendo il filo del discorso da dove si era iniziato cioè riandando all'inchiesta del 1903 direi che la pur scarna presenza visiva italiana andrà allora letta come implicito riconoscimento all'attività concreta di quei funzionari o di quegli studiosi come a suo tempo Corrado Ricci e Pais per Brera e Napoli o più recente Gino Fogolari e mi riferisco all'allestimento appunto dell'allestimento veneziano alla cappella che avete visto all'inizio quella del 1923 dicevo come riconoscimento appunto l'attività concreta di quei funzionari che si erano occupati con accortezza e con spirito aggiornamento e con uno spirito appunto aggiornato di musei mettendo a frutto una pratica che aveva probabilmente radici ancora venturiane e che certamente era misconosciuta dall'ufficialità quindi sul terreno pratico non certo sulla riflessione appunto si può misurare probabilmente e quindi sulla documentazione fotografica e non sulle prese di posizione teoriche si può forse misurare appunto il livello della museografia italiana in questi primi anni del secolo grazie 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 a Donata Levi perché ci ha fatto vedere una cosa anche interessante come questa messa di notizie sugli allestimenti li possiamo ricavare più da riviste di grande divulgazione che da periodici specializzati ancora focalizzati sulla riproduzione del capolavoro e anche un ragionamento riguardo alle modalità con cui la fotografia deve cogliere gli ambienti c'è questa assoluta prevalenza di tagli in diagonale che ci danno una possibile lettura estensiva di repertorio enciclopedico cioè anche la nozione del museo proprio come un deposito dove più c'è meglio è sembra di leggere e per contro invece Brera la sistemazione logica razionale ineluttabile quasi e lì le riprese fotografiche sono soprattutto frontali cioè ci sono degli elementi interessanti su cui riflettere grazie donata e adesso Alessandro del Puppo Università di Udine professore di storia dell'arte contemporanea dai molteplici interessi dagli studi sulla cerba a quelli sempre vertenti sulla situazione italiana del primo novecento arte politica dal futurismo al ventennio e che oggi ci parla di alcuni casi esemplari parole senza immagini immagini senza parole casi novecenteschi e vediamo dove vai a imparare grazie io provo ho deciso di provare a riargomentare alcuni temi di ricerca che mi è capitato di svolgere in passato e così provare anche a ricucirli insieme inizio con gli esempi di un testo e di un e di un'immagine che non sono quelli che vedete ma quelli che forse arriveranno devo pigiare qualcosa ci sono sempre ci sono sempre noi però ok allora comincio dall'immagine di destra Umberto Boccioni fondamento plastico della pittura della scultura e pittura futurista è il numero del 15 marzo 1913 di la cerba in questo testo troviamo dei costrutti lessicali che sono letteralmente intraducibili in immagine leggiamo soltanto l'incipit non lo vedete ma ve lo leggo io il nostro idealismo costruttivo toglie le sue leggi dalle nuove certezze dateci dalla scienza esso vive di puri elementi plastici ed è illuminato dall'intuizione di una ultra sensibilità sorta con le nuovissime condizioni di vita createci dalle scoperte scientifiche allora qui siamo dinanzi a una prosa autosufficiente che non ha bisogno dell'appoggio su un'immagine e di fatti quest'articolo ne è del tutto privo perché il testo è pensato letteralmente al di fuori di esse e questo per una ragione molto semplice molto spesso il discorso critico si svolge in parallelo indipendentemente dalle opere o meglio ancora nonostante esse e questa è senza altro la prima causa dell'oscurità di molti passi mentre è evidente che quando Boccioni sempre sulla cerba scrive una cosa chiara è perché ha in mente che lo dico oppure no che lo faccia vedere oppure no un'opera ben precisa nello stesso articolo quello di sinistra quando Boccioni scrive cito le distanze tra un oggetto e l'altro non sono degli spazi vuoti ma delle continuità di materia di diverse intensità è abbastanza chiaro che sta alludendo alle sue sculture che però nessuno ha ancora potuto vedere più in generale come sa chiunque abbia studiato un po' il futurismo è un'ingenuità è anche un errore provare a rintracciare nei testi necessariamente le connessioni con i quadri o le sculture cioè l'elaborazione teorica prescinde molto spesso dalla esemplificazione visiva è una forma di ragionamento autonomo senza il quale letteralmente non si dà avanguardia in quanto tale qui in questo primo esempio Boccioni assomma le due funzioni di scrittore e di scrivente la distinzione naturalmente non è mia è di Roland Barthes scrivente inteso come colui che ragiona sul contenuto che tiene a mente il senso per il quale la scrittura è un mezzo e il cui fine è l'utile trasmettere lo scrittore è colui che invece si concentra sulla forma scritta tiene in mente il suono che la scrittura in sé ha un fine e in qualche modo anche una risultanza estetica insomma Boccioni qui ambisce a presentarsi da un lato come chierico del pensiero puro e dall'altro anche come sacerdote del bello scrivere o perlomeno dello scrivere moderno come Marinetti cercava di spiegare a tutti loro però tutto questo lui cerca di farlo o forse più opportuno dire che era obbligato a farlo senza l'ausilio dell'immagine o potendo contare su un uso del tutto ancillare di esse a destra troviamo invece la prima illustrazione che compare sulla cerba siamo il primo febbraio 1913 l'autrice si chiamava Anna Gerebdova aveva consegnato un testo il testo si intitola La convenzione nell'arte ma la silografia che vediamo come dire con un spiccato candore arcaico si trova molto più avanti nella rivista ed è contornata dal famigerato articolo di Italo Tavolato intitolato Elogio della prostituzione l'articolo che poi porterà i redattori di La Cerba a processo per l'oltraggio al pudore allora è chiaro che questo cortocircuito fra testo e immagine è talmente palese da non poter che essere voluto La Cerba è stata una rivista cruciale per il dibattito artistico di una intera generazione e che anzi ha cambiato il modo stesso di discutere l'arte del Novecento perlomeno in Italia ma lo ha fatto praticamente in assenza di immagini oppure usando in questo modo le immagini all'inizio come si vede si intravede in alto a sinistra soltanto il nome dell'autore o dell'autrice poi dietro la pressante richiesta di Boccioni e Carrà compare anche il titolo lo vediamo sottoposto alla tavola di Boccioni ma sempre con l'effetto che è piuttosto straniante di parole di un autore Carrà in questo caso e di immagini di un altro Boccioni io quando tanti anni fa studiavo queste cose ero convinto che questo fosse un limite ma poi mi sono convinto che è un grande vantaggio e questo vale anche per un caso eccezionalmente ben noto come questo dimostrazione interventista o per meglio dire festa patriottica di Carlo Carrà siamo sempre sulla cerba il primo agosto 1914 questo ovviamente un'opera di sterminata fortuna visiva la cui bellezza di sintesi grafica ne ha fatto una delle immagini cardine del primo futurismo ce l'aspetteremo in una posizione di rilievo diciamo in prima pagina in realtà compare sulla cerba in una posizione del tutto defilata corredata da testi incongrui in questo caso il componimento di Camillo Sbarbaro mi dispiace davvero di non aver potuto sentire ieri l'intervento di Perli qui è in gioco un altro piano secondo me l'autosufficienza dell'immagine proposta come esemplare di un mutamento stilistico e anche operativo che è già stato annunciato perché il testo che spiega per certi aspetti questo collage e quindi anche il relativo nuovo intilizzo nel lavoro di Carrà era stato pubblicato da Carrà stesso due mesi prima con il titolo di vita moderna e arte popolare insomma fra immagine e testo è avvertibile un decalage un segno di una mancata sincronia fra testo e immagine e dopo tanti anni che vedo queste pagine davvero non saprei dirvi se questo è un effetto voluto oppure subito cioè così come era confezionata più per necessità che per scelta editoriale la rivista portò alla discussione di pittori su un piano molto distante dalla critica o dalla prosa d'arte tradizionale più o meno estetizzante che riposava ancora nell'Italia di quegli anni su modelli danunziani su ecfrasi scompiaciute sul modello dell'artifex additus artifici ha cioè creato una vera critica d'arte come organismo autonomo e dunque in grado di sviluppare ragionamenti e polemiche con un ampio grado di astrazione in un certo senso una concettualizzazione del ragionamento artistico grazie al quale si era imparato a rovesciare un limite e cioè la mancanza la difficoltà il costo di illustrazioni in quei giornali in una opportunità questo è un modello molto forte ed è un modello che resiste nonostante tutti i ritorni le reazioni post belli che lo si ritrova in molte riviste degli anni venti e ne cito una che mi è cara e anche questa per vecchie ragioni di studio selvaggio noto a un passant che l'impianto tipografico e credo anche proprio le macchine quelle a Firenze e le stesse di la Cerb anche qui troviamo immagini senza didascalie o quasi e un uso a sé disinvolto delle mille risorse del peritesto il bibliographic code di cui si parlava stamani titoli finalini didascalie e i modi stessi dell'impaginazione concorrono a imprimere un indirizzo pressoché univoco alla lettura delle tavole dei vari rosai spadini soffice e così via cioè un analogo visivo dei perentori slogan mussoliniani che erano rilanciati un po' ovunque nelle colonne del testo e questo vale soprattutto per quegli autori che come Giorgio Morandi pur trovandosi piuttosto distanti dai roboanti proclami di regime si trovano in un certo senso a loro insaputa pienamente organici a un disegno di ruvida egemonia paesana qui lo vediamo Morandi in due pagine del 1927 nel momento in cui lui stesso viene adottato per così dire dalla redazione del selvaggio come interprete più significativo di una linea strapaisana l'operazione però rileva dei tratti piuttosto ambigui e non di rado tra loro in conflitto prendiamo due pagine del 1928 la prima a destra accosta una scusa a sinistra accosta una magnifica a quei forti di Morandi che tutti quanti noi oggi amiriamo per la perizia dei trapassi tonali per la sofisticata modulazione sesanniana a basso rilievo dei piani e a fianco sulla colonina di sinistra una sorta di recensione alla biennale di quell'anno dove lo stesso Morandi aveva debuttato proprio come presentando una cartella di grafiche una recensione che in realtà è un meraviglioso devo dire passo dello vibaldone un passo zeppo di richiame l'austerità alla semplicità alla chiarezza del mestiere pittorico ed è una pagina che si presenta come un da un lato come un commento traslato alla biennale del 28 ma anche come il migliore referto critico sul Morandi di quegli anni mentre la pagina di destra agosto 1928 è la prima copertina del selvaggio a impaginare una tavola a piena larghezza di pagina lo fa ancora una volta con Morandi con una monumentale natura morta non meno sesaniana dell'altra incisione ma questa volta presentata proprio come i tempi di Lacerba nella sua esemplarità ormai assoluta paga della sua autosufficienza e della sua ormai conquistata evidenza non solo stilistica ma anche soprattutto ideologica ed è proprio questo il tema che ritroviamo nel secondo dopoguerra e consentitemi per questo un balzo in avanti di 30 anni esatti per giungere a il contemporaneo di cui qui vediamo la mirabile copertina del primo numero della periodicità mensile 1958 la rivista aveva cominciato qualche anno prima come settimanale ora dieci anni prima la discussione e la polemica annosa tra realismo e astrattismo si era svolta praticamente senza immagini si citava cioè a memoria Guernica o qualche quadro di Guttuso di Picasso però prevaleva il testo l'argomentazione la gerarchia degli interventi e naturalmente anche l'autorevolezza il peso politico degli interpreti sappiamo tutti che bastarono dieci righe forse meno firmate da Parmilo Togliatti e nemmeno suo nome con il suo pseudonimo per orientare nel bene o nel male il dibattito su astrazione e realismo per quasi un decennio più che un discorso tra sordi direi che quella fu una polemica letteralmente tra non vedenti dove però la posta in gioco erano le immagini naturalmente o per meglio dire il loro statuto di testimonianza il loro valore nel presente come fatto concreto tangibile cioè non dunque il loro aspetto formalistico né un ragionamento su quelle che oggi chiamiamo le poetiche bensì il segno palpitante che rinviava non solo un'esperienza concreta ma anche un pubblico di riferimento certo anche comprensivo di un ideale pedagogico a un programma culturale e infine anche alla considerazione rispettosa del lavoro intellettuale a me pare che questo primato della parola scritta sugli esempi visivi sia essenzialmente valido appunto per questi primi anni del secondo dopoguerra per quelli che Cardini in un libro di qualche anno fa ha definito gli anni di ferro e che Franco Fortini in un libro memorabile aveva definito come i dieci inverni della sinistra italiana poi quello che accade di cui questo credo possa essere testimonianza è una nuova stagione di polifonia fra immagini e testo le pagine del contemporaneo presentano un vastissimo repertorio quasi sempre in stretta relazione con il testo generando una naturale complementarità fra illustrazione e articolo qui ad esempio Guttuso schizza a penna un profilo del grande poeta turco naturalizzato polacco una storia molto complessa e interessante Nazim Ihmeth a fianco di una sua composizione allora è degno di menzionare innanzitutto la ricchezza e la variabilità degli apparati visivi messi in pagina dal contemporaneo di volta in volta e mi tengo soltanto a questo primo numero troviamo ad esempio fotogrammi di pellicole cinematografiche oppure confronti vis a vis io direi di non soffermarci in questo caso sulla specifica qualità dei dipinti ma insomma confronti tra dipinti oppure infine riproduzioni di quadri e di sculture che scorrono in parallelo con i testi a essi dedicati in questo caso lo scultore Augusto Perez ora il modello dichiarato anche se graficamente meno eclatante è naturalmente il Politecnico di Vittorini qui però l'allestimento a quaderno in piccolo formato diminuisce di molto la dialettica tra immagine e testo sopperito però da una grande varietà di apporti visivi ora tutto questo accadeva non soltanto perché il partito comunista di cui questa rivista in un certo senso era un organo semi ufficiale poteva permettersi migliori grafici da Albe Steiner in avanti che è colui che ha disegnato il layout di questa rivista ma anche perché l'ufficio di propaganda e cultura del partito comunista in quegli anni poteva permettersi mezzi e risorse finanziarie di gran lunga maggiori rispetto a qualunque altro partito europeo è stato calcolato che avesse a disposizione grosso modo tre volte più degli altri partiti italiani messi insieme questo conta certo a volte l'incontro tra i quinterni delle taure fuori testo generava degli effetti piuttosto ironici come vediamo dal dibattito su Jackson Pollock introdotto per così dire da una miniatura di Cristoforo De Predis che arrivava dritta dritta dalla mostra dell'arte lombarda dai visconti agli sforza ora è chiaro che dinanzi a certe pagine come queste io mi sentirei anche in obbligo di aprire una riflessione sul modo in cui la sinistra italiana preparava e istruiva i propri quadri dirigenti 50 anni fa e su come lo fa oggi seppure lo fa ora conta piuttosto però io credo in conclusione rendere conto della accuratissima e non meno tendenziosa selezione dei cliché ad esempio proprio nel dibattito su Pollock e misurare queste scelte con i testi prendo allora queste due pagine per concludere la prima pagina 128 a sinistra affronta in alto una scena rurale di Thomas Hart Benton il maestro di Pollock e un dipinto riferito al 37 non credo che sia quello l'anno insomma di Pollock stesso allora da storici dell'arte tradizionali insomma possiamo schedare queste immagini collocarle entro un episodio di fortuna visiva e ad esempio possiamo intendere questo tutt'altro che innocente confronto come un tentativo di accreditare una derivazione realistica dell'opera di Pollock cioè un criterio eminentemente non modernista o di un altro modernismo per così dire però la complessione di questa possibilità la si trova in pieno nella pagina a fianco quella colonna di testo che vedete è una lunga digressione di Dario Micacchi lui era un critico dell'unità un togliattiano e un trombadoriano di stretta osservanza della più bell'acqua il quale si inerpica in una tortuosissima interpretazione di Pollock su cui lui stesso ammette di avere le idee un po' incerte e passa in poche righe dalla terra desolata di Iliot a tempi moderni di Chaplin ora un simile spericolato intreccio è possibile soltanto ad un intellettuale europeo anzi ad un tipo del tutto particolare di intellettuale europeo ed è qui e soltanto qui io credo che secondo me si gioca una vera effettiva possibilità di comprensione in sé l'apporto dell'immagine a sinistra è pressoché nullo direi meramente decorativo l'interesse quanto meno il mio interesse sta in tutto il testo nella somma dei due è quello è soltanto quello che ci aiuta a capire qualcosa delle immagini senza quel testo le immagini sono un puro ornamento e le domande che possiamo rivolgere sono in un certo senso altrettanto banali delle risposte che senza troppe difficoltà riusciamo sempre ad ottenere grazie allora grazie Alessandro considerazioni sulla materialità di questi prodotti che stiamo considerando e discresio consonanze fra testi e immagini e volevo integrare una mia una cosa riguardo alla scerba cioè l'illustrazione della Gerebzova nell'articolo elogio della prostituzione è il caso della manifestazione interventista di Carrà guardando un po' nel retroscena delle politiche editoriali nelle corrispondenze allora è evidente dalla corrispondenza nell'archivio soffici che con la Gerebzova c'era una liaison molto controversa all'epoca e quindi averla inserita nell'articolo dell'elogio della prostituzione può essere stato parte della schermaglia fra i due in atto all'epoca e ci sono anche queste ragioni perché no e mentre invece no c'è tutta la schermaglia della corrispondenza Carrà soffici all'inizio dell'estate 1914 quando Carrà continua a premere su soffici ma perché non pubblichi la manifestazione è così e c'è il problema grosso di giocare i tempi in sequenza in precedenza con l'elettro oceano di Apollinaire che esce invece sulle sue rete Paris e c'è proprio delle strategie di fronti che si vengono a costituire anticipando o ritardando la pubblicazione di alcune cose quindi questo può essere sempre anche tenuto presente e un'altra cosa che ieri non sei potuto esserci ma quando l'unità di Genova ha parlato proprio di questa pubblicazione di Cardarelli illustrata dalle incisioni di Morandi il sole a picco 1928 ecco che viene in atto questa rete di cui parlava Evangelia perché naturalmente c'è una fortissima consonanza fra la lettura che è stata data di questa raccolta di Cardarelli 28 e il Morandi e la costruzione del selvaggio col testo del Zibaldone accanto alla riproduzione quindi ci dicono di una sincronia di letture e di coincidenze quindi gli approcci sono veramente tanti in questi studi grazie Alessandro adesso la parola è Flavio Fergonzi professore anche egli di storia dell'arte contemporanea all'università all'università di Udine e autore di numerosi studi soprattutto su scultura e pittura del primo novecento italiano poi con la schedatura della collezione dei quadri futuristi Mattioli e attualmente impegnato anche su ricerche che volgono sugli anni sessanta e Flavio invece ci parlerà di artisti e uso visivo dei periodici anche qui facendo dei casi emblematici dunque è l'una la mensa chiude che ora alle due no perché poi c'è Paola ed è forse la parte più la facciamo dialogo sulle fonti su come sono portate lo possiamo fare in conclusione oggi pomeriggio perché altrimenti questa è stata una mattina estremamente densa con sei contributi tutti di rilievo proprio come questioni metodologiche buttate lì quindi allora quando ho preso servizio all'Accademia di Brera nel 1993 come assistente alla Cattedra di Storia dell'Arte cioè il livello proprio più basso nelle gerarchie possibili di un'Accademia di Belle Art in Italia forse c'erano i modelli che si spogliavano e i bidelli ma appena dopo c'era l'assistente alla Cattedra di Storia dell'Arte sono rimasto subito colpito dal modo in cui usavano la ricca biblioteca dell'Istituto i giovani iscritti ai corsi di pittura e di scultura la maggioranza di loro entrava in biblioteca oltre che per preparare gli odiati esami di Storia dell'Arte quasi esclusivamente per sfogliare gli ultimi numeri delle riviste cui l'Accademia era abbonata i fascicoli di Flash Art International o di Art Forum erano rapidamente consumati letteralmente consumati a dispetto della scarsa pratica con le lingue straniere della maggior parte degli studenti e le pagine commerciali quelle che aprivano e chiudevano la rivista vera e propria con la pubblicità delle gallerie e gli annunci delle mostre in corso erano il centro dell'attenzione la frequentazione di questo genere di letteratura periodica era evidentemente uno strumento di aggiornamento e forse più ancora di orientamento in un campo dalle variabili impazzite senza un decifrabile filo conduttore quale doveva sembrare l'arte della fine degli ottante e dell'inizio dei novanta a chi si accingeva a guadagnarsi la vita come artista o che sperava di farlo oggi 2010 2015 ripiano degli ultimi fascicoli delle riviste non è neppure più guardato di sfuggita dai ragazzi che si fiondano sui terminali trovando nel web a una velocità spropositata quell'aggiornamento che solo due decenni e mezzo fa richiedeva almeno la mediazione di uno strumento cartaceo e il gesto fisico per me importantissimo di voltare le pagine che dà un timing alla proizione alla percezione che il come dire la sostituzione della pagina nel computer insomma nella pagina web non dà quando salivo nel ballatoio della biblioteca dove erano conservate le riviste ottocentesche e primo novecentesche che da tre quarti di secolo nessuno guardava più con un dito di polvere sopra mi chiedevo se avessero assolto la stessa funzione per quella che vedevo ai ragazzi insomma per la generazione di Previati o per quella di Boccioni o per quella di Fontana che a vario titolo erano passati nelle stesse sale Camillo Boito segretario e poi presidente dell'Accademia di Brera dal 1872 fino al 1910 aveva abbonato Brera a una quantità impressionante di pubblicazioni periodiche solo lì ho trovato in biblioteche pubbliche italiane la sontuosa viennese di Grafischen Kunst la londinese The Portfolio la monacense Kunst Unserer Zeit o la belga L'Art Moderne per non fare che qualche nome di quel momento aureo in cui la modernità si ammantava di una raffinata cornice tipografica i giovani di allora le consultavano con molta attenzione con molta ansiduità c'è una lettera 1894 di Giuseppe Pellizza a Morbelli in cui Pellizza scriveva che l'unico motivo per mettere piede all'Accademia di Brera era per le riviste straniere che venivano comprate non certo per i docenti pigri attardati né per gli iscritti giovani iscritti opachi e noiosi capita così di trovare ancora oggi carte veline destinate a proteggere le pregiate quadricromie strappate e usate come lucidi per ricopiare un quadro di composizione qualche pagina più in là interi articoli sfilati la cui assenza era segnalata dal bibliotecario in emporium ahimè nella benemerita rassegna artisti contemporanei furono sottratti Trubetzkoi e Ettore Tito e non che so Rodeno i grafici d'eccezione come Munco Ropes o Dancer o qualche volta immagini brutalmente ritagliate in una storia della fortuna di Manet in Italia mi era sfuggito il caso del ritratto di Eva González pubblicato sul Kunstführer nel 1906 che qualcuno non ha capito che fosse Manet cioè che funzionava come sistema di di somma di nature morte aveva trovato un bel volto una bella come dire un bel profilo l'aveva ritagliato e se le sarà usato in qualche modo per gli affari suoi è anche sopravvissuto qualche commento divertente se uno se li fa di fila questi questi annati qui quando l'attesissimo e benissimo illustrato mensile monacense di Kunstführer documenta nell'autunno del 1913 quello che il primo quadro cubista sicuramente entrato in effigia Brera un Picasso mandato da Heinweiler in una mostra alla galleria Tannhäuser di Monaco uno studente milanese chiaramente milanese commenta a matita lo vedete sulla sinistra l'émat è matto riferito all'artista di cui stiamo parlando questo tipo di fruizione la fruizione d'artista caccia di idee non aveva la vita mensile del periodico questa è la cosa forse più divertente di tutto il sistema stupisce proprio nel Kunstführer con il suo clima visivo che transita dal 1890 al 1914 dai cascami dell'accademismo alla Kaulbach al realismo di declinazione liberal crisis a un simbolismo di sapore secessionista stupisce dicevo che venisse ancora consultato dai ragazzi negli anni venti quando l'accademia interrompeva per motivi politici l'abbonamento a tutte le riviste tedesche che vengono sistematicamente sostituite con riviste francesi quindi abbiamo l'art vivant la renaissance de l'art francais e la rinnovata l'art e les artistes nel 24 il bibliotecario annota sulla seconda di copertina 24 che i ragazzi hanno segnalato l'assenza di due pagine che contenevano tavole di oscar zincher del volume rilegato di kunst fiorale del 1314 fa impressione che in pieno ritorno all'ordine gli allievi di brera si rivolgano invenzioni pittoriche che sembrano ai nostri occhi ormai rimediabilmente decotte ma la grande stagione del quadro di composizione da Salon che si era chiusa prima della guerra poteva fornire ancora qualche bella soluzione e magari ragionare sull'impatto che ha avuto che so le fonti tedesche le fonti tedesche di area nazarena per il primo novecento italiano visto in questa chiave potrebbe essere dare qualche risultato sorprendente un impatto sull' cioè una riflessione sull'impatto che questi repertori hanno avuto sugli studenti dal 1880 al 1920 oggi non è possibile manco uno studio sull'effettivo peso dei docenti e dei corsi di pittura e di scultura sulle scelte stilistiche degli allievi e anche sul ruolo di guida nell'indirizzare i giovani tra le moltiplici scelte della modernità credo sia interessante invece fare un salto di livello e tentare una verifica sull'uso visivo dei periodici da parte di artisti già formati coloro insomma che avevano una maggiore capacità di orientarsi e di intercettare le novità e che soprattutto sapevano decantare dalla fonte quegli elementi di contenuto o di stile che potesse essere funzionale ad un avanzamento in termini proprio di modernità di conquista di modernità e questi artisti non devono essere per forza docenti dal 1880 Gaetano Previati a Milano e dal 1890 alla ricerca spasmodica di invenzioni di soluzioni che possano rompere con quel colorismo epidermico fine a se stesso della pittura lombarda degli anni 80 i modelli che i periodici contemporanei gli possono servire gli propongono possono servire come fratture capace di mettere in crisi generi immobili da decenni su questo fronte come dire della conservazione del genere del farlo saltare alle fondamenta vi pare che si giochi il decennio anni 90 di Gaetano Previati intercetta per esempio su The Graphic del 1889 purtroppo l'Accademia è abbonato solo a due anni 89-90 un disegno di Dante Gabriele Rossetti Marianne in the South e usa l'invenzione per lo zoom inaspettato delle marie ai piedi della croce dell'anno successivo che so viene colpito da una riproduzione del 1890 su The Magazine of Arts del comparto di un trittico dello stesso Rossetti con il bacio di Paola e Francesca e ne ricava un suggerimento per l'ambientazione con la vetrata di fondo di un disegno che approderà a un quadro ai noi oggi perduto che però non gli basta come fonte quella di Gabriele Rossetti e riesce con l'intelligenza di un pittore pittore a contaminarla con una fonte completamente differente il sensualissimo gesto della sacuntala di Camille Claudel che era pubblicata tutta pagina l'anno prima 1888 sulla lussuosa rivista francese L'Art nello stesso fascicolo della rivista francese L'Art quello in cui viene pubblicato la sacuntala di no scusa della stessa rivista insomma L'Art che pubblica la sacuntala e in uno stesso fascicolo che D'Annunzio aveva raccomandato in una sua cronaca sulla tribuna nel 94 è chiaro che Previati venga calamitato dall'idea dei gigli graficamente stagliati lungo l'asse orizzontale di un'annunciazione di un pre-Raffaellita della seconda generazione George Hitchcock userà la soluzione non dissimile per accentuare l'aria da paese irreale di puro spirito e di pura luce della sua Madonna dei Gigli che viene mandata alla triennale di Brera del 94 è un gioco facile basta avere la pazienza di campionare le riviste di vedere quando c'è un quadro di Previati che genera un declic e di vedere se nelle fonti internazionali è possibile intercettare qualcosa che ci sta vicino qualche volta si può fare anche un esercizio un pochino più sofisticato e più pericoloso la pratica non si confina ad uno snodo cronologico quello dei 90 che premia un atteggiamento in buona sostanza ancora eclettico va bene tutto si prende dove si può sono in molti a rimeditare sulla svolta di nitidezza grafica e di spericolatezza prospettica dei passaggi dei paesaggi di Previati quelli Liguri tra la fine del primo decennio e l'inizio del secondo una delle belle tavole a colore di The Studio che proponeva una litografia a colore di Richard Vollmann nell'ambito di un servizio sulla moderna grafica tedesca spiega forse il punto di vista abbassato l'invenzione delle nuvole geometricamente allineate e l'insistenza visiva prodotta sul cuneo prodotto dalla linea dell'orizzonte per Previati ripeto si potrebbe andare avanti a lungo è chiaro che siamo di fronte a un percorso pittorico totalmente autonomo rispetto al linguaggio delle fonti fortemente caratterizzato dal punto di vista stilistico e persino orgogliosamente tecnico che si nutre di importazioni mirate che hanno sempre un carattere di provocazione verso le attese dello spettatore e questa provocazione nasce da una capacità di come dire di intendere dei quadri che hanno qualche aspetti provocatori paradossale rispetto alle attese contemporanee non funziona sempre così non funziona sempre con questa come dire coerenza che abbiamo intravisto in Previati qui vi faccio vedere un caso ambiguo che mi è capitato di studiare ormai ahimè molti anni fa quando avevo più tempo di stare in biblioteca di quanto non mi capiti oggi chi va a Trento si trova davanti al Minos al monumento a Dante è un filo rodeniano come me dice caspita è il primo testimonianza italiana della fortuna di un'invenzione che avrà nel decennio successivo è una grande fortuna come quella del Penseur di Roden e abbiamo guarda caso un anno e mezzo prima una rivista l'art français di poca divulgazione in Italia che riproduce per la prima volta il timpano della porta dell'infermo me l'ha mandata Alessandro Del Puppo la riproduzione era a Parigi nel momento in cui io stavo studiando queste cose fatto sta che come dire il livello meno alto l'art français è una rivista con una collocazione anche politica ideologica molto particolare e scomoda per l'Italia della fine anni 80 ogni tanto questo tipo di modello può entrare può entrare in crisi insomma che un pittore molto più caro in Italia come Alma Tadem presente già alla mostra del 1883 di Alma Tadem avenga riprodotto una incisione che Leopold Löwenstam aveva pubblicato con rilievo proprio su Di Graficienkunst dell'anno in cui come dire Zocchi si inventa questa invenzione che è un nuovo completamente fuori dal cesto rispetto al resto delle invenzioni di Zocchi e che magari questa invenzione possa essere stata contaminata con una presenza anch'essa 1890 di un quadro del giovanissimo Von Stuck un Lucifer oggi al museo di Sofia che viene pubblicata nello stesso anno 1890 in una rivista assai diffusa a Firenze dove Zocchi lavorava cioè Kunst und Zererzeit mette ovviamente in difficoltà la univocità di questo tipo e crea una specie come dire di rete di immagini disponibili all'interno delle quali è assai difficile trovare una come dire una via di orientamento è anche vero che a certi livelli di maggiore diffusione delle immagini penso a Rodin del primo decennio del novecento che transita quasi completamente attraverso la riproduzione fotografica delle riviste sono proprio le riviste che generano la fortuna di alcune sculture di alcune invenzioni rispetto ad altre vi faccio vedere la differenza che c'era tra la stranezza insomma di aver pubblicato a disegno il Lucifer e alcuni quadri coevi in 1890 che ancora Kunst und Zererzeit riproduceva nelle sue pagine quindi lo shock che nasceva dall'aver riprodotto un Franz von Stuck negli stessi anni se il fotografo Drouet non avesse riprodotto in quel modo la source di la traduzione in marmo della source di Rodin che era un marcottage particolare noi non avremmo oggi una serie di invenzioni di scultura italiana di figure che sembrano uscire da un vuoto che sembrano strisciare per terra come l'insidia di Giuseppe Romagnoli nel 1906 il caso di Boccioni generazione appena dopo è tra i più interessanti perché è chiaro che il 28enne ambizioso senza una vera formazione accademica deve inventarsi verso il 1910 una modernità orgogliosamente rivendicata con i due manifesti futuristi del febbraio e dell'aprile e non sa linguisticamente che pesci pigliare è isolato in Italia rimpiange forse le opportunità che gli sono venute dai due viaggi parigini nei quali non ha capito molto si chiede risposte a una biennale quella del 1910 che gli sembra a torto modesta e si rivolge con attenzione con anche una sorta di di ansia di riappropriazione alle riviste coeve è chiaro che la cifra mondana del valotan silografo che aveva che pica aveva presentato su emporium può servirgli per impostare un quadro di soggetto cittadino la rissa in galleria da scandalo moderno con una visione zenitale che è la stessa che la silografia ha applicato che riduce le figure ad arabeschi contro il pavimento ma anche la cifra opposta quella della archite colwitz che era stata riprodotta su riviste tedesche come di graficen kunst o il kunst fioral gli serve per quei toni grotteschi che gli serviranno per l'impostazione del quadro maggiore di dimensione da lui dipinto nel 1910 cioè il il lutto ma anche nel boccioni più maturo il boccioni che sa cosa succede a parigi che fa i conti col cubismo che insomma si deve prendere la distanza rispetto tiene ancora presente la facilità e la costabilità di certe declinazioni che derivano da riproduzioni fotografiche coeve quando mi sono interrogato insomma a un certo punto sulle possibili memorie della generazione precedente in una scultura come le forme uniche della continuità dello spazio ho dovuto fare i conti non soltanto con come dire i disegni preparatori ho dovuto fare i conti non soltanto con la fonte rodeniano ho dovuto fare i conti non soltanto con la visita sistematica di boccioni dei bernini della galleria borghese perché da quella è la la chiave la fonte da cui parte questo proprio sistema di racconto del corpo ma anche con dei certi codici di semplificazione della figura che riproduzioni di riviste di sculture contemporanee riviste coeve gli potevano servire mi ero fermato sul Miloso Bilic fotografato su Emporium nel 1910 con una curiosità forse ancora maggiore su una riproduzione di come si fa una scultura in questo caso era Darziger di Hugo Lederer senza la testa e senza le braccia che era stato fotografato in questi termini proprio nelle settimane in cui boccioni stava modellando con l'aiuto di un assistente la figura delle forme uniche della continuità dello spazio questa cosa di paesi diversi di culture diverse che entrano in gioco nel momento di un'invenzione e che magari non sono le stesse culture visive che noi ci aspettiamo nell'ordine di pensiero nell'ordine di passioni dell'artista è un altro tema che va tenuto conto ve ne do una prova l'ho discussa recentemente insomma è molto difficile spiegare questo paesaggio di Morandi nel 1911 è una specie di come dire di bomba silente che arriva nel sistema del paesaggio italiano di quegli anni lì e caspita io l'unico modo che ho di spiegarlo è con questa riproduzione di Cézanne una riproduzione di un quadro che in Italia non si era mai visto ma neanche in riviste di ambito italo-francese che stavano discutendo Cézanne intorno al 1910 non si riesce a vedere ma la 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 posseduta dall'accademia di belle arti di di Bologna era probabilmente l'unico tramite di accesso che veniva per questo strano Cézanne precoce Cézanne del 1870 che poi sarà considerato negli studi per esempio di di Clark sul paesaggio come un quadro veramente di rottura nella grammatica paesaggistica che fornisce gli addendi gli addendi a Morandi la costruzione della trincea il tipo di orizzonti il significato stesso della pennellata in rapporto alla grammatica generale del quadro che come dire che genera questa questa frattura questo tipo di novità anche a livello proprio di prelievi minuti guardate le tre come dire i tre i tre pali che noi vediamo lungo la trincea che verranno riproposti proprio linguisticamente in termini proprio di 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 tic di tic di segni in quei tre segni che vediamo nel Morandi sopra tutto ci aspetteremo non di trovarlo in sesane ovvio è un quadro sesanianissimo in una rivista tedesca capite in una rivista di 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 tedesca e transita un quadro di 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 sesane ed è utile viene utilizzato in quella in quel in quel senso qualche volta come dire l'invito genera degli equivi cioè la volontà di guardare le riproduzioni o i contenuti di una rivista genera degli equivoci e questo capita soprattutto nel primo dopoguerra primo articolo dedicato da Dedalo uno scultore contemporaneo è quello su Libro Andreotti in una lettera di Oietti a Libro Andreotti scusate ad Arturo Martini si dice ah certo lei era conosciuto questo grande scultore italiano con cui lei deve fare i conti insomma se vuole fare lo scultore moderno che è Libero Andreotti già lei intende quella specie di decoratore un po' elegante un po' insulso che è Libero Andreotti non aveva saputo Martini che su Dedalo Oietti aveva dedicato un articolo proprio a Libero Andreotti nello stesso giro è una delle gaffne ha fatte migliaia si è rovinato la vita Martini facendo quel tipo di gaffli cosa fa? va subito a vedersi il come dire il numero di Dedalo che evidentemente uscito da poco non conosceva trova un modo di raffigurare di rappresentare la scultura di raffigurare come dire fotograficamente che è opposto rispetto a quello che lui chiedeva ai suoi fotografi nello stesso arco di mesi la riproduzione della Picelle d'Orléans su Valori Plastici trova un modo di leggere la scultura antica con questa come dire resa metallica delle superfici e questa sigillatura dei profili che è nuova per lui disabituato a quel genere di riproduzione lo vediamo in due casi di un articolo famoso sulla scultura etrusca antica e intercetta un'immagine guardate lo stesso numero in cui c'è l'articolo dedicato a Libero Andreotti di una deposizione del Duomo di Tivoli resta colpito dal modo in cui vengono isolati particolari resta colpito da una cosa incongrua la riproduzione di un come si dice di un particolare del restauro in cui il Cristo viene galleggia nel niente viene sfilato dal vedete dal gruppo e viene come dire tolto sfilato dal gruppo e quando droverà impaginare la sua prima scultura diciamo a due figure e vedrà l'originale ad antico licorrado chissà se non si ricorda che in Dedalo il Cristo era stato tolto e incastra Nicodemo e Giovanni Giuseppe da Rimatea in una invenzione del genere come dire l'inquietudine che nasce da certe soluzioni impaginative che sono quelle dei periodici contemporanei rubo due minuti ancora per la conclusione e vorrei chiudere saltando a pie pari due generazioni e fermarmi con due esempi su quegli artisti che verso il 1960 si erano posti al diluvio delle poetiche dell'informele dell'espressionismo astratto e che stavano cercando una strada nuova la questione qui opposta rispetto a quella che abbiamo campionato se non indagato finora si tratta per gli artisti circa 1960 non di approfittare della messe di immagini rese disponibili dalle riproduzioni in rivista afferrandone al volo quella che di volta in volta potesse sembrare più funzionale alle proprie esigenze quanto di individuare quelle poche che potessero dare risposte a distanze nuove e che fossero istanze di franca rottura la consultazione delle riviste americane nelle sedi italiane dell'USIS dell'istituto insomma di diffusione della cultura americana milano torino roma fu come ricordano ancora oggi quegli artisti determinante e il travaso di poche immagini scelte di artisti diciamo internazionali americani in particolari nelle riviste italiane di punta di avanguardia faceva da eventuale amplificatore di rimessa in gioco di quelle istanze di novità questo è un omaggio a Maria Grazia ad una immagine a lei nota da Crack 1960 un'opera di Gino Marotta oggi è andata dispersa è andata dispersa anche la rivista che è difficilissima è il numero unico Crack che è difficilissimo da trovare non riesco a spiegarmi un'opera come finestra per Aldebaran di un 25enne romano Gino Marotta impegnato a fare i conti con l'immagine una cosa che lui dice molto chiaramente non posso eliminare ma anzi devo inventare materializzare in una specie di rapporto fisico un'opera che è riprodotta in un numero unico fatidico Crack del 1960 se non come reazione dialogo omaggio ginnastica intrattenuta con quel target with plaster cast di Jasper Jones che era stato offerto all'attenzione da Azimut la rivista di Castellani e Manzoni pochi mesi prima se non poche settimane prima di quando come si dice Marotta si inventa quella invenzione né considerando il lavoro così difficile da ricostruire del giovane Giulio Paolini artista molto taciturno per quanto riguarda le vere come dire i veri oggetti del suo ragionamento e molto parlante su questioni più alte più insomma generali del senso della creazione artistica mi è difficile pensare che un'invenzione come i tre telai rovesciati inscritti simmetricamente nel maggiore nel maggiore del suo senza titolo del 1900 1962 non si sia misurata con le three flags di Jasper Jones che Metro la rivista di Alfieri che oggi possiamo leggere con agio grazie alla benemeritissima lavoro che ha fatto Capti aveva proposto nel numero primaverile del 1962 o chissà meglio ancora con il da pre della stessa opera che era International la più ambita delle riviste per la sua ricchezza e per la sua larghezza dell'apparato illustrativo aveva riprodotto niente meno che l'anno prima nel 1961 insomma lì siamo su un coté molto delicato di rapporti e di che cosa vuol dire guardare un'immagine e tradurla in un'opera di un significato la metabolizzazione ma insomma è una questione che entra in cose molto profonde dell'invenzione artistica la stessa Are International 30 secondi ci pone per Paolini un interrogatorio un interrogativo difficile interrogatorio su Paolini è freudiano assai un interrogativo difficile da risolvere nell'autunno del 61 viene esposta ed è documentata da un particolare della fotografia in catalogo la sua prima opera documentata al premio Lissone nello stesso arco di settimane è pubblicata siamo questo senza titolo un telaio con una pittura che non esiste tenuto appeso da un telaio con un serie di vabbè insomma non vi faccio vedere l'ultima no non è una fonte e nello stesso giro di settimane pubblicati in bianco e nero su lo stesso Are International questo Bad Spring del giovanissimo James Rosenquist è una delle primissime opere di Rosenquist mai pubblicate al mondo bisogna avere un certo occhio per in come dire per guardare quel tipo di cose e pensare che possano essere in qualche modo utilizzabili no qui la cronologia non ci aiuta il determinismo che vuole gli italiani a rimorchio delle invenzioni americane o internazionali in genere ci vizia nella diagnosi spingendo ad un Alexio Facilior le invenzioni vengono sempre dagli Stati Uniti d'America questo sembra che tutti lo condividiamo in quel momento qui la riproduzione su rivista che non interferisce secondo me cronologicamente non ci sono i tempi per elaborarla non ha piuttosto per Paolini un valore di testimonianza di testimonianza una sorta di ricerca condivisa di due artisti che si stanno misurando sullo stesso tipo di temi e come una conferma che la direzione che sta prendendo è una direzione giusta e che trova una serie di testimoni condivisi di esperienze condivise in un arco che è molto lontano dal cono di interesse dei pittori italiani dello stesso tempo scusate l'ho tirato un po' lunga allora senza porre altro tempo e mezzo mettiamo una conclusione tanto questa comunicazione parla da sesso la rilevanza del lavoro sulle riviste io penso che dovremmo ricominciare mi dispiace ma ho avuto delle istruzioni molto tassative perché siamo in ritardo di un intervento allora questa mattina Maria Grazia Messina ha coordinato una sessione in cui c'erano i referenti di metodo per il progetto CAPTI con i quali si è aperto anche un orizzonte internazionale e sono stati interventi così densi che come avete visto abbiamo anche sforato la nostra tabella di marcia oggi pomeriggio a me tocca invece coordinare una seduta un gruppo una nidiata direi di giovani studiosi che in qualche modo danno anche il senso della continuità della ricerca perché sono in parte allievi delle persone che sono intervenute questa mattina un'altra delle cose che volevo dire oltre a ringraziare gli organizzatori Giorgio Baccia e Denis Viva che mi hanno contattato molto tempo fa per partecipare a queste due giornate di studi voglio anche ricordare in questa stanza Paola Barocchi perché per tutti noi in anni molto lontani ma molto decisivi è stato il primo riferimento un riferimento molto importante per lavorare sulle riviste e lavorare sulle riviste come ci è stato ricordato stamattina non con una come dire con un occhio monografico ma invece con un occhio molto allargato per utilizzare le riviste non tanto come depositi di notizie ma quanto come oggetti materiali da considerare nella loro organicità e nel loro insieme e che tutte insieme possono fare una rete importante e la prima persona che chiamo qua a parlare è Giorgia Gassaldon che è forse anche la più giovane e Giorgia Gassaldon si è laureata con Flavio Fergonzi con un lavoro su Schifano che ha portato dei risultati molto importanti perché sono stati identificati grazie all'individuazione nell'archivio di Calvesi sono stati identificati dei documenti che hanno portato a delle datazioni e a delle ricostruzioni di esposizioni molto importanti ha lavorato in prima persona nel progetto CAPTI e aveva già pubblicato dei contributi su Appia Antica se non sbaglio e oggi ci parlerà invece di un argomento che si lega strettamente a come dire a quelle suggerimenti a quelle indicazioni così importanti che ci ha dato Flavio Fergonzi perché parlerà di fonti di arte americana in Italia tra la fine degli anni 50 e primi anni 60 grazie buongiorno l'intervento che propongo in questa sede come suggerisce il titolo stesso vuole indagare i fondamentali rapporti di scambio e travaso tra le realtà dell'arte di fine anni 50 in due città chiave come furono Roma e New York il tema non è certo nuovo è stato infatti trattato da numerosi storici in diverse occasioni ma in questa sede vorrei mettere in atto il tentativo di tenere insieme più fonti tra loro diverse incentrate sia sulle immagini tipologia di ricerca questa che si è certamente già portata avanti con più attenzione che sui testi indagine quest'ultima invece ancora di fatto piuttosto acerba le fonti cui si farà cui ricorso sono le più svariate penso ad esempio alle riviste strumento cui privilegiato e ai cataloghi di mostre ma anche agli epistolari personali e agli inventari di biblioteche e archivi di personaggi coinvolti in queste vicende di tutte queste fonti come si è detto si guarderanno ovviamente le immagini ma ci si concentrerà anche e forse soprattutto sui testi per inventariare oltre alle opere le idee critiche che dagli Stati Uniti giungevano in Italia in forma più o meno diretta esplicita o mediata nel frangente cronologico ristretto ma cruciale qui preso in analisi dal 1958 cioè al 1961 in aggiunta si tenterà di indagare con attenzione il ruolo fondamentale che per motivi diversi alcune figure chiave hanno giocato nella diffusione di modelli visivi e testuali americani a Roma e che forse in una fase successiva si è un po' andato dimenticando le figure a cui faccio riferimento tutto qui sono principalmente quattro Gabriella Drudi Emilio Villa Fabio Mauri e Toti Scialoia in tal senso è interessante osservare come questo nucleo ristretto di personalità abbia forse giocato un ruolo così stringente in virtù del loro essere figure ibride non cioè critici o curatori nel senso più canonico del termine nel caso di Emilio Villa ad esempio è fuori discussione l'importanza del suo ruolo critico ma non si può certo negare che egli fosse anche soprattutto un traduttore uno studioso delle lingue antiche un poeta e un artista a sua volta anche Gabriella Drudi lavorò ovviamente come critica d'arte ma fu in primis traduttrice e agente letteraria mentre Fabio Mauri che è soprattutto ricordato come un artista giocò però un ruolo importante nella diffusione di modelli culturali americani soprattutto in qualità di redattore e di responsabile della sede romana della Bonpiani infine Totiscia Loia artista ma anche soprattutto insegnante e intellettuale in generale ebbe modo di scrivere con continuità sull'arte di quegli anni non solo nel suo giornale di pittura ma anche in numerose riviste che accolsero con frequenza i suoi interventi critici o di poetica è interessante inoltre osservare come queste figure che abbiamo definito ibride potessero probabilmente godere in virtù di questi ruoli non troppo rigidi di una maggiore libertà di una più ampia possibilità di aprirsi all'esterno che li rese forse recettori più adatti a certe frequenze americane il ruolo di queste figure è riassumibile in sostanza in una serie di azioni pratiche quali ad esempio il combattere il predominio quasi monopolizzante di una certa critica nella diffusione dei modelli americani in Italia l'agire con tempestività nella presentazione e diffusione delle nuove poetiche americane a Roma il diffondere interpretazioni più indipendenti e autonome dei fenomeni artistici americani rispetto a quello che avveniva nell'ambito delle mostre allestite in sedie più ufficiali come i musei che accoglievano esposizioni organizzate negli Stati Uniti o i padiglioni americani nelle varie edizioni della Biennale di Venezia nella fattispecie infatti si può facilmente notare come in Italia vi fosse di fatto una sorta di monopolio critico una presenza nelle occasioni espositive ufficiali di un numero veramente esiguo di critici con i loro testi in particolare Sam Hunter presente ad esempio nella retrospettiva su Pollock organizzata a Roma nel 1958 ma anche alla Biennale di Venezia di quello stesso anno Alfred Barr tra i curatori della mostra di Milano The New American Painting sempre del 1958 e James Sweeney presenza americana nel comitato scientifico della collettiva veneziana Vitalità nell'arte in tutte queste occasioni espositive ufficiali organizzate per lo più sotto gli auspici dell'International Council del Museum of Modern Art di New York questi critici avevano presentato stamp testi di stampo esistenzialista sull'espressionismo astratto americano come possiamo vedere da due brevi citazioni come ebbe d'altronde modo di fare anche palma a Bucarelli quando le si presentò l'occasione di scrivere nei cataloghi pubblicati in queste occasioni e anche altrove gli iscritti di critici americani fin qui citati erano quindi di fatto gli unici testi di autori americani disponibili in traduzione italiana tutto il resto penso ad esempio alle teorie di Aaron Rosenberg e di Clement Greenberg entrambe tanto influenti negli Stati Uniti erano praticamente del trutto precluse ai più perché di fatto fruibili solamente a colori quali godevano di una buona padronanza della lingua inglese come ad esempio Gabriella Drudi e in aggiunta erano in grado di procurarsi in maniera autonoma delle pubblicazioni internazionali soprattutto periodici al fine di leggere nella versione originale le tesi critiche in questione qui vi porto un brano del giornale di pittura di Scialoia in cui possiamo abbiamo deduciamo due dati il fatto appunto che Gabriella Drudi questo G punto potesse tradurre in italiano dall'inglese ma anche la presenza di art news tra le letture di Scialoia di fronte a questa pressoché totale omologazione dei modelli critici proposti nell'occasione ufficiale di divulgazione dell'arte americana le riviste italiane d'avanguardia si presentavano di fatto come le uniche a proporre modelli alternativi e più aggiornati su queste vicende americane anche se ovviamente in queste riviste erano più lo più i critici italiani ad intervenire alcuni di loro però penso soprattutto a Gabriella Drudi parevano in grado di proporre modelli interpretativi nuovi per una più autonoma lettura delle opere dell'espressionismo astratto alla luce del fondamentale aggiornamento reso possibile da un viaggio a New York nel caso della Drudi avvenuto alla fine del 1956 dell'ottima padonanza della lingua inglese che le permetteva di leggere fonti americane nella loro versione originale della completezza di informazioni a propria disposizione come testimonia alla bassa presenza di pubblicazioni internazionali anche e soprattutto in lingua originale nella biblioteca condivisa tra Gabriella Drudi ed il compagno Toti Scialoia questa biblioteca doveva essere nella Roma di fine anni 50 un vero e proprio tesoro data l'impressionante mole di pubblicazioni sull'arte americana che vi è conservata ancora oggi la raccolta di questo gran numero di cataloghi e pubblicazioni internazionali erano il frutto di acquisti durante i loro viaggi negli Stati Uniti 1956 e 1960 ma anche di richieste ad amici in America o di scambi e regali come testimonia ad esempio il breve stralcio di una lettera scritta da Scialoia ad Afro che in quel momento si trovava negli Stati Uniti tornando a Gabriella Drudi l'approccio di novità critica e l'autonomia interpretativa di cui si fece portatrice sono certamente ben esemplificati dai primi testi di critica sull'arte americana redatti dall'autrice tra il 1959 e il 1960 nel numero di arti visive dell'estate 1957 dedicato a Darshall Gorky infatti la Drudi pur figurando come membro della redazione non firmò alcun testo mentre era pubblicato un articolo su Gorky scritto proprio da Toti Scialoia i testi della Drudi cui faccio riferimento sono quindi rappresentati dai due articoli apparsi sulle pagine dei due numeri della rivista diretta da Emilio Villa Appia Antica il primo dedicato a Robert Motherwell apparso nel primo numero della rivista nel luglio 1959 il secondo apparso sul secondo e ultimo fascicolo di Appia Antica quello alledatto alle stampe nel gennaio 1960 dedicato invece a Mark Rothko non è ovviamente un caso che questi due interventi fossero apparsi proprio nella rivista diretta da Emilio Villa il poeta infatti aveva sempre dichiarato l'intenzione di dedicare ampio spazio nella sua pubblicazione periodica alle poetiche internazionali ed il secondo numero di Appia Antica in particolare era esplicitamente dedicato ad un approfondimento sull'arte americana come si può facilmente dedurre dalla lettura dell'editoriale d'apertura nel caso dell'articolo della Drudi dedicato a Motherwell il testo consisteva quasi interamente in una lunga e palmare descrizione di alcune tele del pittore visse probabilmente di persona pochi anni prima nel corso del famoso soggiorno new yorkese iniziato nel settembre 1956 una descrizione così dettagliata e minuziosa apporta inevitabilmente alla memoria più che i toni esistenzialisti di Rosenberg critico conosciuto personalmente dalla Drudi e da lei poi tradotto in italiano nel corso della seconda metà degli anni sessanta le modalità critiche di Clement Greenberg come si può facilmente dedurre dal confronto tra questi due brani dedicati all'opera di Motherwell il primo tratto per l'appunto dall'articolo della Drudi il secondo di Greenberg estrappolato dall'articolo American Thai Painting pubblicato nel 1955 nella rivista Partisan Review che vorrei sottolineare rappresenta l'unico fascicolo di questa rivista presente oggi nella biblioteca di Totti Shaloya e Gabriella Drudi mentre come si può vincere dall'analisi di questa lista di voci bibliografiche legate alla biblioteca della fondazione Shaloya pare plausibile che le pubblicazioni di Rosenberg fossero arrivate più tardi in casa dei due anche nel caso di Mark Rothko la lettura messa in atto da Gabriella Drudi era di fondamentale novità perché di nuovo incentrata su un'attenta analisi del linguaggio pittorico con cui erano realizzate le opere anche in questo caso le parole della Drudi mettono in atto un esercizio di lettura formale delle tele mettendo proprio l'opera al centro della sua analisi cosa che non succedeva praticamente mai invece nei test della critica esistenzialista si veda come esempio di ciò giusto per citare una fonte l'articolo di Rosenberg del 1952 The American Action Painters dove l'autore porta avanti la sua riflessione sulla cosiddetta action painting senza mai nominare né un singolo artista né una singola opera anche questo secondo articolo di Gabriella Drudi è probabilmente frutto di una visita di persona allo studio di Roschko come testimonio ad altronde lo stesso incipit e in aggiunta della frequentazione dell'artista durante il suo soggiorno romano del 1959 ricordo a tal proposito che l'articolo in questione della Drudi è uscito nel numero di Appia Antica stampato nel gennaio 1960 come si è visto la lettura critica che la Drudi metteva in atto in questi due articoli su Roschko e Maddowell era notevolmente autonoma non solo nei confronti delle linee della critica ufficiale più diffusa in Italia ma anche della lettura che degli stessi fenomeni metteva in atto il compagno a Toti Shaloia quest'ultimo infatti dava sì attenzione al linguaggio con cui erano realizzate le opere ma allo stesso tempo era ancora fortemente legato ad un'interpretazione più esistenzialista del lavoro degli espressionisti a strati americani come si può facilmente dedurre da due brani che porto come esempio estratti entrambi da alcune pagine del suo giornale di pittura compilate durante il suo primo soggiorno americano un ulteriore articolo dedicato all'arte americana scritto in quegli anni da Gabriella Drudi venne pubblicato nell'almanacco letterario Bompiani del 1962 dato alle stampe nel dicembre 1961 entra così in campo anche l'ultimo dei nostri protagonisti l'artista romano Fabio Mauri il quale all'epoca dei fatti qui analizzati era responsabile della sede romana della casa editrice Bompiani e in aggiunta uno dei redattori dell'almanacco letterario Bompiani che infatti nonostante la sua vocazione altamente divulgativa rappresentava tra la fine degli anni 50 e l'inizio dei 60 uno degli strumenti di maggior aggiornamento in Italia sia per quel che riguardava l'arte italiana che per quanto concerneva l'arte internazionale tornando all'articolo di Gabriella Drudi emblematicamente intitolato Pittura americana oggi con un punto di domanda vediamo come questo rispetto ai due precedenti sia un testo molto più complesso che presenta molteplici livelli di lettura l'aspetto che certamente colpisce per primo è la presenza in quest'articolo di un approfondimento sul tema degli happenings che saranno svolti a New York tra il 1960 e quello stesso 1961 a tal proposito la Drudi citava esplicitamente un articolo di Alan Kepprow uscito su Art News nel maggio 1961 ricorda tal proposito che il numero in questione dell'almanacco Bompiani venne dato alle stampe appena sei mesi dopo questo articolo di Kepprow nell'articolo della Drudi venivano tradotte in italiano alcune frasi di Kepprow e in aggiunta si dedicava una sorta di inserto alla riproduzione fotografica di alcuni happenings messi in scena a New York da un incrocio delle due fonti primarie le pagine dell'almanacco che vedete a sinistra e quelle di Art News che vedete a destra scopriamo che tutte le fotografie di happenings dei vari artisti Kepprow Oldenburg Dime Whitman che appaiono nell'almanacco Bompiani sono in realtà semplici riproduzioni delle fotografie realizzate da Robert McElroy per Art News a documentazione dell'articolo di Alan Capro che ho già citato a tal proposito pare fondamentale sottolineare come nella biblioteca Shaloya Drudi la rivista americana Art News sia presente senza lacune quindi con tutti i fascicoli dal 1955 al 1971 l'interesse della Drudi per il fenomeno americano degli happenings pare legato a quell'interpretazione questa volta invece è chiaro il riferimento a Rosenberg più che a Grimberg che voleva che gli happenings fossero in sostanza un'evoluzione delle poetiche dell'action painting e infatti a tal proposito venivano subito citati anche alcuni espressionisti astratti quali Franz Klein William de Kooning e Jackson Pollock in sostanza quindi l'articolo della Drudi si presentava come una sorta di cronologia non ortodossa e non lineare che mescolava assieme fatti di cronaca artistica riconducibili alla storia della New York School ma anche aneddoti biografici riferibili ad esempio al già citato Viaggio americano dell'autrice del 1956 da ultimo venivano citati sempre nell'articolo della Drudi anche gli artisti del cosiddetto New Dad americano in particolare Jasper Jones e Robert Rauschenberg di cui erano anche riprodotti dei riptratti nelle pagine precedenti in una rubrica emblematicamente intitolata La faccia più giovane della pittura americana in queste poche righe la Drudi non dimostrava un grande apprezzamento nei confronti del lavoro di questa nuova generazione di artisti americani ma piuttosto faceva derivare l'opera di Rauschenberg da una ricerca materica di derivazione europea si vede a tal proposito il riferimento ad Alberto Burri mentre il lavoro di Jones era letto come uno sterile ritorno a ciò che c'era prima dell'espressionismo astratto se scrivere un articolo su Jones e Rauschenberg nel 1961 può non essere necessariamente un segno di grande aggiornamento dell'autrice sulle poetiche americane lo è certamente di più in tal senso la scoperta di come Shaloya e la Drudi avessero una conoscenza capillare del fenomeno e di alcune singole opere già tre anni prima faccio riferimento al 1958 anno in cui Shaloya si trovò a commentare per ben due volte questo tipo di poetica una prima ricorrenza rappresentata da un brano del giornale di pittura datato marzo 1958 in questa occasione Shaloya si schierava in favore degli artisti più giovani difendendoli dalle accuse di Thomas Heske li incolpava di voler distruggere ciò che nell'arte americana era venuto prima di loro ovviamente l'espressionismo astratto in una seconda occasione invece faccio riferimento ad una lettera dello stesso Shaloya ad Afro datata 4 aprile 1958 l'artista si dimostrava al contrario estremamente critico nei confronti di questi stessi giovani riconoscibili per la descrizione delle opere citate proprio in Jasper Jones di cui è descritta una bandiera e Robert Rauschenberg di cui nelle parole di Shaloya si riconosce l'opera del 1955 Bad a tal proposito vorrei ricordare che appena tre mesi prima nel gennaio 1958 era uscito il famoso numero di Art News con la cover dedicata a Jasper Jones di cui era riprodotto un target in occasione della sua prima mostra personale organizzata alla galleria new yorkese di Leo Castelli con l'analisi di questi ultimi docudenti si conclude il mio intervento questo dovrebbe essere dunque il giusto momento per trarre delle conclusioni la verità però è che come si può facilmente immaginare questo lavoro non può assolutamente ritenersi concluso sono infatti ancora numerosi gli aspetti da analizzare le figure qui citate ed il ruolo che esse giocarono va studiato ancora meglio e si rende inoltre necessario un ulteriore approfondimento su alcune fonti dirette penso ad esempio ai tanti archivi ed epistolari ancora non consultabili o totalmente dispersi di certo una conclusione cui questo lavoro ha portato è rappresentata però dalla necessità di ribadire ancora una volta il ruolo fondamentale di aggiornamento svolto dalle riviste siano esse italiane come internazionali ma disponibili in Italia e questo per esempio il caso di Art News in aggiunta dobbiamo constatare come già dalla fine degli anni 50 l'aggiornamento degli artisti su ciò che succedeva fuori in Italia e in America in particolare non passasse più solo per la carta stampata pubblicazioni cataloghi di mostre riviste periodici dal momento che con ogni evidenza esisteva un circuito alternativo di informazione costituito da conoscenze personali frequentazioni comuni e scambi continui esisteva insomma una comunità di artisti che riusciva a comunicare andando oltre le diverse nazionalità e le differenti posizioni critiche e di poetica grazie grazie a Giorgia Castaldon anche per essere stata nei tempi in modo veramente molto diligente e soprattutto perché in questa comunicazione ha aperto una come dire un molto interessante orizzonte sul ruolo di Gabriella Drudi che credo sia una delle personalità disnodo per l'informazione sull'America purtroppo questo è un problema che potremo affrontare anche poi quando si parla degli archivi perché purtroppo come sappiamo intorno all'archivio di Gabriella Drudi e Toti Scialoia c'è una situazione molto complessa e molto difficoltosa l'archivio è accessibile sì e no non è ordinato ci sono varie tensioni fra gli eredi e fra la fondazione e questo devo dire è un vero problema perché in realtà invece la figura di Gabriella Drudi è fondamentale un altro degli elementi che mi è sembrato molto interessante che suggerisco a Giorgia di approfondire è questa distinzione che lei ha fatto fra la lettura di Gabriella e la lettura di Toti Scialoia dicendo che una diciamo così è più critica l'altra è più esistenziale cioè Gabriella Drudi fa più attenzione proprio a una descrizione dell'oggetto e della pittura mentre Toti entra più anche in uno specifico che lei ha definito esistenziale però però c'è da dire anche che Toti Scialoia è un pittore e guarda le cose che vede degli altri pittori pensando a come sono state fatte mentre Gabriella che è un occhio straordinario però in realtà comunque è sempre un occhio esterno quello di Toti è sempre un occhio diciamo così molto immesso nella fattualità della pittura e adesso viene sì sì dilla c'è The Portable Gallery in quegli anni tutti ce la dimentichiamo c'è un editore americano che edita c'è un editore americano che edita diapositive certo in un contenitore che si chiama The Portable Gallery di cui non si sa ancora niente se non qualche elenco che è disponibile in qualche biblioteca sperduta negli Stati Uniti d'America e sarebbe il caso di capire e credo che sia collegato alla Rome New York Art Foundation non lo so perché qualche cosa perché qualche cosa credo che sia in quell'archivio lì quindi probabilmente potevano arrivare anche attraverso quel canale insomma verso il 62 gli artisti hanno delle diapositive di pittori americani da proiettarsi nello studio da proiettarsi per se stessi nello studio e un conto è guardare un'immagine dal vero un conto cioè un'opera dal vero che ne so la mostra di Rotko del 62 alla Gnam un conto è guardarsi in silenzio una riproduzione per quanto sontuosa come quella su Appia Antica che abbiamo visto di Rotko un conto è nel buio dello studio infilar dentro un vetrino soprattutto pensando che tutti poi cominciano a farsi le proiezioni per fare i quadri lì bisognerebbe forse capirci qualcosa di un po' di più io ne so pochissimo e un'altra cosa è di scandire la cronologia della conoscenza di Rotko perché la conoscenza di Rotko quando arriva alla mostra alla Galleria d'Arte Moderna a Roma come quando arriva a quella di Pollock è ormai un dato che probabilmente per gli artisti significa non significa tanto l'avevano già visto e probabilmente ne erano già arrivate molte notizie allora adesso Dennis perché se no ci mettiamo a discutere solo su questo allora Dennis invece è un allievo di Alessandro Del Pupo ma ormai ha una sua autonomia è stato il responsabile udinese del progetto Capti ecco direttore della rivista Palinzesti e si è provato anche in numerosi saggi di metodo che sono apparsi anche su Palinzesto e oggi ci parlerà di qualche cosa che mi incuriosisce molto e mi interessa molto perché parla di serie fotografiche o di fotografie come dirsi voglia l'immagine dello spazio dal 1967 a ritroso fotografia di ambienti e installazioni sulle riviste d'arte italiane grazie se è possibile puoi mettere a schermo pieno la non ci vogliamo vedere non ci vogliamo direi no e come si fa a mandare la presentazione vista presentazione immagino no come si fa modalità schermo intero ecco allora buongiorno a tutti entro subito nel nel vivo dell'argomento allora mentre Giorgio mi fa un attentato allora fu pressa poco alla fine degli anni 80 che in Italia l'idea del fotografo di opere d'arte come traduttore venne estesa dagli studi di ambito ottocentesco al caso dell'arte contemporanea in una prima ricognizione sull'attività di fotografi cruciali come Ugo Mulas e Claudio Abate e altri fotografi Walter Guadagnini vi aveva fatto ricorso per evidenziare alcuni dei nuovi problemi di carattere documentario introdotti dalla pratica artistica degli ultimi vent'anni tra essi venera senz'altro uno destinato a diventare centrale per la storiografia quello della fotografia d'environment o d'ambiente per italianizzarla e d'installazione a causa della loro natura effimera e contestuale infatti queste pratiche venivano restituite dalla fotografia sotto un doppio vincolo documentario per un verso esse erano soggette data la loro logica contingente ed esperienziale ad una intraducibilità fotografica o quantomeno a non possedere un chiaro protocollo documentario come era invece nel caso della pittura o nel caso per quanto irrisolto della scultura per altro verso invece e per le medesime ragioni la loro documentazione restava demandata a tutta la parzialità dell'atto fotografico spesso l'unico in grado di tramandarne una qualche memoria visiva interpretazione e intraducibilità erano dunque divenuti i poli contraddittori di un nuovo legame tra opera e fotografia che dagli anni sessanta in poi aveva dato luogo ad un significativo paradosso il riconoscimento crescente dell'autorialità del fotografo dinanzi all'irriproducibile contestualità spaziale e temporale dell'opera ma quale origine storica aveva questo legame esso era un semplice corollario del cambiamento proposto in prima battuta dalle arti visive un adeguamento cioè della fotografia al proprio soggetto e in quali tempi tutto ciò era accaduto era avvenuto senza voler in questa sede ridiscutere cronologie forse già troppo acquisite ma pure orientative si potrebbe cominciare il ragionamento a partire da alcune date convenzionali intanto metto proietto una foto e cominciare dunque dal minimalismo che per primo pose il problema di una fotografia in grado di testimoniare l'indissolubile rapporto tra opera e contesto espositivo a partire dal 64 cioè penso qui alle prime mostre di Robert Morris o alla successiva riflessione in notes on sculpture i fattori contestuali dell'opera come il campo visivo dello spettatore o l'illuminazione sotto la quale viene percepita divennero delle variabili non più così manipolabili dall'arbitrio fotografico sul versante italiano tuttavia una tale chiarezza cronologica sarebbe difficilmente ravvisabile la natura prettamente immersiva e multimediale delle opere ambientali italiane infatti ne complica le origini tra i precoci e complessi esperimenti di Lucio Fontana e di primi ambienti cinetico programmati degli anni 60 e con una storia della ricezione del minimalismo ovviamente ancora in via di elaborazione piuttosto che di un'origine dunque nella storia dell'arte italiana disponiamo di un sicuro approdo un momento di convergenza e confronto critico che venne rappresentato dalla nota mostra de lo spazio dell'immagine inaugurata il 2 luglio del 1967 a Spoleto ah scusatemi a Foligno l'esposizione aveva rappresentato per molti aspetti il primo e ineguagliato bilancio sul fenomeno e allo stesso tempo un incentivo per tutte quelle ricerche in Italia il catalogo dato alle stampe il giorno dell'inaugurazione si era trovato nell'inedito ruolo di testimoniare quanto di irripetibile e ambientale si stava allestendo nelle sale non senza lacunosità esso aveva alternato a qualche puntuale foto degli allestimenti in mostra come nel caso che vedete di Mario Ceruri non sono gli allestimenti ci sono diciamo degli spettatori e l'artista stesso delle fotografie d'archivio o di progetti esecutivi un simile tentativo di coordinare i tempi d'allestimento e quelli editoriali non era certo biasimabile ancora oggi assistiamo alla pubblicazione di cataloghi basati per lo più su immagini di mostre precedenti lo spazio dell'immagine a tal proposito era un'esperienza così diretta e immersiva da richiedere un supplemento di documentazione fotografica quale forse soltanto le riviste potevano dare a quell'epoca ma quest'ultime avevano poi effettivamente svolto in quell'occasione questo ruolo di documentazione compensativa si può intanto affermare che tra le epocali mostre tenutesi in Italia nell'estate del 67 lo spazio dell'immagine avesse goduto di una ricezione privilegiata dalle molte recensioni i fotoservizi degni di nota erano stati almeno tre i primi due erano apparsi a mostra appena inaugurata rispettivamente sul numero di giugno-ottobre di dar's agency e sul secondo numero di flash art del luglio 67 il primo era una lunga recensione a firma di germano celant il secondo un numero quasi interamente dedicato all'esposizione dal giovane direttore che in realtà era umbro d'origine Giancarlo Politi a questi due si è raggiunta in agosto una recensione di Tommaso Trini sulla rivista d'architettura Domus al di là dei loro contenuti critici le tre recensioni si potrebbero suddividere secondo le fonti fotografiche alle quali attinsero le foto delle prime due recensioni infatti quella di dark agency flash art intendo provenivano sia da quelle già presenti nel catalogo sia da una serie di scatti effettuati in mostra da un fotografo oggi dimenticato di nome Tonino Romagnoli l'articolo di Domus invece si basava interamente sulle fotografie di Ugo Mulas commissionate con ogni probabilità dalla rivista stessa la prima differenza era ovviamente nei mezzi e negli stili documentativi chiamo intenzionalmente abbino intenzionalmente stile alla parola documentazione Romagnoli e grazie alla fortuna degli specchi in molte installazioni dell'epoca che possiamo dedurre questi dati aveva impiegato una macchina folding probabilmente una lean-off tecnica un banco ottico dal soffietto scomparsa che si poteva impiegare sia con le lastre sia attraverso un adattatore con pellicole di medio formato come il 6x8 che qui ha utilizzato anche Mulas aveva lavorato con il medio formato ma quello quadrato del 6x6 caratteristico della sua Hasselblad e che si identifica grazie al bordo dei fotogrammi cioè il cosiddetto magazzino e al confronto con fotografie successive fatte agli specchianti di pistoletto entrambe le macchine fotografiche erano un buon compromesso tra qualità e maneggevolezza qualità professionale diciamo la lean-off era un banco ottico portatile con solo alcuni corpi mobili l'Hasselblad una più agile macchina di medio formato utilizzabile senza cavalletto ma con una qualità ottica inusuale per la categoria entrambi i fotografi avevano comunque lavorato col cavalletto e con i necessari tempi di esposizione evitando l'approccio da reportage con la fotocamera in mano negli spazi talvolta angusti per le ottiche degli obiettivi Romagnoli aveva prediletto visioni inclinate orientando il soffietto verso il basso per concentrarsi su un dettaglio o un primo piano dell'opera o verso l'alto con un sottinsù che faceva convergere le linee verticali alla ricerca di una diciamo certa monumentalità i suoi soggetti poi alternavano vedute delle sale vuote a quelle dei visitatori o degli artisti nelle stanze Mulas aveva invece lavorato su un punto di vista di media altezza privilegiando l'ampiezza panoramica laddove possibile e una visione priva di interferenze umane entrambi comunque avevano operato con metodi e strumenti derivati pressoché dalla fotografia di architettura ed interni trovando una buona soluzione che consentisse eventualmente la fotografia di posa con gli artisti ripresi nei loro ambienti Romagnoli era stato più tecnico ma allo stesso tempo più concessivo verso la presenza umana mentre Mulas giunto a mostra ormai inaugurata era stato più interpretativo nei suoi mezzitoni così dosati e metallici e nei suoi tagli angolati ma anche per così dire più moderno e auratico nel sottolineare i valori estetici degli ambienti in autonomia rispetto alla loro interattività ciò che di questi servizi fotografici però avevano riportato le riviste di settore era un'altra questione se le foto di Mulas avevano comunque trovato un asilo in un contesto editoriale sensibile alla fotografia di interni come Domus quelle di Romagnoli erano invece state piegate ad un tono reportaggistico da riviste come Darts Agency o Flash Art all'epoca più inclini ad una mondanità autoreferenziale e a toni informativi alla page tra le 16 fotografie pubblicate su Flash Art ad esempio la proporzione era decisamente a favore dei ritratti degli artisti in posa nelle loro sale un sottogenere fotografico questo assai fortunato nelle riviste generaliste come ha ben testimoniato il progetto Pryn sull'arte moltiplicata e con il quale spesso si condivano i reportage dalle grandi esposizioni come la Biennale di Venezia tornando ai fotoservizi su Foligno comunque tra le foto pubblicate su Flash Art una decina diciamo così erano riconducibili a Romagnoli la maggior parte delle quali però era di taglio reportaggistico due erano dedicate alle sculture di Ettore Colla allestite all'esterno tre agli ambienti di rispettivamente Castellani Bonalumi e Michelangelo Pistoletto e le restanti sei appunto di cui vi ho messo due esempi agli artisti ripresi all'interno della loro sala ma perché una rivista specializzata come Flash Art si dimostrava meno sensibile al rapporto tra opera e contesto rispetto ad esempio ad una rivista non di settore come Domus per quale ragione detto altrimenti le riviste d'arte si dimostravano propense a contaminarsi con generi fotografici concepiti per raccontare l'arte al grande pubblico piuttosto che agli specialisti il problema è logicamente assai vasto e gli studi soltanto agli inizi ma è testimone di una ibridazione tra registri e modelli di cui la fotografia ci rivela ben più dei generi letterari quando in Italia l'arte ambientale stava congedando ogni coefficiente artigianale ed espressionista dell'opera la fotografia persisteva invece nel rimarcare l'autorialità e il soggettivismo come ultima narrazione ancora in grado di mediare l'arte contemporanea per il pubblico tuttavia in Italia nel 1967 è probabile che nemmeno altre tradizioni fotografiche fossero disponibili per documentare l'environment e l'installazione la fotografia di scultura ho scelto qui due casi emblematici proprio di quegli anni era troppo concentrata sull'autosufficienza dell'opera per veicolare le relazioni invece sempre più ambientali che essa instaurava col contesto spesso la foto di scultura restituiva un oggetto scontornato irrelato stagliato su uno sfondo neutro sotto una luce orientata oppure con qualche minimo indizio ambientale nel caso a destra una parete ed un pavimento che fungessero da fondo neutro o da equivalente della pagina bianca i rimanenti generi ai quali attingere dunque per una sorta di logica parentela o di concomitanza erano la foto di reportage e quella d'architettura le vernici delle mostre o il loro allestimento erano cioè le occasioni più immediate per il fotografo di trasferire la sua attenzione dalle persone e gli oggetti al rapporto di quest'ultimi con lo spazio espositivo la fotografia di interni oltretutto aveva problemi suoi specifici il controllo e l'omogeneità delle fonti luminose che non si potevano orientare molto spesso l'assenza di aberrazioni prospettiche in spazi non troppo profondi il ricorso ad obiettivi grandangolare e robusti banchi ottici erano solo alcune delle difficoltà che il fotografo di interni si trovava a dover risolvere a differenza di quello di scultura trascorrere dalla foto di scultura alla foto di interno dunque non era così immediato all'attenzione che la foto di scultura riservava all'oggetto quella d'allestimento come testimoniano alcuni casi su domus sempre di quegli anni poteva anche derivare da un interesse tutto architettonico per i ritmi compositivi o l'efficienza illuminotecnica anziché per le opere in generale affare da mediatore tra l'interesse per l'opera e quello per lo spazio era stato talvolta e paradossalmente il genere del reportage come dimostrano i casi di Romagnoli e quello non in questo caso dello spazio dell'immagine ma in altri di Ugo Mulas ad ogni modo al di là del pur complesso problema fotografico in quale momento le riviste d'arte italiana si erano accorte della crescente importanza del contesto espositivo come si poteva spiegare la loro impreparazione nel 67 dopo qualche anno di minimalismo e di ambienti programmati qual era in sostanza la loro attenzione per le foto ambientali prima dell'avvento nel 68 di riviste come Carta Bianca o la nuova serie di Metro che ne fecero il genere di riproduzione invece ancora oggi più presente sulle riviste d'arte l'interrogativo va ben oltre la mia comunicazione moderna senz'altro ma nel frattempo l'implementazione dei dati e delle immagini che strumenti come Capti oggi ci offrono consente di avere a disposizione un inedito corpus nel quale effettuare provvisori e orientativi carotaggi vorrei allora porre in atto due tentativi di indagine all'interno dei dati che Capti e lo spoglio parallelo di altre riviste ci mette a disposizione il primo tentativo sarà di natura statistica il secondo invece sarà più etimologico nel primo caso ho preso in esame quattro delle principali riviste specializzate in Italia che furono pubblicate dal 65 anno di ricezione del minimalismo all'inverno del 68 quando l'arte povera agevolerà un cambio di metodi nella fotografia di opere d'arte da esse ho escluso le riviste d'architettura come domus che sono un caso di studio a parte ed ho selezionato invece nell'ordine metro dark agency flash art e bit nelle loro pagine ho cercato di rintracciare tutte quelle riproduzioni fotografiche che non escludessero il contesto espositivo in cui l'opera è fotografata ossia quelle foto in cui il contesto non sia assente o non sia un inerte sfondo per l'opera simile agli scenari fotografici nella scultura data l'insidiosità di una simile distinzione ho deciso di accorpare tutte quelle fotografie che contenessero un minimo indizio della tridimensionalità del contesto espositivo ovvero che inquadrassero almeno tre pareti della sala associando alle verticali e le orizzontali anche una almeno una diagonale di profondità nonostante l'ampiezza e la genericità di una simile categoria che include ovviamente tutte le foto degli allestimenti espositivi si scopre che nell'arco temporale individuato le riproduzioni che corrispondono a queste caratteristiche sono poco più di 150 ossia il 5,8 del totale di quelle pubblicate a tale quota inoltre arriva un impulso decisivo proprio dallo spazio dell'immagine per la quale si contano 17 fotografie e dopo la quale viene pubblicato il 60% delle foto facenti parte di questa categoria la fotografia d'ambiente di installazione in sostanza ne esce assai ridimensionata anche quando viene intesa in modo così generico lasciando invece il posto al 64% di foto documentative prive di contesto intendo quadri senza cornice ombre o riflessi o sculture stagliate su uno sfondo sfocato o domogeneo alle quali va sommato un 15% di fotografie legate al reportage e al ritratto come la foto di vernissage il ritratto dell'artista al lavoro nel suo studio o quella che mima l'atto di fruizione o ribadisce l'autorialità di un'opera ponendovi dinanzi un artista una modella o uno spettatore ora l'eseguità che questi conteggi empirici ci restituiscono suggerisce la possibilità di una ricerca più capillare tra le fonti fotografiche pubblicate nelle riviste italiane d'arte gli esempi che si schedano sono tutto sommato poco numerosi specialmente dal 65 a ritroso per quanto concerne ad esempio il fondamentale momento di diffusione delle prime foto minimaliste sulle riviste italiane le fonti principali restano essenzialmente due la cosmopolite ed avanzata anche dal punto di vista fotografico metro di Bruno Alfieri e la meno nota rubrica tenuta da Lucy Lippard che si chiamava Notizie da New York su Dark Agency dal luglio 65 al giugno 67 uno dei primi articoli a coprire l'intera casistica delle foto qui esaminate con foto di installazione d'ambiente ed allestimento era apparso nel numero 10 di metro dell'ottobre 1965 il testo firmato dallo stesso Alfieri era una recensione sulle stagioni artistiche di New York e Parigi appena trascorse il taglio da reportage era però basato con ogni probabilità sulla visione indiretta delle mostre avvenuta grazie al materiale fotografico che per ammissione dello stesso Alfieri gli avevano inviato la Leo Castelli Gallery e la Green Gallery di New York alla loro programmazione si riferivano tutte e quattro le foto più ambientali le prime tre testimoniavano una sequenza di altrettante personali tenutesi da Castelli dal marzo al giugno del 65 nell'ordine Raising Cars di Salvatore Scarpitta la sala con F111 di James Rosenkist e l'installazione Oracle di Robert Rauschenberg la quarta foto riguardava la fondativa personale di Robert Morris alla Green Gallery tenutasi a cavallo tra il 64 e il 65 più nota nelle fotografie scattate dal punto di vista diametralmente opposto a quello scelto da metro nell'esprimere il vincolo tra l'installazione e lo spazio della galleria la foto sarebbe stata di per sé epocale se non fosse che Alfieri avesse poi dimostrato l'impreparazione critica non sua probabilmente ma di una generazione a decodificarne la novità interpretando quelle forme sulla scorta di una visione quasi da sintesi delle arti o futurista come derivata da cito forme quotidiane di design e dai loro cito sempre dettagli plastici formidabili un simile fraintendimento non è certo biasimabile Alfieri come la gran parte dei suoi colleghi italiani all'epoca non possedeva una conoscenza del dibattito modernista americano tale da poter accedere al ragionamento minimalista né come si è cercato di chiarire la cultura visiva italiana era pronta a cogliere col solo ausilio delle fotografie gli aspetti più ambientali che l'allestimento di Morris implicava ma questo episodio peraltro isolato attesta anche quanto l'origine della fotografia di installazione ed environment non trovi in Italia quasi nessuna continuità con la bassa ricezione del minimalismo le stesse corrispondenze della Rippard su Dars Agency restituiscono in un anno e mezzo solo un paio di minimali interessanti spesso concentrati scultoriamente sull'oggetto piuttosto che sul contesto come l'articolo di Metro suggerisce la ricorsività maggiore di questa tipologia di foto tra anni 50 e 60 va forse cercata in altre due direzioni la prima potrebbe essere quella che la impiegava a corredo visivo della recensione e la seconda quella di veicolo promozionale per le gallerie private in via del tutto provvisoria si potrebbe affermare che la prima direzione di ricerca quella delle recensioni non ha sinora dato risultati soddisfacenti mentre è stata la seconda a liberarsi quella più diffusa sulle riviste la fotografia degli allestimenti infatti al di là del suo scopo architettonico era uno tra i soggetti più funzionali alla pubblicità delle gallerie d'arte e come tale veniva ancora impiegata ad esempio nel 68 da Genenzo Sperone si trattava di una forma abbastanza consolidata quanto sottile di marketing nel quale le gallerie in luogo di concentrare l'attenzione feticistica sull'oggetto d'arte veicolavano piuttosto la riconoscibilità della galleria come luogo di mediazione raffinato moderno o anticonvenzionale se i primi esempi del dopoguerra li troviamo in casi pressoché unici su arti visive una ricerca su fonti precedenti andrebbe comunque condotta ovviamente la prima galleria che impiegò tale strategia in modo subliminale fu probabilmente la Leo Castelli Gallery di New York fu a partire da alcune foto su Appia Antica sino a quelle di Metro e oltre che Castelli ebbe l'intuizione di diffondere e promuovere la propria attività espositiva attraverso le foto degli allestimenti realizzati in galleria non si trattava solo di testimoniare con fedeltà documentativa la novità ambientale introdotta dalle opere ma di procedere di pari passo con una inedita forma di promozione ad essere trasmesso attraverso l'introduzione della cartesi ad esempio nelle didascalie era lo stesso brand della galleria in quanto luogo fisico e riconoscibile sempre più in grado di conferire la propria aura istituzionale agli oggetti che vi erano esposti dentro da questi primi sondaggi dunque si può quantomeno avviare su nuove basi meno deterministiche il problema della fotografia di installazione d'ambiente in Italia la sola evoluzione in senso ambientale o installativo dell'arte degli anni 60 infatti non è sufficiente a dar conto di un genere fotografico che si forma a contatto con altri generi che prescindono dalla fedeltà documentativa nei confronti dell'opera come il reportage mondano o la foto di interni a scopi commerciali chiudo con questo caso un caso paradigmatico a mio avviso in tal senso si trova ancora nel 1969 cioè oltre le date che io ho indagato e quando Claudio Abate fotografa per la rivista Carta Bianca i 12 cavalli esposti al lattico da Gianni Scunellis nel suo contesto editoriale d'origine era una rivista pubblicata da quella stessa galleria di Fabio Sargentini il celebre scatto con i cavalli in stabulazione acquista nuove connotazioni qui la veduta è parte di una sequenza che documenta un'azione più che un allestimento allo stesso modo la foto come molte in quelle rivista serve a palesare tutto l'anticonformismo delle scelte espositive di Fabio Sargentini e infine l'inquadratura così rifilata sui lati mi riferisco alla foto centrale quella più famosa e dal soffitto così incombente presa dalla scaletta in fondo alla galleria nell'intento di cogliere quanto più possibile dell'insieme non è forse quel fedele testimone come oggi noi pensiamo delle scelte poetiche di Cunellis c'è il corrimano sotto la foto è sbilenca in realtà viene sempre tagliata raddrizzata e viene tolto il corrimano probabilmente è stata fatta con la camera in mano da reporter quasi in modo diciamo più dinamico Claudio Cintoli nella relativa recensione aveva le sue ragioni a spiegare la similitudine tra le prime tele con lettere nere cito appoggiate alla ruvida preparazione bianca e cito ancora i dodici cavalli disposti nel volume bianco livido e allucinante di un ambiente la fotografia forse non aveva ancora sovvertito le funzioni del testo e dell'immagine per non molto ancora al testo era demandata la descrizione formale dell'opera e alla fotografia il racconto visivo dell'evento oggi questi rapporti sono forse inesorabilmente invertiti vi ringrazio grazie a Dennis per questa comunicazione che mi ha molto eccitato perché naturalmente vorrei mezz'ora solo per parlare e discutere dei temi di questa no 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 nessuna obiezione ma invece come dire sono molto contenta di questa sua comunicazione e spero che ne parleremo forse se lei è qui stasera anche in un teta teta una cosa fra le tante che mi sono appuntata volevo scegliere come elemento di come dire meditazione riflessione poi Tiziana Serena che non vedo ma è qui sicuramente anche se nascosta ah eccola là lei ha cominciato contrapponendo Mulas a un fotografo sconosciuto Romagnoli siccome io in questi in questi mesi occupandomi degli archivi fotografici mi imbatto continuamente in fotografi che non so chi sono ma Tiziana Serena qualche volta mi dice che lei lo sa e comunque scopro che sono fotografi che alla data 1964-65 da dieci anni facevano un lavoro da professionista mischiando come dire reportage nelle borgate romane piuttosto che alle partite di calcio o alle manifestazioni politiche o alle inaugurazioni allora forse una delle strade è veramente quella di capire se attraverso questo questa professionalità che noi oggi stentiamo a riconoscere invece non si formi un linguaggio che poi rispetto a quello come dire codificato di Mulas perché anche Mulas all'inizio comincia in un altro modo probabilmente invece è molto più interessante per documentare lo spazio e le azioni nello spazio perché in realtà quando lei appunto diceva che conta più forse la fotografia di reportage che un canone di fotografia di opera d'arte io ero molto d'accordo e mi venivano in mente molte cose ma questa è solo una delle tante poi spero che potremo ritornare allora adesso viene a parlare Duccio Dogheria che fa parte di una squadra che è stata determinante per Capti perché arriva dal Mart dove un'istituzione a cui tutti noi siamo debitori tutti noi vorremmo andare dentro il Mart a lavorare e soprattutto Duccio Dogheria parlerà di uno degli argomenti più interessanti cioè per quello che ho capito anche scambiando qualche parola con la sua collega Pettinella dell'integrazione fra archivi diversi cioè riviste che diventano opere d'arte e tutto quello che nell'archivio è collegato a queste iniziative grazie un attimo solo che cerco di mettere la piena a schermo intero ecco qua beh io ringrazio innanzitutto gli organizzatori di questo convegno Giorgio Baccio in particolar modo un convegno che per noi è stata innanzitutto un'occasione per approfondire una parte del nostro patrimonio ancora ingiustamente devo dire poco indagata e valorizzata quella relativa alle raccolte di riviste d'artista del secondo novecento parlo al plurale perché questi periodici sperimentali sono presenti in molti dei nostri fondi librari nell'archivio di nuova scrittura di Paolo della Grazia un deposito ventennale al Mart appartengono a questa raccolta circa 300 riviste d'artista del secondo novecento oltre che buona parte dell'editoria futurista che conserviamo un'altra ottantina di titoli di periodici sono conservati nella biblioteca di un'altra collezionista la Bresciana Tuglia Denza e molti altri periodici d'artista sono infine conservati nei fondi librari di alcuni artisti da Stelio Maria Martini Ugo Carrega Pablo Eciauren e in un certo ultimo Enrico Baia la cui biblioteca è arrivata in dono al Mart insieme al corposo archivio devo dire un paio d'anni fa bene io vi mostrerò un discreto numero di immagini e la metà ve la sicuro rispetto a quelle che avevo messo inizialmente per non sforare un po' troppo i tempi e questo per evidenziare da una parte la ricchezza tipologica ma anche geografica di questi periodici e dall'altra per sottolineare appunto le profonde connessioni tra riviste d'artista e documenti e documenti che pure conserviamo documenti che rimandano da una parte al work in progress di alcuni di questi periodici ci sono scritti e contributi grafici destinati alla pubblicazione corrispondenza tra redattori perfino verbali di riunioni di redazione e in qualche caso anche menabò originali di alcuni di questi fascicoli altri documenti rimandano invece a un tema non meno interessante devo dire che è quello della circolazione molto ristretta dobbiamo essere sinceri nell'ambito dell'eseditoria spesso una circolazione da artista artista o da collezionista ad artista raramente parliamo di riviste che si trovavano appunto in commercio nelle nelle librerie se si può mettere a ecco perfetto e vedremo quasi esclusivamente immagini relative a periodici d'artista avvio anche il timer e del secondo novecento vorrei però partire da questa rivista che forse conoscerete in quanto oltre a essere una delle nostre ultime acquisizione all'interno dell'archivio di nuova scrittura rappresenta per molti versi un punto d'inizio la si può considerare peccato non ci sia più in sala Paola Pallottino sarebbe stato argomento di discussione dicevo la si può considerare per morti vesti la prima rivista d'artista pubblicata a Parigi tra il 1901 e il 1912 la quasi totalità dei numeri ben 600 delle Asset Burr furono affidati di volta in volta a singoli illustratori e troviamo che la ornarono con immagini altro fattore molto importante a piena pagina o a doppia pagina quindi con una predominanza assoluta dell'immagine sulla parola relegata sintetizzata in epigrammatiche didascalie e dicevo troviamo attivi sulla rivista i principali illustratori del tempo da Jules Chérea Giosso Grandjuan Livornese Leonetto Cappiello ma anche artisti di un certo spessore Van Dongen Kupka un giovane Ardengo Soffici Joan Gris e Félix Vallotton vediamo qua uno dei dei numeri illustrati da Vallotton il numero illustrato da Vallotton entriamo però nel vivo appunto nel secondo novecento finalmente con una serie di riviste d'artista che in qualche modo rappresentano un continuum con le sperimentazioni tipografiche futuriste riviste in cui l'attenzione è posta non tanto nel contenuto della parola scritta quanto nella sua dimensione fonetica e soprattutto tipografica mi riferisco in particolar modo alle riviste della poesia concreta vediamo a sinistra la brasiliana Noigandres dei fratelli De Campos e Decio Pignatari conserviamo l'archivio del novecento anche l'altra importante rivista di poesia concreta brasiliana che è Invensao sulla sulla destra invece una rivista che ci rimanda all'internazionale elettrista La Lettre di Maurice Lemaitre 37 fascicoli pubblicati tra il 62 e il 68 una rivista anche molto agile sono fogli al ciclostile vedete la rilegatura a una semplice punzonatura metallica la povertà materica di molte di queste riviste è un fattore davvero comune appunto a molti periodici e legati sempre alla poesia concreta è anche quest'altra rivista la scozzese Poor Old Tired Horse dell'artista Ian Hamilton Finlay e sulla destra uno dei primi documenti collegati appunto a questi periodici si tratta di una lettera dell'editore a Marco Fraccaro Marco Fraccaro l'archivio di Marco Fraccaro è stato uno dei primi era molto noto a livello internazionale già un archivio di editoria sperimentale era già molto noto alla metà degli anni settanta Fraccaro era rettore del collegio Cairoli di Pavia era un genetista però appassionato all'editoria sperimentale dal futurismo appunto alla sua contemporaneità e l'editore allega alla lettera lo vedete sulla destra una lista di tutte le pubblicazioni oltre della rivista che erano appunto pubblicate dalla private press di Finlay la Wild Outorn Press e Fraccaro ne acquisterà oltre 150 oltre appunto alla rivista Pure Old Tire Horse che oggi sono per fortuna Rovereto l'archivio Fraccaro è stato acquistato è confluito negli anni 90 nell'archivio di Nuova Scrittura e ben 200 delle 300 riviste di cui è composta appunto questa raccolta provengono ab antico dall'archivio Fraccaro un'ultima rivista legata alla alla poesia sperimentale alla poesia concreta è la giapponese V fondata già nel 1935 da Kitasono Katue e solamente però negli anni 60 nei primi anni 60 avrà una svolta sperimentale la fianca una fotografia che proviene dall'archivio dall'archivio di Ugo Carrega Ugo Carrega è stato un altro esoeditore attivo fin dalla fine degli anni 50 in Anna Eccetera la rivista degli Oberto a Genova e questa fotografia documenta il gruppo gli artisti che facevano riferimento al gruppo V mentre stanno allestendo una mostra nello spazio sperimentale in una galeria sperimentale che va aperto Carrega a Milano il centro Tull siamo nel 1972 cambiamo decisamente genere e veniamo in Italia documenti d'arte d'oggi rivista del movimento arte concreta tutti i numeri di questa rivista non uscirono è una rivista poi annuale non uscirono solo quattro fascicoli tra il 54 e il 58 dicevo ogni numero di questa rivista contiene delle grafiche originali di vari artisti che facevano appunto a capo la rivista troviamo Fontana Veronesi e Soldati Munari vedete qui una delle sue sculture da viaggio intercalate tra le pagine dell'ultimo numero una rivista devo anche dire molto rara a trovarsi in tutto il pubblicato ed è stata una delle tante sorprese che ci ha riservato la biblioteca di Enrico Bai dalla biblioteca di Enrico Bai proviene anche tutto il pubblicato del gesto la rivista del movimento arte nucleare di cui Bai fu appunto uno dei protagonisti vi ho proposto sulla sinistra il terzo numero con questa copertina molto sperimentale traforata da Fontana e nell'archivio Bai sono molti i documenti che si riferiscono appunto al gesto ci sono divertisman come questo acrostico di Raoul Haussmann dedicato alla rivista e inviato a Bai nel 58 ma ovviamente anche molta corrispondenza che getta luce su vari aspetti legati alla rivista a sinistra trovate una lettera molto bella anche dipinta di Guido Biasi lettera che attesta i rapporti tra il gruppo del gesto il testo si fa appunto riferimento alla rivista i rapporti tra il gruppo del gesto quindi l'avanguardia artistica milanese e quella napoletana legata al gruppo 58 si parla anche di Persico e di Luigi Castellano Luca nel testo della lettera l'altra lettera sulla destra invece è di Gastone Novelli e documenta appunto questo scambio un po' alla pari rivista per rivista che ricorre in molti archivi Novelli chiede a Bai copia del gesto e offre in cambio l'esperienza moderna che è la rivista che stava facendo al tempo con Perilli la carta intestata non so se si legge appunto rimanda a questo periodico e l'esperienza moderna una delle riviste che abbiamo poi prestato per la digitalizzazione Incapti Incapti è confluita anche il documento Sud così come Linea Sud e Quaderno tutte e tre riviste fondamentali per comprendere per indagare l'avanguardia artistica nel mezzogiorno la rivista appunto è promossa da Luigi Castellano Luca un po' anche Linea Sud che vedremo dopo e nell'archivio di Stelio Maria Martini che è stato uno dei forti collaboratori di questa rivista è conservato il menabò originale di questo numero a volte però gli archivi si intrecciano e questo è il caso appunto già lo ricordavo prima del rapporto tra Milano e Napoli queste sono due lettere che provengono dall'archivio di Enrico Bai che si riferiscono a documento Sud e che gettano luce sulla miseria economica che era un'altra delle caratteristiche di molte riviste legate all'eso editoria vi leggo velocemente se riesco dal punto uno della prima lettera all'ultimo paragrafo abbiamo sbagliato i conti o meglio le vendite non hanno scoperto neanche un terzo delle spese anzi peggio le coppie spedite gratis sono state incredibilmente numerose ovvio nella parte destra invece forse questa riesco a leggerla da qui leggo dall'inizio sulle vendite non possiamo contare perché il venduto a Napoli del primo numero la rivista era stampata e diffusa soprattutto a Napoli le vendite del primo numero la vendita del primo numero si aggira intorno alle 8-10 copie abbiamo mandato copie per vendita a Milano ad un amico del Manzoni e a Roma Emilio Villa ha pensato a darle a qualche libreria del centro senza specificare quale esatto non sappiamo ancora niente circa il venduto pur essendo le copie inviate una quarantina circa comunque numeri molto modesti ecco accennavo prima a linea sud e anche di questo di questa rivista appunto pure confluita in capti conserviamo il menabo originale di di quest'ultimo di quest'unico numero e anche qui nell'archivio di Stelio Maria Martini moltissimi documenti anche documenti grafici a sinistra sono due Dattilo Poemi di Pierre Hils-Garnier due poeti concreti francesi vedete sulla cartelletta annotato a mano pur le numero della Nouvelle Poesie Européenne della linea sud a Mario Diacono e Stelio Maria Martini appunto firmata da Pierre Garnier sulla destra invece la trascrizione di un carme figurato medievale realizzato da Luciano Caruso pubblicata prima volta su linea sud e poi raccolta in volume successivamente nel 69 se non erro da Lerici dopo documento sud e linea sud Luigi Castellano progetta la comune sud rivista particolare perché non vide mai la luce nell'archivio di Stelio Maria Martini è comunque documentato appunto anche l'inedito cioè il menabò dell'intero numero ecco abbiamo visto finora riviste a redazione ovviamente collettiva l'archivio del novecento documenta anche qualche caso di rivista che espressione di un solo artista il primo caso che vi propongo è tu numero e uscirono solo due fascicoli tra il 64 e il 65 rivista poco presente anche nella bibliografia sulle riviste d'artista e la numerazione 9 e 10 è ovviamente fittizia vedete anche la povertà di queste riviste sono realizzate al ciclo stile contengono disegni e scritti di Ben Votier rilegati con questa povera clip metallica e anche questa rivista proviene dalla biblioteca di Enrico Bai ecco un caso italiano di queste riviste d'artista one man show è la gazzetta ufficiale di Luca Patella con questo titolo volutamente burocratico che cozza un po' anche con certe soluzioni creative queste non sono tre numeri diversi sono tre copie del quarto numero della rivista che Patella ha pensato bene di impreziosire con degli avanzi di carta da parati di vario ornato che evidentemente aveva a disposizione passiamo un'altra tipologia di riviste d'artista che conserviamo ne abbiamo direi una decina circa che sono le riviste legate alla poesia sonora e che contengono dei materiali audio originali la più nota è sicuramente U di Henri Chopin precorre peraltro anche le riviste contenitore ogni numero di U contiene conteneva dei dattilopoemi dei manifesti ripiegati più volte in tutti i numeri anche un disco con delle tracce sonore di Chopin e anche di altri autori molto bello questo numero il 34 35 se non erro che ha la copertina che è un rilievo plastico di Gianni Bertini e anche di U abbiamo quella qualche documento una lettera di Chopin a Marco Fraccaro già ricordato relativa alla vendita di un numero e a sinistra una pubblicità editoriale ecco pubblicità editoriali cataloghi editoriali cataloghi di librerie legate al circuito dell'esueditoria anche di questi documenti ne abbiamo davvero molte centinaia in vari fondi e sono devo dire strumenti fondamentali per l'analisi una puntuale analisi del pubblicato di queste riviste oltre che del pubblicato devo dire anche di ciò che è stato immaginato pubblicizzato ma poi mai dato alle stampe come nel caso precedente della comune sud di Luca un caso in italiano di rivista di poesia di poesia sonora è Baobab rivista in forma di di audio cassetta abbiamo anche esempi tedeschi e francesi oddio adesso ho cambiato la modalità e anche questa immagine è affiancata da una pubblicità editoriale a sinistra qua modalità schermo intero no no vista no ecco vado giù 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 qui la cicita avanza ecco questa rivista i primi fino ai primi anni 90 è stata appunto diretta da Ariano Spatoli inseguito da Ezio Minarelli questa ma anche la precedente sono poi riviste che hanno connesse tutta una serie di problemi legate ai supporti alla riproduzione perché per essere fruite necessitano di un di un giradischi di un mangiacassette e quindi sarebbe bello anche poi digitalizzarle e rendere fruibili chissà per un capti futuro ecco un'altra tipologia di queste ne abbiamo almeno una ventina devo dire sono le cosiddette riviste contenitore o assembling press assembling press perché assemblano di fatto dei contributi di varia natura grafici ma anche poetici inviati direttamente dagli artisti in un determinato numero di copie la più nota delle riviste contenitori italiane è sicuramente Geiger dei fratelli spatola insieme a Tecne di Eugenio Miccini in questa stampata e diffusa a Firenze la fianca un documento a firma di Maurizio spatola che attesta un'altra delle pratiche legate all'esu e all'esu editoria ovvero sia la distribuzione anche di altre riviste e Maurizio spatola segnala al solito Marco Fraccaro che Geiger è anche distributore ufficiale per l'Italia di Docs che è un'altra rivista d'artista che conserviamo di poesia visiva pubblicata in Francia da Julien Blaine il caso più noto la rivista contenitore più nota insieme a Aspen che purtroppo non possediamo è SMS Shit Must Stop promossa da un gallerista legato al surrealismo al dadaismo un gallerista new yorkese William Coupley che nonostante appunto il suo ruolo tentò di superare il sistema appunto delle gallerie mettendo direttamente in relazione gli artisti coi collezionisti tramite appunto una rivista che si presenta come un folder e ogni numero ne uscirono sei nel corso del 68 poi fallì dal punto di vista economico dicevo ogni numero contiene dei multipli in polimaterici una dozzina di multipli polimaterici di vari artisti troviamo Duchamp troviamo Man Ray Cossut Bayer Armand Christot molti protagonisti dell'arte dell'arte del tempo Enrico Bayer vedete sulla destra un cappellino in plastica serigrafata di Roy Lichtenstein e qui sulla destra il multiplo di Bayer che è questo guanto in plastica inserito in una busta trasparente rosa e nell'archivio di Enrico Bayer c'è un fascicolo col carteggio tra Bayer e Coupley relativo appunto alla genesi di questo multiplo sono una serie di lettere scusate nuovamente voilà passiamo a un'altra tipologia ancora di rivista devo dire un caso un po' a parte sono le cosiddette riviste riviste manifesto o giornale murale dicevo ex un caso a parte in quanto i primi tre fascicoli hanno un formato tradizionale il quarto numero grazie a un'intuizione di Magdalo Musio questo formato a scatola oblunga che contiene però arrotolate uno sull'altro una serie di manifesti ciascuno realizzato da un diverso artista il quinto numero che fu anche realmente poi affisso nelle strade assembla su un unico foglio che presenta per molti aspetti anche l'illegibilità i contributi di più artisti che sono poi elencati nella parte centrale troviamo appunto Martino Berto Caruso Villa Spatola e altri ancora la rivista la rivista d'artista giornale murale più noto tra quelli italiani però indubbiamente Continuum promosso da Caruso e Martini ma con la collaborazione anche di Villa e altri anche in questo caso ogni numero si tratta tranne di un numero di manifesti in gran formato 100 per 70 ogni numero dicevo anche in questo caso assembla contributi di più artisti su un unico foglio e anche Continuum fu poi realmente affisso nelle strade passando quindi da una fruizione privata fetticistica a una pubblica e gratuita sulla destra vi ho messo un frame che ho catturato da un film d'artista che abbiamo di Martino Berto prima dell'anarchia l'ho trovata anche in rete del 68 Berto in questo documentario un po' sui movimenti studenteschi fa delle riprese in strada e accanto a una serie di manifesti del movimento studentesco si coglie a un certo punto il numero zero di questa rivista appunto incollato per strada abbiamo parlato di contestazione Giorgio Bacci ci parlerà poi nel promeriggio di un'altra rivista molto militante che è appunto lotta poetica e altre riviste che conserviamo rimandano appunto alla cosiddetta controcultura e sono riviste comprese cronologicamente tra il 67 e il 77 la più nota è probabilmente Pianeta Fresco promossa da Sozza Spivano Ginzburg ma anche con contributi di Pistoletto Archizum e altri artisti ancora una rivista dalla grafica come potete vedere in questa antologia di pagine sulla destra altamente psichedelica che guardava poi anche a modelli esseri soprattutto anglosassoni penso alla londinese Oz o a San Francisco Oracle rivista californiana altri due casi di riviste legate alla controcultura a sinistra Puts promossa da Max Kappa una rivista d'area situazionista che pratica il detournement utilizza il fumetto come veicolo di messaggi politici un po' come faceva poi negli stessi anni anche Gian Emilio Simonetti sulla destra il numero unico di OASC rivista invece uno dei tanti fogli pubblicati nel corso del 77 dai cosiddetti indiani metropolitani rivista promossa principalmente da Pablo Echauren rivista confluita anch'essa in incapti e pur essendo un numero unico ha dato poi anche qualche problema pratico infatti oltre al linguaggio che si autodefinisce maodadaista è stato davvero difficile capire chi scrivesse i testi perché poi erano firmati con pseudonimi e con solo nome di battesimo ma perfino dove inizia un testo e dove finisce forse non dà molto non dà molto l'idea questa pagina ma se lo sfogliate appunto online ve ne renderete conto infine qui chiudo qualche rivista d'artista contemporanea a dimostrare anche una un certo interesse devo dirlo scontato per quello che sta accadendo in questi tempi questo primo caso è Wipe conserviamo tutti i numeri è una rivista australiana stampata in una quarantina di copie anche questo al suo piccolo documento pur risalendo a pochissimi anni fa è una lettera inviata a Paolo della Grazia il collezionista che ce l'ha poi donata al Mart a firma appunto di questo David della Fiora che è il promotore della rivista che si dichiara onorato appunto del fatto che la rivista sia prodata poi nei nostri archivi questa è una rivista molto sperimentale dal punto di vista tecnico a redazione aperta una rivista inglese vi collabora Cattelangi il Bertangiorgi e altri ancora sperimentale dal punto di vista tecnico perché è stampata a inchiostro bianco su pagine bianche quindi è leggibile solamente tramite l'utilizzo di una lampada UV non fornita tant'è si capisce perché ne uscì un solo numero poi lasciarono perdere Toilet Paper questa forse la conoscerete di Cattelane Pierpaolo Ferrari che è un fotografo di moda la si può invece intendere come rivista d'artista 2.0 oltre alla versione cartacea infatti molto attiva migliaia di follower nei social media oltre che su internet è presente poi anche nel mercato c'è una linea di prodotti per la casa perfino di mobili è stata presentata al Salone del Mobile un paio d'anni fa una linea appunto di prodotti per la casa e di altro merchandising che utilizza immagini dell'era vista ultima immagine point di Roni si ricollega se vogliamo la prima immagine che abbiamo visto la Siette Burr oltre che essere una rivista francese e ogni numero di questa rivista siamo arrivati al 55esimo numero è affidato di volta in volta a un diverso artista troviamo Damien Hirst troviamo Matthew Barney Boltanski e davvero molti altri molti altri protagonisti dell'arte contemporanea particolarità è una free press cioè una rivista a distribuzione gratuita stampata in migliaia e migliaia di copie sono poi quattro pagine su quella carta utilizzata poverissima utilizzata per la pubblicità che troviamo tutti nelle cassette delle lettere finanziata da questa stilista Agnes B insieme a Boltanski e a Hans-Worrich Obrist ho finito vi ringrazio grazie anche per essere stato nei tempi questa carrellata che arriva fino ad oggi in cui credo che uno dei punti di maggior interesse è l'aver toccato con mano anche se un po' virtualmente questa importanza dei nessi fra le riviste e tutti i documenti collegati cioè questo nesso Milano-Napoli che viene ricostruito in modo veramente straordinario non solo attraverso le riviste ma attraverso gli scambi delle lettere che sono intorno a queste riviste devo dire che uno dei punti che ancora non sono stati sufficientemente sondati forse dagli studi ma che invece dovrebbe essere approfondito perché l'avanguardia napoletana della seconda metà degli anni 50 è qualcosa che resta sempre abbastanza tagliato fuori invece come dire si capisce che il dialogo con Milano e anche con Roma è assolutamente fondamentale adesso con qualche minuto di anticipo abbiamo l'intervallo così ci rilassiamo tutti e poi ricominciamo grazie allora Giorgio Bacci interviene su una delle riviste militanti più note ingaggiare le immagini il caso di lotta poetica ora me lo ricordo grazie a tutti dunque entrerò subito nel nel vivo il titolo lotta poetica è l'affermazione del nostro impegno come poeti ed artisti in generale ad impostare una battaglia continua a due livelli a livello linguistico per la distruzione delle strutture culturali della società borghese a livello politico a fianco dell'avanguardia della classe operaia e del movimento degli studenti è con questa affermazione di Isaia Mabellini in arte sarenco che inizia l'avventura di uno dei periodici alternativi più fortunati frutto della collaborazione tra le edizioni a modulo dello stesso sarenco e detta ferronde di Paul DeVray importante poeta visivo belga la rivista pubblicata a Brescia rappresenta uno dei casi più interessanti del panorama esioeditoriale italiano a partire dalla sua longevità il suo primo numero risale infatti al 1971 e dopo varie pause e salti continua a essere pubblicata ancora oggi escludendo le uscite contemporanee è possibile distinguere tre serie la prima dal 71 al 75 la seconda di formato aspetto diverso dal gennaio 82 all'agosto 84 e infine i soli due numeri ma consistenti usciti nel 1987 quindi già appunto dai numeri e dalla quantità di uscite capiamo che ci troviamo di fronte a una situazione particolare rispetto ad altre riviste e questa era distribuita anche in libreria grazie all'appoggio di Feltrinelli che pure lo sfuggirà agli strali di Sarenco e De Vre lotta poetica è in effetti un ottimo termometro per capire e comprendere il lato maggiormente politicizzato della poesia visiva che aveva eletto a proprie guide Marx e Mao con una fede lieninista di fondo a partire da questo dato di fatto più volte ribadito negli anni il periodico diventa un banco di prova e un perfetto trampolino di lancio per generazioni di artisti assecondandone gli spiriti rivoluzionari sulle sue pagine vengono presentati artisti nazionali internazionali non solo poeti verbo visibi ma anche artisti fluxus costruttivisti concretisti e personalità di varia estrazione rimandando agli atti due questioni molto importanti nella tessitura della rivista ovvero le ragioni editoriali organizzative della sua lunga durata e le polemiche storico-artistiche saranno affrontati in questa occasione soltanto due punti nodali l'influenza delle teorie di Walter Benjamin e il possibile ruolo dell'internazionale situazionista una prima spia partendo dal momento più vicino a noi e proseguendo poi a ritroso ci è fornita da un breve saggio di Sarenco intitolato 1897-1997 pubblicato in occasione della mostra antologica mantovana del 1998 dedicata alla poesia visiva in cui l'artista bresciano partendo da un assunto dal sentore beniaminiano come potete vedere identifica in Mallarmé il primo poeta che ha scardinato le convenzioni di scrittura e visualizzazione della pagina tipografica collegandosi così al beniamin di strada a senso unico allorché viene sottolineato che nel coup de dé Mallarmé ha per la prima volta acquisito alla pagina stampa le tensioni grafiche della reclame quel che in seguito hanno tentato i dadaisti in fatto di esperimenti di scrittura procedeva è vero non da un intento costruttivo ma dai nervi puntualmente reattivi deletterati e per questo è stato assai meno costante del tentativo di Mallarmé che invece nasceva dal profondo del suo stile ma le analogie e i potenziali spunti di beniamin per la poesia visiva sono numerosi all'interno della stessa raccolta di aforismi poco dopo il passo appena citato il teorico tedesco associa in un unico meccanismo socioculturale la reclama e la scrittura come elementi della comunicazione su cui poter agire per costruire un sistema percettivo differente la scrittura cito di nuovo che nel libro stampato aveva trovato un asilo dove condurre un'esistenza autonoma dai cartelloni pubblicitari viene trascinata inesorabilmente sulle strade e assoggettata alle brutali eteronomie del caos economico benjamin è d'altro canto citato esplicitamente almeno due volte all'interno di lotta poetica in particolare da alena riamisson nel numero del giugno luglio del 72 e da claus stai che nel settembre ottobre 1974 i due artisti leggono le osservazioni di benjamin riguardo al paesaggio urbano secondo due sfumature differenti da un lato si privilegia un rapporto diretto con la città che va percorsa e attraversata con l'obiettivo di scoprire e proporre percorsi tematici e conoscitivi alternativi rispetto a quelli prefabbricati dall'altro si lavora piuttosto sui concetti di distribuzione e diffusione e quindi sull'arte a larga circolazione modificando e integrando manifesti cartoline cartelloni murali volantini giornali ed altre cose ancora mi soffermerò in questa occasione sul primo dei due quindi Alena Riamisson Alena Riamisson poeta visivo diventato famoso grazie ai suoi public poem veri e propri happening volte a costruire una geografia urbana alternativa a quella ufficiale è presente sull'otta poetica già nel numero dell'agosto 1971 sul quale viene pubblicata una sua manifestazione avvenuta a Madrid in cui dei teli di poliestere con impresse alcune parole sopra erano tirati attraverso una delle strade principali della città spagnola bloccando conseguentemente il passaggio delle automobili il messaggio era veicolato è proprio il caso di dire esattamente dalle macchine che strappando i teli ricostituivano un nuovo ordine poetico all'interno dell'inarrestabile processo di sviluppo urbano siamo di fronte a una destrutturazione del paesaggio urbano che sotto all'evidente richiamo all'urbanismo uniter alla deriva situazionista o ancora prima alla deambulazione di marca surrealista cela anche il flaneur di Baudelaire riletto con gli occhi di Benjamin che a sua volta nella già citata strada a senso unico punta e cito dall'introduzione di Giulio Schiavoni a far colpo sul lettore già a partire da caratteri tipografici che mirano a restituire lo shock del manifesto pubblicitario e dell'affisce è a Ria Misson stesso a svelare i suoi riferimenti nel numero del giugno luglio 1972 aprendo il suo articolo Public Poem accompagnato dalle immagini dell'azione svolta a Pamplona con una citazione tratta dalla Parigi del secondo impero in Baudelaire in cui la versificazione di Baudelaire è paragonata cito alla pianta di una metropoli nella quale ci si può muovere inosservati celati dagli edifici dai passi carrai o cortili come i congiurati prima della rivolta su questa mappa le parole sono assegnate con precisione le postazioni che devono occupare Baudelaire cospira con la medesima lingua ne calcola i risultati passo dopo passo fine della citazione di Benjamin citato da Ria Misson la città è vista da un lato come un prodotto delle classi dominanti spiega ancora il poeta visivo e dall'altro come espressione abitata della storia di un popolo in cui il compito della poesia visiva in linea in effetti con Baudelaire è di evidenziare contrasti e contraddizioni prevaricazioni e assurdità frutto di un multisistemo presseur L'Uansurface proponendo al contempo un originale e diverso sistema semiologico e valoriale un passo oltre è The Beethoven Public Point commissionato a Ria Misson dalla città di Bonn in occasione del bicentenario della nascita del grande compositore l'azione è documentata nel numero del febbraio 75 di Lotta Poetica in questa circostanza l'artista svolge la sua azione a un duplice livello da una parte risemantizza lo spartito musicale riducendolo a contenitore di significanti grafici le note equiparate a lettere dell'alfabeto dall'altra documenta l'azione stessa con alcune fotografie nella maggior parte dei casi sagomate all'interno delle note la sua riflessione si concentra dunque sui simboli musicali letti come un metalinguaggio simbolico in grado di forzare i limiti dei signi pur la musique cioè di segni grafici concepiti in senso strettamente musicale en fait le simboli si signifie Beethoven Beethoven signifie la musique i segni musicali risemantizzati definiscono un nuovo quadro di lettura della città se Aria-Misson affronta la città sul piano dell'azione dimostrativa altri artisti sempre nell'ottica di sovvertire il piano semantico comunemente accettato sviluppano la loro attività agendo sul piano delle immagini mass-mediatiche la città o meglio la mappa di una città nella fattispecie Firenze è ad esempio al centro delle sperimentazioni di Eugenio Miccini autore del piano insurrezionale per la città di Firenze pubblicato nel gennaio 72 su Lotta Poetica l'opera del 71 su una mappa stradale di Firenze il poeta interviene circolettando le varie stazioni della polizia e dei carabinieri con evidenti intenti rivoluzionari in questo caso un riferimento più preciso è da cercarsi nell'ambito del Bauhaus Imaginist e in particolare nel libro Femme de Copenhague e Sede Critique de Tournée frutto della collaborazione tra Jorn e Debord si tratta di un volume tirato in 200 esemplari ma ben noto nell'ambito sperimentale in cui le pagine scorrono e qui cito da Mirella Bandini articolate tra macchie e colature di colore e inserti di immagini fotografiche annunci pubblicitari o di cronaca fumetti e piani della città di Copenhagen le scritte e le immagini tratte dalla stampa e dalla vita quotidiana sono poi deturnate attraverso l'inserimento di scritte influenze situazioniste unite alle consuete riflessioni di stampo beniaminiano e la polemica contro l'arte concettuale sovrintendone invece ad almeno due operazioni di Sarenco la mostra opere copiate sulla sinistra e Sarenco presenta natura morta internazionale nel primo caso si tratta di una reale esposizione svoltasi a Salò nell'estate del 72 presso il centro d'arte Sant'Elmo in cui venivano esposte le copie compiute dallo stesso Sarenco e da Prospero Zuccotti di opere di autori famosi da Cezanne a Van Gogh da Clea a Mondrian da Picasso a Magritte solo per citarne alcuni l'intento della mostra i cui promotori e autori saranno anche denunciati dal gallerista Ettore Jean Ferrari con l'accusa di voler vendere opere false è ben espresso da Miccini nell'articolo sull'arte della mistificazione pubblicato nel numero del giugno luglio 72 e cito Miccini l'operazione di Prospero e Sarenco affronta coscientemente il plagio ma solo apparentemente mistificatoria che anzi vuole stroncare proprio questa storia dell'arte che cresce su se stessa scusate e ne svela i veri o i falsi problemi compiendo una duplice azione di demitizzazione e di demistificazione fine della citazione nello stesso senso procede l'articolo Sarenco presenta natura morta internazionale a destra in cui l'attacco a Morandi già oggetto delle opere natura morta natura smorta e la polemica contro l'arte concettuale si uniscono nella proposta beffarda di una serie di nature morte identiche firmate da diversi artisti contemporanei la garanzia dell'originalità come spiega efficacemente Sarenco è data dalla firma assurta qui demitizzando un intero filone dell'avanguardia a emblema di originalità come potete vedere Sarenco afferma le firme degli artisti su ogni natura morta sono originali e garantite non è un caso naturalmente che quest'opera compaia nel numero successivo a quello in cui è presentata l'esposizione di Salò costituendone un controcanto fedele se volessimo trovare un possibile motivo ispiratore potremmo forse individuarlo nella famosa mostra Vempe in Tirmu di Fie inaugurata nel maggio del 59 a Parigi rispetto alla quale però Sarenco sviluppa il polo concettuale opposto e complementare indagando il tema dell'autorealità in modo diverso mentre infatti Jorn era intervenuto deturnandoli e ridipingendoli su 20 quadri pompieri impressionisti il poeta visivo propone delle copie esatte delle opere in materia di modifica delle immagini Michele Perfetti da un lato sviluppa un dialogo critico con certi meccanismi della pop art e dall'altro rielabora alcune strategie surrealiste intervenendo sulle riproduzioni fotomeccaniche di opere famose con scritte e fumetti e pegandole a motivi di lotta politica tra le opere più famose va segnalata almeno a quando maestro la rivoluzione che vedete qui riprodotta in cui il gesto di San Giovanni di Andrea del Sarto è interpretato in chiave contemporanea anticipando incredibilmente certe cartoline ironiche assai diffuse nelle cartolerie dei nostri giorni l'inserimento del fumetto all'interno di immagini codificate problematizzandole e manipolandole avviene con intento polemico rispetto ai procedimenti della pop art come viene dichiaratamente rivendicato nella rubrica poesia contro fumetto a cura di Luciano Ori in cui sono presentati tre lavori di Luciano Ori stesso di Michele Perfetti e di Lamberto Pignotti L'opera di quest'ultimo tratta dalla serie Franco Bolli sovrappone la scritta Vietnam ai Franco Bolli emessi dalle nazioni direttamente o indirettamente coinvolte nella guerra il Vietnam è naturalmente uno dei filoni maggiormente indagati dai poeti visivi che in questo ricordano molto da vicino evitando di inoltrarsi nella questione delle precedenze artistiche l'arte concettuale in tale contesto va segnalata almeno una delle opere più efficaci ovvero fotoricordo di Lamberto Pignotti la composizione Pennarelli su carta di giornale costituita da un soldato che sta puntando il fucile contro un uomo inerme e da una serie di scritte raffiguranti i nomi di grandi artisti e scrittori italiani compreso Pignotti stesso diventa un atto di accusa contro la civiltà occidentale è una cultura che ha prodotto e permesso l'attuazione di un'efferata barbarie ricordando così la celebre tragica Mbebis dell'Art Workers Coalition che traeva il proprio titolo dalla famosa intervista televisiva a Paul Midlow del 24 novembre 1969 in cui il soldato statunitense rievocava e ammetteva la strage del villaggio vietnamita denominato dagli americani mailei in realtà appunto Son Mi avvenuto il 16 marzo 1968 naturalmente non vengono documentate solo le guerre ma anche le dimostrazioni studentesche e operaie di cui è attento osservatore tra gli altri di nuovo Sarenco che interviene sul rapporto tra didascalia e immagine seguendo i precetti beniamiliani un classico esempio rappresentato dalla serie intitolata Poetical License la vedete a sinistra in basso che ribalta la comune percezione dell'avvenimento un atto di violenza giustificandola appunto come licenza poetica è lo stesso criterio a parti invertite utilizzato per un'altra opera famosa la famiglia della vittima è stata avvertita che vedete a destra in cui la fotografia dell'uccisione a freddo di un guerrilliero porta la scritta sovrimpressa che dà il titolo alla composizione l'impegno politico di Sarenco può a tratti sconfinare nell'intimidazione e nella minaccia come dimostra identificazioni politiche che vedete sulla sinistra pubblicato all'interno della rubrica poesia pubblica poesia politica che ritrae Aldo Albanese cito dalla didascalia maresciallo della questura capo della squadra politica nemico del popolo agente della scia in Italia è responsabile di parecchie denunce politiche contro operai studenti ed il sottoscritto la scheda segnaletica è completata dall'indirizzo e dal telefono qui il riferimento non è più ovviamente soltanto artistico ma chiaramente politico è un linguaggio e uno stile da lotta continua tuttavia Serenko marxista e leninista convinto è capace anche di opere autoironiche come nel caso in cui al suo libretto universitario con l'iscrizione alla facoltà di filosofia è associata alla citazione da Marx il poeta è un filosofo fallito è finita la filosofia da ora da ora comincia la storia c'è forse una polemica e un'opera ad essa collegata che più di altre si presta a fare da ideale conclusione del presente contributo ed è la controversa vicenda legata a un eventuale ruolo di Enea Ferrari come involontario precursore di Manzoni a questa viene dedicata la rubrica Enea Ferrari e Piero Manzoni ovvero come si costruisce e si lancia a livello di mafia un falso prodotto artistico apparsa per la prima volta nel novembre del 71 sull'Otta Poetica Sarenco naturalmente non manca di prendere posizione esplicitamente come si vede dal titolo e di citare come protagonista in negativo di questa operazione anche Germano Cielant e Palma Bucarelli in quanto autori di alcune cose cito alcune cose sul catalogo della mostra di Piero Manzoni a Roma che sono volgarmente false alla morte di Enea Ferrari avvenuta il 6 agosto 1972 lotta poetica pubblicherà un necrologio ironico accompagnata da un'opera ideata in collaborazione da Sarenco e di nuovo Zuccotti in grado di sintetizzare la critica corrosiva la polemica contro le vote operazioni di mercato il riutilizzo dei materiali massmediatici e la loro deturnazione mediante l'inserimento di scritte sovrimpresse si tratta di più bianco non si può che riutilizzando la celebre pubblicità dello smacchiatore Dash mette la parola fine alla cherella iniziata l'anno precedente grazie vuoi dire qualcosa detersivo ah detersivo no smacchiatore allora grazie a Giorgio Baci per ehm questo intervento così eh di sfida perché adesso siamo c'è stata una progressione in questo pomeriggio eh e siamo arrivati anche alla sfida di lotta poetica quello che mi chiedevo soprattutto quando è passata la pagina in cui c'erano le opere di eh Miccini e eh Pignotti anche Lucia Marcucci se non sbaglio in basso a sinistra eh se forse non si può riflettere quale sia la progressione da una certa sperimentalismo del gruppo settanta che pure lavorava su questo capovolgimento di senso nell'abbinamento di Diascalia Immagini e eh il gruppo di lotta poetica di Sarenco perché poi molti del gruppo settanta transitano nelle pagine eh di lotta poetica proprio con un slittamento di senso e delle procedure fra immagine e testo che mi sembravano molto come dire c'è un'analogia anche se poi lotta poetica c'è una spinta politica molto più forte comunque c'è un forte legame tra tra appunto gruppo settanta e lotta poetica molti degli artisti come dice giustamente passano dall'uno all'altro meglio vengono cooptati da Sarenco in questa rivista che diventa poi un vero e proprio diciamo manifesto politico sì e quindi il lato maggiormente politicizzato del gruppo settanta poi viene esaltato ancora più sottolineato c'è una fortissima contrapposizione naturalmente dal gruppo sessantatré e al gruppo dei novissimi e soprattutto anche a un certo gruppo di poesia visiva con cui mi sembra che lotta poetica nell'editoriale del primo numero sia molto dura cioè trova che certa poesia cosiddetta visiva o visuale perché poi queste definizioni sono già al tempo sono oggetto di grandi discussioni la considerano invece assolutamente borghese questo è quello che loro dicono se non sbaglio sì poi in realtà la questione diventa particolarmente intricata perché lotta poetica scusate ma questi sono i germi del pargolo che mi hanno contagiato diciamo appunto lotta poetica diventa un contenitore dove in successione un po' tutti gli artisti cercano di specificare una loro originalità e quindi contrapporsi all'altro e specialmente in lotta poetica all'arte concettuale esatto che è vista come il grande nemico è vista addirittura come il movimento che ha plagiato la poesia visiva effettivamente in lotta poetica per poesia visiva si intende sempre una manifestazione che è politicamente ingaggiata nella contemporaneità e su questo Sarenco torna moltissime volte anche ricollegandosi alle polemiche successive diciamo alla seconda guerra mondiale fino all'anni 40 inizio all'anni 50 che prima erano state citate e quindi al ruolo del partito comunista in Italia contro cui sono contro cui sono sono durissime beh sono posizioni da militanti di lotta continua per questo probabilmente credo che sono d'accordo con lei quando ha deciso di leggere cioè di scegliere come una delle chiavi di lettura questo e Benjamin e soprattutto l'aggancio a Baudelaire e all'idea della mappa della città era una delle ipotesi che però mi sembra che come dire scarti anche molto bene come dire l'equivoco di una contrapposizione politica destra-sinistra perché poi alla fine lì si scarta su un piano che è anche quello del surrealismo e di altre cose allora adesso credo che recuperiamo con Paola Pettenella e faccio questi giochi di prestigio allora non ha bisogno di molta presentazione perché tutti sappiamo che è Paola Pettenella che è la chief curator della degli archivi storici del Mart se non sbaglio e quindi anche lei ha come dire una delle colonne del progetto CAPTI buonasera a tutti a me spetta appunto cambiare registro abbiamo potuto ascoltare veramente una serie di interventi di approfondimento e di studio di temi particolari non è appunto questa la mia funzione io vengo rappresentando uno degli istituti conservatori che hanno collaborato a questo progetto in particolare il Mart ha stipulato convenzioni con tre dei quattro partecipanti al progetto FIRB CAPTI diffondere la cultura visiva diciamo che con la normale di Pisa e con l'Università di Udine si è concordata la digitalizzazione di alcune riviste molto ha già detto prima Duccio Dogheria sulla presenza di queste raccolte presso di noi le convenzioni inizialmente contemplavano nelle lettere di intenti iniziali la digitalizzazione di esperienza moderna di appia antica di azimuth e appunto di lotta poetica di cui ci ha appena parlato Giorgio Bacci ma si trattava già in partenza di una lista aperta alla quale via via si sono sommate una serie di riviste quaderno documento sud a cui faceva accenno prima Duccio Dogheria linea sud marca 3 metro data e infine OASC che appunto è arrivata in tempi recenti al Marta attraverso una donazione di Pablo e Ciauren per contro con l'Università di Siena e ci tenevo a parlarne visto che poi anche la giornata di domani sarà dedicata a questo grazie a una perlustrazione in realtà trasversale attraverso vari fondi documentari fatta da Davide La Cagnina che fa questa ricerca legata all'attività critica di Vittorio Pica sono entrati in capti materiali provenienti da altri fondi mi rendo conto che le didascalie sono minuscole comunque in questa pagina intendevo mostrarvi almeno un esemplare della corrispondenza fra Vittorio Pica e Vittore Grubici il Marta conserva il fondo di Vittore Grubici le Dragon e alcuni cataloghi di mostre piuttosto rari provenienti dal fondo di Margherita Sarfatti grazie proprio alla collaborazione con Davide La Cagnina riconoscete qui una pagina del portale di Capti sono state anche rese attivi abbiamo cominciato con lui ma naturalmente è un lavoro che verrà fatto poi in generale dei link con altre banche dati adesso avevo anche qui riportato i link ma insomma credo che posso risparmiarveli e che potete vederli poi direttamente sia col catalogo bibliografico Trentino dove sono catalogati normalmente sia le nostre riviste che i cataloghi sia ad elenchi di uso interno particolare con lo scarico di tutti i materiali attinenti ai fondi librari sia infine con il sistema informativo del il sistema informativo del nostro dei nostri archivi dove appunto i singoli documenti ritrovano anche una descrizione di contesto qui c'è la descrizione della cartolina di Pica a Carrà che vi ho mostrato prima ecco questo è il catalogo integrato degli archivi del Mart con l'elenco dei fondi ecco vorrei tornare a questo perché siamo stati interpellati credo che siamo stati interpellati come partner di questo progetto per un'ampiezza di raccolte che in parte avete già potuto vedere attraverso l'intervento di Duccio Dogheria il Mart conserva una sessantina in questo momento di fondi archivistici e librari molto spesso insieme ai fondi documentari giungono anche le biblioteche e possono essere scorsi e questo è l'ultimo collegamento che vi voglio proporre attraverso queste pagine del museo in cui in ordine alfabetico vengono descritti molto rapidamente i vari fondi che conserviamo e che sono legati ad alcuni filoni peraltro descritti anche in una pagina di capti dedicata agli archivi sonori in una presentazione generale e che riguardano appunto il futurismo un po' all'origine delle raccolte documentarie del museo l'architettura la critica d'arte ho appena nominato grubici e sarfatti che sono due esempi emblematici insomma di una raccolta importante di fondi di critici e infine la poesia visiva la neo avanguardia e fondi del secondo dopoguerra che sono questa parte dei fondi legati alle neo avanguardie si è grandemente sviluppata in epoca più recente insomma a partire dagli anni 2000 ecco qui sono alcune pagine che potrete appunto scorrere se il futurismo è il movimento che ha dato una prima impronta alle raccolte va senz'altro sottolineata anche l'abbondanza di questi fondi legati alla neo vanguardia ma proprio nel nominare questi due capi del filo si notano degli ecchi e dei rimandi che accomunano le avanguardie novecentesche ecco un aspetto molto presente è quello dello sconfinamento dei generi artistici che sfuggono a delle classificazioni troppo rigide un altro è quello senz'altro della militanza artistica che ha visto gli artisti appunto impegnati in prima fila e basterebbe anche vedere alcune delle raccolte di riviste dadaiste surrealiste astrattiste che conserviamo nei fondi per non parlare ovviamente della presenza di riviste del futurismo che è veramente molto consistente ne approfitto per dire sì certo siamo stati cercati per la quantità di materiali credo anche per l'interezza che hanno alcune raccolte e per la loro rarità in questo senso cito almeno un'altra esperienza fatta in passato legata alla digitalizzazione e alla messa in rete di riviste per questo rapporto di collaborazione con l'Università di Trento che era partito già alla fine degli anni 90 con il portale di Circe tuttora in queste banche dati ci sono raccolte una serie di riviste futuriste fornite da noi tra i motivi peraltro per cui siamo qui e siamo stati chiamati a collaborare credo però che vada sottolineata la cosa che Duccio Dogheria ha messo molto in risalto prima e cioè questo rapporto questo intreccio fra le riviste e i fondi librari e i loro materiali preparatori mostrandoci quello che è esattamente un archivio cioè un processo un'elaborazione una storia di questi materiali nel loro nascere e nel loro sviluppo come sottolineava anche lei prima forse per tutti questi aspetti e per questo ultimo in particolare varrebbe la pena sottolineare l'importanza del contesto dello studio dei materiali anche in loco e della cassa di risonanza che viene creata dagli insiemi dei documenti e delle collezioni io penso che la presenza qui appunto anche degli istituti conservatori chiamati a dire una parola ci inviti a guardare con un occhio bifronte a questo progetto e a tutti i progetti di digitalizzazione alle proposte che vengono fatte in rete pensando da un lato alla circolazione immateriale delle immagini e dall'altro alla fisicità che è appunto storia e contesto e indurre un interesse per la fisicità per la storia per il contesto spetta proprio agli istituti conservatori riconducendo l'attenzione su quelli che sono i tre poli fondamentali archivi produttori e conservatori attorno a cui circola il concetto di raccolta a questo punto credo che sia importante fare almeno un accenno a Paolo della Grazia tanto nominato che è stato per noi un ponte fondamentale fra quella che era appunto la raccolta legata alle avanguardie del primo novecento e a questo enorme sviluppo dato proprio dall'arrivo dell'archivio di nuova scrittura archivio fondato appunto a Milano nell'88 ma Paolo della Grazia colleziona già a partire dagli anni settanta frequentando la galleria Sant'Andrea di Bellora e poi conoscendo Fraccaro e insieme a Fraccaro artisti come Gioberto Vaccari Villa Isgrò eccetera e quando apre l'archivio di nuova scrittura lo apre accanto al mercato del sale di Ugo Carrega tanto che poi finirà con l'assorbire anche tutta l'attività di Carrega e la sua la sua raccolta e lungo gli anni novanta sono moltissime le mostre gli eventi che vengono organizzati dall'archivio di nuova scrittura e intorno alla fine degli anni novanta capisce che comincia a diventare troppo onerosa una gestione privata di una quantità di materiali che qui viene descritta molto sommariamente questa è la parte legata all'archivio che comprende appunto tutti i materiali dell'organizzazione dell'attività ma anche legati ai singoli artisti e questa è la parte della biblioteca con 10.000 volumi 600 libri d'artista 500 riviste d'arte eccetera con Museion che conserva una grande quantità di opere dell'archivio di nuova scrittura è stato un partenariato è anche in corso la progettazione di questo portale www che è una piattaforma interattiva legata all'arte verbo visuale e quindi qui torno a guardare alla circolazione immateriale di questi materiali come irrinunciabile cioè appunto voglio ribadire l'importanza della fisicità ma proprio perché venga lanciata e possa circolare nel miglior modo possibile ci sono altri progetti in corso da parte del museo legati alla digitalizzazione anche di riviste questo seguito dalla collega Maria Rosa Mari che è appunto con l'Università di Trento una piattaforma invece che mette in rete i sommari gli indici delle riviste di architettura e urbanistica di cui conserviamo grazie agli archivi di architettura annate molto preziose e diciamo che tornando al portale di Capti è senz'altro nostra intenzione far sì che la cosa non finisca qui credo che sappiamo tutti quali sono i rischi maggiori di imprese di questa natura una possibile discontinuità un possibile ritardo un'assenza di aggiornamenti e di incrementi e come partner del progetto ci piacerebbe anche avere in prospettiva un ruolo più attivo e fornendo eventualmente noi stessi materiali digitali che permettono anche dall'esterno di farci vedere di farci conoscere e di lavorare con voi in vista poi di interventi così ricchi e così belli come quelli che abbiamo sentito oggi vi ringrazio ringraziamo Paola Pettenella anche per quest'ultimo invito a non come dire far finire qua a Capti ma continuare e anche per questa generosità e questa disponibilità addirittura a dare altri materiali digitalizzati che possano continuare a nutrire tutte le nostre ricerche mi sembrava particolarmente interessante se poi ci sarà il tempo per discutere riflettere su questa duplicità che è stata sottolineata fra la circolazione immateriale delle immagini e la fisicità degli archivi perché il rischio è quello di dimenticare i produttori degli archivi e quindi rompere quei fili storicamente come dire necessari che ci portano invece anche alla comprensione dei documenti se li vediamo soltanto sul nostro computer perché questo direi che sarebbe come lasciare una ricerca a mezzo se dimenticassimo questa fisicità degli archivi e quindi adesso continuiamo con questa fisicità degli archivi e credo che adesso devo chiamare Maria Grazia Mazzitelli vero? Benissimo allora Maria Grazia Mazzitelli che invece altro partner del progetto CAPTI che ci parla dell'archivio storico Salani Editore che ha comunque come l'archivio storico del Marto contribuito a implementare questo prezioso progetto e torniamo alla tradizione naturalmente perché quindi un passo indietro perché l'archivio arriva fino al 1986 quindi allora buonasera a tutti io non sono un'accademica quindi sono in questa mente sono un outsider e quindi mi rivolgo con questa mia breve relazione che avrà più i tratti di una conversazione fra fra appassionati per fare però il punto sulla particolarità dell'archivio Salani del suo fondo d'illustrazione e del lavoro che il laboratorio di documentazione storico-artistica della scuola normale di Pisa ha realizzato tralasciando la storia delle produzioni e delle collane che magari forse qualcuno di voi conosce e che tra l'altro sono stati oggetto di un volume Libri buoni a buon prezzo della professoressa Adagilli Marchetti apparso nel 2011 quindi quella è una parte sicuramente e faccio adesso però un riferimento a una frase molto importante di Umberto Eco che nel 1988 in una bustina di Minerva sull'Espresso scrisse quanto ci hanno influenzato i romanzi della Biblioteca dei miei ragazzi credo che per molti di noi a cui critici malevoli fanno risalire il gusto per il mistero e l'immaginazione labirintica e narratori russi la Biblioteca dei miei ragazzi sia stata all'origine della formazione del nostro immaginario Umberto Eco è stato sin dall'inizio della storia della nuova Salani a metà degli anni Ottanta una entusiasta sostenitore della casa editrice Rinata e del tesoro custodito nell'archivio e ne ha motivo l'archivio storico della Salani fondata nel 1862 da Adriano Salani a Firenze è una delle più antiche case editrici italiane ancora in attività che fa oggi parte del gruppo editoriale indipendente Mauri Spagnol è una meraviglia è motivo di orgoglio per noi che ci lavoriamo è uno dei più completi archivi editoriali del panorama nazionale vivo e aperto alla consultazione è un giacimento di tesi universitari e di immagini di libero accesso ove possibile parte dagli anni Novanta dell'Ottocento e giunge al 1986 quando la società ormai in liquidazione fu acquisita dalla Longanesi e fu acquisita proprio per le sue illustrazioni che appartenevano all'immaginario giovanile di Mario Spagno l'editore della Longanesi allora come riportato da Guglielmo Tugnetti che è uno storico personaggio dell'editoria italiana a braccio destro di Spagno e vicepresidente della Salani dice Dalle mie visite fiorentine riporto a Spagno l'emozione di toccare con mano molti dei libri perduti della sua infanzia e che anch'io ricordavo d'aver visto e in qual caso letto nella bibliotechina della scuola o in casa di qualche compagno più fornito Tugnetti era fiorentino era toscano quindi tra l'altro era abitava in zona la teleferica misteriosa otto giorni in soffitta l'erede di Ferralba senza dimenticare i curiosi libretti di autore del lì che da bambino avevo spiato in mano a mia madre la primula rossa della baronessa Orci che avevo letto un secolo prima appassionandomi tanto e la bella edizione dell'inferno con le illustrazioni di Salvatore Dalì e i volumetti di Topolino novità assoluta dei primi anni 30 ma anche la ricca produzione dei libri religiosi in caratteristica dell'opera di Mario Salani tra cui la Sacra Bibbia tradotta dai testi originali a cura del Pontificio Istituto Biblico e c'erano naturalmente le copertine indimenticabili di Carlo Chiostre scusate ma io mi sono dimenticata di mandare le immagini Giorgio se mi aiuti io sono molto magari le possiamo mandare un loop non posso andare mettiamo l'opera che è un pdf possono andare in giro da sole così vanno da sole sì se vanno da sole è meglio perché il mio vanno non so l'archivio della casa editrice Salani conserva un patrimonio di circa 30.000 disegni preparatori per edizioni illustrate dalla fine dell'Ottocento agli anni 70-80 del Novecento con alcuni appendici che si affacciano sul nuovo millennio si passa così dai primi libretti illustrati a pochi centesimi grazie ai quali Adriano Salani intraprese la sua prima attività alla fortunatissima biblioteca illustrata e biblioteca economica dai librini del cucù ai libri dei ragazzi per arrivare alle celebri serie dei puffi e di Heidi ormai a colori smaglianti è un viaggio figurativo che diventa un'esplorazione inedita dell'immaginario visivo italiano attraverso il processo di alfabetizzazione dell'ottocentesco e il ventennio fascista l'arrivo della televisione e lo sviluppo del fotoromanzo ma anche i fumetti Disney importati proprio per primi contrariamente a quanto solitamente si crede da Salani in Italia negli anni trenta con uno straordinario topolino e il tesoro del 1935 dalle sgargianti affascinanti fate create dalla penna della Perodi e dagli acquarelli di Carlo Chiostri si arriva alle luminosissime tempere che fissano sulla carta le imprese del robot mazinga insieme ai personaggi delle novelle mutano i colori ai tempi della ricezione in un processo di visione acquisizione mentale delle immagini che si fa negli anni sempre più veloce dalle prime xilografie che scavano la pagina con segno fermo e duro attraverso le foto zincografie in grado di restituire almeno in parte la varietà di tocco dell'artista fino alle attuali rotative capaci di tradurre efficacemente gialli accesi e rossi infuocati non solo tuttavia di teoria per l'infanzia ma anche collane dedicate appositamente ad un settore di pubblico costantemente in ascesa quello femminile che legge i romanzi della invernizio alla fine dell'ottocento nella biblioteca salana illustrata le opere della dellì nella biblioteca delle signorine negli anni venti e gli scritti della magalì nei grandi romanzi salani degli anni sessanta e settanta moltissimi italiani almeno fino alla metà del novecento hanno imparato a leggere sui libri salani e continuano a leggere i nostri libri basta pensare alle più recenti collane degli istrici al fantasy rappresentato da successi come Harry Potter ma anche a bussola d'oro la fabbrica di cioccolato con autori di fama internazionale come J.K. Rowling l'autrice di Harry Potter Astrid Lindgren Michael Ende Philip Pullman Luis Sepulve Daniel Pennac e tanti altri salani fu anche la prima casa editrice italiana a produrre quei libri illustrati fustellati i librini del cucù appunto che oggi occupano grande spazio nel comparto bambino gli illustrati il primo lavoro scientifico sull'archivio salani fu compiuto dalla sovrintendenza ai beni archivistici della Lombardia allora diretta dalla dottoressa Maria Grazia Messina l'archivio che è sempre stato aperto alla consultazione di studiosi e di puri visitatori e tra questi indimenticabili sono i ricordi proprio miei della commozione di chi rivedeva i libri della propria infanzia o di chi come lo scrittore Sergio Ferrero era in grado di elencare i titoli della biblioteca dei miei ragazzi solo vedendo le coste era al tempo accessibile solo da rubriche scritte a mano e gelosamente custodite e fotocopiate o successivamente da file di Word o di Excel non esisteva altro l'archivio storico venne riordinato con grande pazienza dalla dottoressa Eleonora Saita incaricata appunto dalla sovrintendenza archivistica operazione assolutamente non facile alquanto faticosa con la produzione di una banca dati informatizzata e conseguente inventario cartaceo strutturati su una descrizione in più livelli dal generale al particolare l'inventario ha interessato la parte editoriale e amministrativa dell'archivio Salani sono rimaste escluse le sezioni dei disegni infatti oggetto successivamente di digitalizzazione da parte dell'allora laboratorio di arti visive della scuola normale superiore di Pisa e l'archivio fotografico del quale è stata data solo l'indicazione a livello di serie e di numero di cartelle che le costituiscono escluso anche l'archivio del prodotto ossia la collezione dei libri pubblicati di cui è però presente presso la casa editrice un elenco a parte per la parte di violare amministrativo esso costa di 601 unità descrittive fra registri pratiche e carte sciolte era sicuramente molto più vasto e ricco ma come scriveva senza mezzi termini lo stesso Mario Salani nel 1951 fu devastato dal passaggio della seconda guerra mondiale che causò la perdita di praticamente tutta la documentazione dell'ottocento fino alla metà degli anni 40 del novecento altri danni ingenti subì la casa editrice dall'alluvione di Firenze del 4 novembre del 1966 a causa della quale fra l'altro andarono perduti il magazzino centrale e tutti i flani le gravi perdite provocarono in seguito anche quelli che potremmo definire danni collaterali dettati dalle immediate necessità di rendere nuovamente operativa l'azienda nel più breve tempo possibile come la vendita delle matrici in piombo della vecchia casa Salani l'archivio storico si salvò miracolosamente dalla dispersione che di solito colpisce duramente le carte di aziende fatte oggetto di molti passaggi grazie alla sollecitudine e all'interesse continui di cui fu oggetto da parte di dipendenti responsabili e anche istituzioni la dichiarazione di notevole interesse storico da parte della sovrintendenza archivistica della Toscana con provvedimento del 3 agosto 1984 costituì in tal senso un passo fondamentale quando poi negli ultimi mesi del 1986 la casa editrice lunganese acquisì la Salani fin dall'inizio non sottovalutò l'importanza del patrimonio storico dell'azienda fiorentina tanto da acquistare l'archivio dei disegni inizialmente escluso dalla vendita a un prezzo addirittura superiore a quello pagato per il marchio editoriale trasferitolo nel 1998 dalla sede storica di Firenze in via del Giglio XV a Milano nella sede della casa editrice in Corsa Italia e successivamente nel 2004 col trasferimento degli uffici nella sede attuale in via Gherardini la proprietà attuò in seguito un primo sommario riordino del fondo iconografico il cui risultati vennero presentati nel 1999 con una piccola esposizione degli originali negli uffici ed ebbe una vasta eco sulla stampa nazionale la documentazione copre dunque sostanzialmente il periodo dagli anni 30 e del 900 riguarda la parte editoriale dagli anni 60 circa per quanto concerne la parte amministrativa terminando nel 1986 per la parte editoriale di segreteria conserva i contratti con gli autori e disegnatori corrispondenza diversa sempre con autori ma anche con istituzione agenzie letterarie fornitori e altre carte relative a collane singoli progetti editoriali per la parte amministrativa conserva i registi contabili registi dell'editore e di magazzino pratiche diverse giacenze pagamenti acquisti di diritti su titoli o anche singoli personaggi la parte di archivio pervenuta era riunita e raccoglitori e soprattutto per quanto riguarda la parte editoriale in pacchetti di diverse dimensioni definiti editoriali tali editoriali riunivano il contenuto di cassettiere prelevato così com'era e confezionato secondo la vecchia prassi di magazzino della Salani che prevedeva i documenti avvolti in carta da pacco e ben chiusi con spago la vera scoperta del riordino da parte della sovrintendenza è tuttavia relativa al fondo fotografico custodito in casse mai aperte l'amplissima selezione databile fra il 1890 e il 1970 circa conserva centinaia di immagini stampi nero a colori negativi lastre fotografiche a corredo dei volumi pubblicati nonché un piccolo archivio riguardante la casa editrice e le sue celebrazioni gli scatti di repertorio provengono per lo più da agenzie di stampa principalmente dall'istituto luce ma anche da molte agenzie straniere soprattutto per quante concerne le unità riunite sotto la denominazione di guerra e guerra in marina l'archivio è organizzato per argomenti le immagini venivano quindi riunite sia per essere utilizzate in volumi di argomento specifico in particolare libri storici e manuali sia per costituire una raccolta utile a qualunque evenienza e facilmente consultabile mediante parametri di ricerca generale da segnalare infine la presenza di ritratti fotografici antichi fine ottocento inizio novecento eseguiti dagli studi francesi Nadar c'è un ritratto di Vittorio Hugo Hector Malot e di Reutlinger ritratto di François Prevot e del fotografo italiano Vittorio Ecclesia di Vercelli ritratto di Carolina in vernizio autografato dalla scrittrice L'archivio Salani è dunque un archivio completo nelle sue parti di cartaceo con tratti lettere illustrazioni e fotografie ma sicuramente la parte più straordinaria come abbiamo visto è costituita dalle illustrazioni attraverso di essa si delinea la storia dell'illustrazione italiana a cavallo fra due secoli è un viaggio figurativo che diventa un'esplorazione inedita dell'immaginario è uno storio dello sviluppo del paese è uno scrigno di memoria di editoria e soprattutto di bellezza una miniera straordinaria di creatività artigianato lavoro tecnica ha un valore morale come abbiamo visto è stato salvato dai suoi dipendenti durante l'alluvione nel 66 è stato conservato negli anni con estrema cura è notificato dallo Stato è stato oggetto di un primo riordino è successivamente catalogato e acquisito in rete per la parte riguardante l'illustrazione grazie al lungo lavoro di Giorgio Bacci del lavoratorio di documentazione storico-artistica della normale di Pisa diretto dal professor Massimo Ferretti una grande fortuna per la casa editrice Salani che dirigo e ricordo perfettamente quando un giovane ricercatore pisano ho finito timido ma determinato chiese di parlarmi e di poter organizzare un incontro tra i responsabili della Salani e il professor Ferretti appunto per un ambizioso progetto è una manna per noi che da tempo pensavamo come fare ma non avevamo né le risorse come quasi sempre in editoria né soprattutto le competenze per la digitalizzazione dei bozzetti originali contenuto nell'archivio di disegni della casa editrice era il 2008 Bacci conosceva l'archivio dal 2005 vi aveva lavorato durante il suo perfezionamento mentre scriveva un saggio concernente l'editoria popolare del secondo ottocento nell'ambito di un progetto di ricerca riguardante il rapporto fra testo e immagine fra ottocento e novecento in particolare nei testi naturalistici o indirizzo popolare fu tutto sommato facile avviare una convenzione fra la loro laboratoria di arti visive e la Salani editore un lavoro che si sarebbe concluso nel 2012 con la celebrazione dei 150 anni della casa editrice con una mostra organizzata al castello sforzesco di Milano tuttavia sin dagli inizi del riordino era già chiaro quello che sarebbe stato il punto di forza di un'eventuale futura esposizione del lavoro la valorizzazione di un tesoro grafico inestimabile il lavoro di digitalizzazione schedatura e traduzione online dell'archivio disegni della casa editrice ha portato ad oggi a rendere disponibili 3.393 volumi 736 autori 204 illustratori 27.162 illustrazioni su un totale stimato dalla sovrintendenza della Lombardia di 27.631 il progetto è consultabile da allora sul sito del laboratorio di artivisive ed è confluito ora nel database CAPTI collegato al progetto FIRB cui dobbiamo queste giornate di studio contestualmente sono stati messi in sicurezza e dislocati in appositi contenitori ignifugi migliaia di disegni che al momento della partenza del progetto erano ancora conservati in faldoni provvisori di cartoni vi comprese numerose illustrazioni di artisti contemporanei che non erano ancora state classificate ho finito e schedate è stata poi svolta un'operazione di attribuzione di copertine riconducendola all'illustratore a relativo volume ricostruito nella sua interezza individuando dati come il contratto dell'autore e dell'illustratore la data del disegno e quella della pubblicazione la collana oltre naturalmente alle scheda tecnica della singola illustrazione il progetto ha dunque consentito non solo di digitalizzare le immagini censite ma anche di estendere la conoscenza dell'archivio documentando in profondità l'esistente e completando l'operazione di schedatura non terminata dalla precedente prima ricognizione in tal senso è possibile affermare che le illustrazioni conservate siano ben più di 27.631 avvicinandosi e probabilmente superando la cifra di 30.000 l'archivio è stato inoltre valorizzato da un punto di vista scientifico come attestano le pubblicazioni e la partecipazione a convegni nazionali e internazionali dove sono stati presentati approfonditi aspetti inediti della produzione salani il lavoro è culminato con la mostra dei 150 anni svoltasi dal 18 ottobre 2012 al 6 gennaio 2013 e la produzione del relativo catalogo curato da Giorgio Bacci naturalmente promossa dal comune di Milano e dalla casa editrice salani con un comitato scientifico composto da Bacci Antonio Faetti Massimo Ferretti Miriam Filetti Mazza Walter Fochesato Paola Gibbina da Gigli Marchetti Giovanna Mori Paola Pallottino e l'onora Saita da Pinocchio Harry Potter si è tenuta nelle sale di scontè del castello sforzesco di Milano con ingresso gratuito sono state esposte oltre 300 opere provenienti dall'archivio e messe a disposizione da illustratori che hanno lavorato negli anni con la casa editrice protagonisti assoluti sono state le storie e gli illustratori di cui sono state esposte le tavole originali da Carlo Chiostri a Ezio Anichini a Luigi e Maria Augusta Cavalieri da Carlo Vitoli Russi a Ugo Signorini da Fiorenzo Giovanni Faorzi a Gastone Rossini solo per citarne alcuni per arrivare a disegnatore illustratori contemporanei del calibro di Emanuele Luzzati Quentin Blake Tony Ross Mimo Paladino Tullio Pericoli Sergio Staino Altan e numerosi illustratori italiani contemporanei noti sia in patria che all'estero grande è stato il successo di pubblico e di critica oltre 23.000 visitatori e moltissima attenzione dalla stampa italiana famiglie intere hanno visitato la mostra abbiamo visto da nonni ai bambini piccoli girare per le sale uscirne oserei dire con un senso di felicità la mostra poi è prodata a Vaiano in provincia di Prato dal 28 settembre al 27 ottobre 2013 senza il prezioso e lungo lavoro di Giorgio Baci e di Eleonora Saita che qui ringrazio non avrei mai potuto raccontarvi questa storia io che come loro sanno passo le giornate sepolta viva tra le carte nonostante l'era del digitale nella piccola stanza dei miei uffici milanesi per continuare la storia di questa casa editrice insieme a tanti collaboratori appassionatissimi grazie ringraziamo Maria Grazia Mazzitelli per questa storia così affascinante e forse qualcuno di noi si ricorda anche la mostra a Milano quella a Vaiano e comunque il catalogo testimonia la ricchezza di questo archivio che ormai è disponibile allora adesso questa rassegna di archivi che hanno collaborato a Catti si conclude con Aldo Cecconi che ci parla di un altro astivo storico che è quello della Giunti un'altra casa editrice toscana che si allinea a questa fisionomia di una regione che è stata importante nella storia dell'editoria o è ancora non lo so ora lei ce lo dice grazie buonasera a tutti io ringrazio gli organizzatori in particolare Giorgio Bacci per avermi dato questa opportunità provo un mattino io non so cosa fare posso solo togliere questo ma anche questo non si può fare anch'io parlo di un archivio e quindi come tutti come la maggior parte non aveva un suo caro Giorgio anche stavolta mi deve aiutare con la tecnologia a un powerpoint con alcune immagini si chiama Pisa non c'è come ecco perfetto grazie è sempre questo allora io brevemente vorrei parlarvi qui dell'archivio storico giunti e della collaborazione con Paci per questo progetto l'archivio storico giunti è nato per volontà dell'editore Sergio Giunti allo scopo di essere la memoria dell'attuale gruppo editoriale ora il nucleo attorno al quale si è formato l'archivio è costituito dalla documentazione prodotta da storiche case editrici fiorentine di matrice ottocentesca risorgimentale nel corso della loro intensa attività quindi Paggi Bemporad e Berbera nel corso dell'ottocento novecento come è stato già anche detto Firenze è stata una dei centri editoriali più importanti dell'Italia e nell'archivio storico accanto ai fondi documentari di queste case editrici custodiamo anche le carte e i libri di altre imprese editoriali che sono confluite nel gruppo Giunti durante il secolo scorso brevemente sull'archivio attualmente la documentazione dell'archivio è suddivisa in otto fondi i principali per consistenza e significato storico sono Barbera Bemporad e Giunti accanto ad essi altri cinque relativi a case editrici che hanno cessato l'attività fra le quali Giacomo Agnelli editrice universitaria e Aldo Martello una sezione a parte dell'archivio è dedicata alla preziosa raccolta iconografica di bozzetti e tavole originali utilizzate per illustrare i libri del catalogo storico Giunti specie di quelli per la gioventù un patrimonio che consente di effettuare un viaggio nell'illustrazione italiana del libro dalla fine dell'Ottocento e per tutti il Novecento e come è testimoniato dalla selezione del materiale iconografico che è stato digitalizzato per il progetto Capti le illustrazioni scelte appartengono alla Bemporad che è stata una delle prime realtà italiane specializzate nella produzione di libri destinati alla gioventù circa 5500 edizioni furono pubblicate dalla Bemporad di mezzo secolo di attività di cui il 40% dedicate allo scolastico e un 15% alla gioventù un bel biglietto da visita per una casa editrice che fu che assunse acquisì una posizione di spicco nel contesto nazionale per antonomasia era la casa editrice di Pinocchio le illustrazioni conservate in circa mille cartelle sono in grandissima parte state commissionate per l'editoria per la gioventù ora tale complesso di produzione figurativa può essere studiato da molteplici punti di vista storico artistico con analisi di carattere monografico su singoli illustratori o la determinazione degli stili grafici in relazione alle correnti artistiche maggiori ovvero studi di impianto storico educativo con l'individuazione di modelli iconografici ricorrenti posti in rapporto con gli indirizzi educativi e le idee pedagogiche dominanti occorre anche però considerare a mio parere il ruolo svolto dalla casa editrice non solo del retroterra culturale artistico ed educativo in cui prese campo l'illustrazione per la gioventù in particolare forse nella prospettiva di mettere in luce chiarire analizzare quale sia stata la portata l'estensione dell'opera di mediazione culturale ed editoriale attuata in tale contesto e in quale misura le convinzioni educative le inclinazioni ideologiche il gusto artistico e le esigenze di natura commerciale abbiano inciso sullo sviluppo dell'illustrazione per il libro non scolastico destinato ai ragazzi il materiale documentario conservato nell'archivio consente di effettuare un tale approfondimento per la sua ricchezza e per la sua consistenza una strada intrapresa pochi anni fa da una giovane studiosa Silvia Sirelli che ha intitolato la sua ricerca Paradigma Benprad e che è stata condotta e che ha condotto il suo studio basandosi sull'oggetto sul libro sul libro figurato nella sua identità materiale nell'ambito del progetto CAPTI si è operata e penso che non so se poi Giorgio vorrà anche aggiungere qualcosa una selezione del materiale che fosse in grado di rendere l'idea dell'eccellenza figurativa del materiale conservato una selezione che vuole essere anche un omaggio a una stagione ricca di fermenti ed iniziative quale fu quella tra la fine dell'ottocento e i primi decenni del secolo scorso non sono state prese in esame le illustrazioni per i libri scolastici un materiale iconografico che forse meriterebbe una ricerca a sé in particolare per valutarne le caratteristiche e le linee evolutive di realizzazione accendo solamente che fu costante prassi della casa editrice Bemporad commissionare le illustrazioni per i manuali scolastici specie di quelli per la scuola elementare ai medesimi artisti illustratori a cui si rivolgeva per i libri di letteratura e di varia vorrei brevemente ora contestualizzare la scelta che è stata fatta delle immagini presentando e ripercorrendo brevemente la storia della Bemporad anche per aiutare spero le persone studiosi ricercatori che visioneranno consulteranno il sito online per avere un quadro complessivo e capire meglio anche le ragioni della scelta compiuta e al tempo stesso apprezzare anche il materiale scelto all'origine della Bemporad fu la libreria editrice paggi a cui si deve uno dei primi progetti organici di collana educativa pensata per un'Italia unita la biblioteca scolastica una collezione di testi che avevano nella didattica l'ambito elettivo di impiego e ai quali a partire dagli anni settanta dell'ottocento si affiancarono volumi di amena lettura utili nel contesto scolastico ma dati anche alla fruizione autonoma da parte dei giovani lettori volumi che daranno origine a un nuovo filone editoriali una peculiarità delle edizioni paggi consiste nell'attribuire una funzione educativa anche all'illustrazione segnando una tappa fondamentale nel superamento del diffuso pregiudizio che vedeva nell'immagine un pericolo di distrazione una buona qualità dell'apparato iconografico dei libri caratterizza la produzione paggi sottratta a mediocrità di fattura e a riuso di vignette riprese dall'estero e nella quale l'illustratore esce dall'anonimato il suo nome compare sui frontespizzi di libri su tutti quello di Enrico Mazzanti e ovviamente per la produzione paggi non si poteva che partire da Pinocchio dalla prima edizione in volume del 1883 appunto illustrata da Enrico Mazzanti e la scelta che è stata fatta è stata quella di digitalizzare non solo le illustrazioni le vignette della prima edizione illustrata da Mazzanti ma poi di tutte le altre edizioni che nel corso dell'8-900 la Bempora e poi la Giunti hanno fatto hanno realizzato hanno pubblicato del libro di Carlo Lorenzini un altro titolo della paggi per farvi un momento anche capire il periodo e il tipo di libri prodotti questo di Emma Perodi 1886 questo anche questo libro libro di lettura per le scuole e per le famiglie quindi ancora la mena lettura e il libro stoccolastico erano strentamente uniti questa è una delle illustrazioni una pagina dell'interno del libro con un'illustrazione di Enrico Mazzanti come vedete con tratti molto realistici e di che si fa che spiega illustra e documenta un brano il testo a fianco la BEMPORAD continua inizialmente l'attività nel settore scolastico educativo ma inizia ben presto a differenziare la propria produzione in collane che offrono l'opportunità di collocare i singoli volumi in una linea al contempo editoriale ed educativa ben definita e ben riconoscibile anche dal punto di vista grafico caratterizzata da costanti tematiche spesso definite da programmi stampati sui cataloghi un esempio significativo è la collezione azzurra poi biblioteca azzurra dove il giovane editore Enrico BEMPORAD fece confluire dal 1893 i titoli di amena lettura questo era il motto della presentazione della collana scusate lo scopo della collana era educare dilettando quindi l'assunto educativo programmatico era quello di unire apprendimento e diletto e l'immagine partecipava assieme al contenuto alla trasmissione di norme e nozioni e il colore della copertina e la veste grafica dovevano ribadire il legame fra i vari titoli una collana dove convissero illustratori di varia provenienza e stile mazzanti chiostri sarri mussino scarpelli chiner fra i tanti io qui ho scelto riprendendoli da i libri e le illustrazioni che poi abbiamo inserito in capti alcuni esempi questa è la copertina del libro di Ghiselli nell'impero delle fate dove la copertina rispetto alle edizioni precedente cambia con il nuovo secolo e secondo noi i primi dettami del Liberty questa è una delle prime illustrazioni a colori che si trovano nei libri della biblioteca azzurra è tratta dal ciondolino di Vamba del 1896 libro che contiene 16 cromotipie fuori testo frutto anche dei progressi della stampa che in quel periodo si stavano la stampa tipografica che si stavano realizzando e infine il primo la prima prova di Attilio di Attilio Mussino per la Casa di Triscia Fiorentina è un libro del 1908 Ringhi Tinghi e qui il ruolo dell'immagine in relazione a testo è maggiormente articolato come potete vedere Attilio utilizza la vignetta finale per riassumere il senso della narrazione o con un solo di un solo personaggio o di un momento centrale e anche in questa stessa pagina mette il testo almeno visualmente in una posizione secondaria all'interno della pagina rispetto alla figura sarà una soluzione poi che Mussino anche riprenderà e riutilizzerà nel 1911 per l'edizione a colori del Pinocchio posso dire una cosa perché il testo parla di una torma di sciacalli che si gettano sull'antilope o ci vedo male o quelli non sono sciacalli un antilope no una torma di sciacalli che si getta sull'antilope ma quella non è una torma di sciacalli che si getta sull'antilope o sbaglio sono come dei corvi non lo so qualcosa di diverso e non ho potuto fare a meno di dirlo scusate perché mi sembrava una cosa che forse ci poteva anche far fare qualche riflessione sul rapporto fra testo e immagine perché abbiamo stamattina assistito a questa bellissima relazione sull'illustrazione vittoriana in cui si parlava della libertà che ci si poteva prendere nei confronti del testo allora mi è venuto in mente questo anche perché lì si vede una bestia da dietro come si vedeva anche nella ben diversa illustrazione vittoriana ma comunque insomma era qualcosa che mi aveva fatto fare un collegamento scusate all'inizio all'inizio del novecento la casa editrice è in forte espansione e la proliferazione di collane per la gioventù è un segno tangibile è un periodo che si caratterizza per un'intensa sperimentazione che apre la strada a nuove soluzioni nella grafica dei libri con il progressivo affrancamento della componente figurativa da quella testuale penso in particolare alla collana di libri di lusso e di grande formato collezione in ottavo che si rivolge all'avventura e al fiabesco in tale collana diversamente dall'azzurra l'uniforme configurazione esterna dei titoli è messa in secondo piano ciò su cui si punta è la copertina che doveva colpire il lettore e invogliarlo alla lettura qui ho scelto due coperte questa di Umberto Brunelleschi per un titolo per il titolo l'albero delle fiabe e Rubino che illustra nel 1911 uno dei libri giovanili di Giuseppe Fanciulli Pippo Sizza Aviatori difficile definire con precisione quale sia lo stile che prevale nella produzione Bemporad è altresì problematico istituire una relazione diretta con le correnti artistiche maggiori del tempo data la coesistenza di linguaggi dalle caratteristiche anche molto diverse tra di loro all'interno della stessa collana così in particolari generi letterari come i libri di avventura ad esempio i romanti di Salgari o di Motta per l'iconografia per l'iconografia ci si continua ad affidare ancora alla fine degli anni 20 nel 900 alle suggestioni dei forti contrasti luminosi della descrizione minuziosa e della resa drammatica d'altro canto la collana di punta della casa editrice la più longeva e la più ampia per numero di titoli oltre 90 che fu la biblioteca Bemporad per ragazzi fu una collezione di piena modernità di concezione grafica che obbediva a un criterio di coerenza estetica che parte dalle copertine per arrivare alle coste ai risguardi alle decorazioni dei frontespizi e dei conti frontespizi e agli indici le pragine preliminari furono decorate di questa collana furono decorate con disegni di Duilio Cambellotti e secondo i dettami Liberty nei cataloghi editoriali della casa editrice si tessevano le lodi delle illustrazioni dei libri della collana si lodava la bellezza dell'espressione formale e tecnica la genialità e la gentilissima arte delle illustrazioni e delle decorazioni della collana forse avevano letto e avevano e volevano ascoltare i richiami del risorgimento grafico di cui ieri si è parlato a lungo questo è uno dei titoli più significativi della collana queste invece sono appunto le risguardi di Cambellotti e questo è il contro frontespizio che era presente in tutti i libri della collana l'avventura della Bemprad di Enrico Bemprad si conclude alla metà degli anni 30 con la crisi della casa editrice giunta sull'orlo del fallimento finanziario e dalla quale si riprenderà con nuovi proprietari e nuove idee fra i fattori che portarono alla crisi vi fu anche il mancato successo di molte iniziative editoriali della Bemprad nel settore dei libri per la gioventù ad eccezione di un gruppo di longseller Vamba i libri dell'Orvieto Labaccini e ovviamente Pinocchio il resto della produzione agli occhi di coloro che analizzarono nel corso di quella tormentata fase l'attività della casa editrice risultò essere del tutto deficitaria insomma il libro per la gioventù le letture per il tempo libero non erano ancora diventate un oggetto di consumo di massa concludo con un documento conservato nell'archivio Giunti dato che ho parlato di lavoro editoriale e dei suoi attori l'editore l'autore l'illustratore mi è venuta in mente una lettera che un grande illustratore fiorentino Piero Bernardini scrisse a Enrico Bemporad in merito al mestiere di illustrare i libri ora provo anche un pochino a leggere Bernardini nel 1933 fu incaricato da Enrico Bemporad di illustrare i libri di una nuova collana che si intitolava questo è un libro divertente il primo titolo era Pandemonio affidato della scrittrice Ornella Oronzina pseudonimo di Oronzina Quercia Tanzarella che era un'ispettrice scolastica e autrice nel 1930 del libro di Stato per il bienio della scuola elementare quindi un nome che in quel periodo aveva particolare risonanza il Bernardini scrive il 16 agosto del 1933 quindi non andava mai in ferie a Bemprad carissimo commendatore la casa di Pandemonio è un mistero fantomatico dove la mia modesta intelligenza si sperde dunque se ho letto bene i testi la persiana della finestra della della signorina protagonista di uno del testo di cui si parla dovrebbe a un certo momento tirata su dall'amo di Pandemonio cadere sulla testa del colonnello ora come fa accadere accadere ciò se la finestra è al secondo piano mi sappia dire come mi debbo regolare debbo riregger meglio il manoscritto o pregare l'autrice di farmi uno schizzo basta che mi butti giù due freghi sulla disposizione delle finestre e dei personaggi mi consigli un po' lei che io sono a sua completa disposizione e aggiunge i disegni non dubiti risulteranno tutti nitidi bisogna considerare che dovranno venire molto ridotti e tutti acquisteranno nella riproduzione anche quelli che possono sembrare più tirati via curerò io stesso la riproduzione se del moro quindi la fototipia del tempo darà un buon risultato e conclude la soluzione che poi fu trovata fu questa a tergo della lettera di Bernardini Enrico Bemporad scrisse dette le disposizioni al suo ufficio di segretia di dare l'indirizzo di Ornella dell'autrice direttamente all'illustratore perché i due si mettessero e si mettessero in contatto non conserviamo le lettere di Bernardini se ci furono all'ornella però questo fu il risultato e chiudo sempre con Bernardini visto che siamo alla vigilia del Natale la cura insomma l'attenzione all'immagine da parte della Bemporad era ben presente anche nel materiale promozionale nei cataloghi editoriali questa è questa è una copertina realizzata da Bernardini per le edizioni strena della Bemporad fine del 1922 il Babbo Natale che distribuisce libri e quindi come essendo facendo parte di una casa editrice mi auguro che Babbo Natale vi porti anche voi tanti tanti libri grazie allora direi che questa comunicazione come dire chiude il circolo con la prima giornata in cui Elena Miraglio ci ha parlato dei problemi che all'interno del risorgimento grafico erano dibattuti circa la questione dell'editoria per ragazzi e per bambini sarebbe interessante sapere se in quelle in quei testi che lei ha commentato e conoscendo così bene quella rivista si fa mai allusione alla Bemporad o comunque ci sono dei riferimenti precisi e puntuali a questo tipo di editoria per ragazzi anche perché in quella piccola pubblicità che lei ha mostrato della collana azzurra c'era riferimenti precisi a una cura tipografica e quindi mi chiedevo se potessero esserci dei collegamenti l'altra cosa che volevo osservare è che da questa da queste ultime due comunicazioni su archivi storici di case editrici che sono indubbiamente state centrali nella storia dell'editoria si ricava anche la possibilità di lavorare sul libro con quel metodo che ci è stato proposto stamattina per le riviste cioè non considerarli soltanto come dei contenitori di immagini o dei depositi da cui di volta in volta si trae un'immagine perché è stata firmata da un artista famoso ma invece cercare di considerare non solo il libro ma anche la casa editrice come una rete di elementi che possono intrecciarsi e incrociarsi forse se c'era una sola cosa su cui non ero molto d'accordo era quando o forse ho capito male per la stanchezza quando è stato detto che le immagini da scansionare sono state scelte sulla base dell'eccellenza figurativa non so se ho capito male o era così allora non so se su questo sono proprio d'accordo nel senso che se come dire la storia dell'editoria non so se dà dei risultati interessanti se viene indagata con questo tipo di chiave d'accesso perché se è un sistema di comunicazione probabilmente l'eccellenza figurativa è una delle variabili che dobbiamo tenere presente ma probabilmente non è l'unica perché ci sono anche altre strategie per esempio quando si passa a libri che invece di avere tante immagini all'interno hanno solo una copertina probabilmente è perché si sta cominciando a vendere meno e quindi c'è la necessità di mettere in atto una procedura che catturi non solo il lettore ma anche l'acquirente perché quella copertina che lei ha mostrato dell'albero delle fate che fra l'altro non era molto seducente per una madre di quegli anni che deve comprarla per un bambino che è spaventosa secondo me comunque sia è d'impatto quindi uno si incuriosisce e lo compra quindi ecco non so se se insomma fare una selezione in base all'eccellenza figurativa mi convince del tutto però forse è qualche cosa su cui si potrebbe discutere ma capisco che è molto tardi quindi forse grazie a tutti e magari ci sarà un altro convegno su cui parleremo di tutte le cose di cui non abbiamo potuto parlare oggi però io sono qua e poi o se no le conclusioni che vengono affidate a Giorgio Bacci che sono le sei e mezzo sì non è presto diciamo se vogliamo possiamo possiamo andare avanti per per un'altra per un'altra mezz'ora ecco ora non vorrei approfittarmi anche dei ragazzi che ci stanno premurosamente seguendo da ieri però vabbè approfittiamo della distrazione no effettivamente sono d'accordo nel senso che abbiamo aperto con il ora è anche difficile effettivamente riconnettersi alla giornata insomma alle discussioni che potenzialmente potevamo avviare avviare stamani e che erano molto cioè che erano assaricchi di spunti effettivamente però credo che uno dei dati che sia emerso almeno nella giornata di oggi è quello del ruolo dell'immagine come come oggetto mediale per l'appunto come qualcosa che interseca anche diversi campi disciplinari e che è in grado di a volte in quanto illustrazione diciamo in grado anche di anticipare dei sistemi di trasmissione delle figure che poi cambiano di statuto nel corso del corso del novecento abbiamo visto diversi casi di illustrazione dalle xilografie inglesi passando appunto per per segantini per l'immagine di Jackie Kennedy e poi attraverso le riviste novecentesche e al ruolo anche dell'immagine come 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 pagina ora riprendendo il mio titolo ingaggiata a fini politici siamo ritornati all'illustrazione otto novecentesca altri elementi che poi sono emersi appunto nella giornata di oggi sono altri ruoli mediali dell'immagine sempre diversi e quindi un altro spunto può essere proprio quello di cercare di capire come le illustrazioni venivano venivano lette abbiamo visto come fonti di ispirazione per gli artisti come mezzo di documentazione di esposizioni quindi anche questi sono tutti spunti che ci possono tornare utili proprio per capire come l'immagine sia un prodotto mediale in grado di attivare diversi meccanismi di ricezione a seconda di chi queste figure a seconda di chi guarda queste figure e questo in realtà ci riporta anche alle premesse metodologiche che erano state fatte questa mattina da Evangelia Stead quindi sul modo di rapportarsi con le riviste che chiaramente non possono essere studiate come qualcosa di separato come un campo disciplinare astratto rispetto al resto perché le riviste nascono e sono il prodotto di una società di una cultura specifica che quindi necessariamente dialogano con un contesto e credo che anche questo elemento sia emerso nell'intera giornata nell'intera giornata odierna scusatemi sì poi gli spunti sarebbero ovviamente ancora maggiore però io lascerai spazio proprio per visto che abbiamo un'altra mezz'ora proprio per un dialogo insomma per avviare una discussione per quanto per quanto piccola però se abbiamo le energie grazie io una domanda ai due per come dire la rivolgo a entrambi gli ultimi due eccellenti relatori di questa di questa sera qual era la durata di queste immagini di queste illustrazioni in rapporto alla tiratura cioè una volta che i libri venivano poi riediti o ristampati quanto era mediamente la vita diciamo dell'immagine di copertino delle illustrazioni seguiva il decorso naturale delle stampe delle ristampe o a volte era prevista una nuova edizione anche delle immagini qui bisogna un momentino ecco cioè distinguere secondo me il bozzetto l'originale che come tale veniva conservato a sé dalla poi dal lavoro tipografico che produceva o un cliché o quello insomma o il prodotto poi più recentemente un impianto tipografico quella questo secondo è soggetto a un deterioramento ovviamente maggiore più veloce e è lì che poi anche la valutazione commerciale editoriale pesa di più nel senso che se si ritiene che un determinata edizione di un libro con quella copertina non va allora ovviamente l'originale rimane diciamo no è questo quello che è cosa nel processo fra 8 e 900 quando viene messa appunto la stereotipia è utilizzata la stereotipia lì ha un discorso un po' a sé nel senso che a quel punto avendo le stereotipie e conservando le stereotipie questo consentono dell'economia gli editori anche per la conservazione del loro materiale per la stampa e in quel caso lì per molti libri la stereotipia permette e viene riutilizzata con con frequenza e rimane io ho presente alcuni per esempio nel caso del Pinocchio delle Chiostri le incisioni che furono fatte dal Bongini credo che via via venivano rifatte passando il Pinocchio delle Chiostri ebbe tantissime ristampe inizio del 1900 fino agli anni 20 ecco lì venivano molto frequentemente non ho dei dati precisi su quanto venivano la periodicità però questi sicuramente venivano rifatti con molta frequenza una curiosità che rivolgo al primo relatore di oggi Evangelia Stead riguardo al problema che è un problema che ovviamente tocca molto chi ha partecipato a CAPTI o altri progetti di digitalizzazione di cosa si può fare con il valore della materialità della rivista e la digitalizzazione quali secondo lei sono le possibilità o che già esistono o che si potrebbero fare per cercare di salvare i due valori perché è chiaro che la digitalizzazione aumenta l'intersemioticità ci consente di fare molti paralleli e ha però una perdita di materialità conosce degli esempi o ha dei suggerimenti in questo campo grazie per la domanda che è molto importante io ho un studente di dottorato che sta per finire lui sta lavorando sulle prime digitalizzazioni dei periodici fatti dalla biblioteca nazionale del programma gallica che sono pessime e anche sulla sulla nozione di patrimonializzazione perché con i problemi di conservazione che conosciamo tutti la digitalizzazione viene esposta come modo di consultazione ormai necessario di alcuni di questi periodici con la perdita di materialità che quello suppone sì e anche impone io avrei voluto organizzare una giornata di studio proprio con la biblioteca nazionale di Francia per discutere appunto questi problemi non è stato possibile per varie ragioni tra l'altro finanziamento fino a ora il mio studente sta elaborando una proposta sulle metadata perché le metadata se vengono e anche con la nuova c'è una base che la biblioteca nazionale sta sviluppando si chiama bnfdata.fr sulla possibilità di mettere in rete alcuni parametri tra riviste per esempio e case editrici e quello non risponde al problema della materialità alla perdita della materialità dunque alla perdita di significato per me in questo punto abbiamo sempre bisogno di tornare indietro e di vedere gli oggetti di studiarli di lavorare proprio sulla fisicalità ma la digitalizzazione apre possibilità di mettere in rete alcuni parametri della proprio della circolazione anche delle collaborazioni e quello che è interessante è che potrebbe essere sviluppato in modo intelligente è tutto che posso dire per il momento ma io personalmente in ogni ricerca torno sempre ai materiali e devo dire che ogni volta che tocco una cosa ho delle idee ma non ho sempre delle idee quando guardo delle cose sul computer sullo mio schermo io comunque credo che basterebbe salvare questa consapevolezza in noi per cui sappiamo che guardarle sullo schermo del computer ci permette di attivare certe connessioni che non possiamo fare quando i materiali sono dislocati fisicamente in biblioteca o in archivi differenti e quindi possiamo invece fare queste connessioni se sul computer le vediamo insieme però con la consapevolezza che anche soltanto lo sguardo diciamo così frontale che abbiamo sullo schermo del computer o quello che abbiamo quando l'oggetto è posato sul tavolino e ci costringe a uno sguardo una percezione diversa e in realtà ci porta dentro il testo credo che ci siano dei percorsi proprio percettivamente differenti se noi guardiamo una cosa in verticale o la vediamo in orizzontale che sia proprio diciamo che quando l'oggetto che abbiamo di fronte è un oggetto tridimensionale è quello che è importantissimo è quello che è importante e poi quello che è stato detto a un certo punto oggi sulla possibilità di sfogliare è importantissimo è una relazione che che non si può riprodurre nel modo digitale però quello che è importante per noi è di avere in mente che abbiamo due modi di esplorazione di ricerca che sono complementari perché ciascuno di loro ci da un risultato risultati diversi e quello che è anche importantissimo è di insegnare questi due modi di ricerca agli studenti a quelli che seguiranno no? Ci sono poi anche casi in cui le riviste hanno una vera e propria materialità Dennis Viva parlava poco fa ha citato tra le riviste d'arte militante Beat due numeri di Beat che ovviamente uno se non sbaglio è chiuso da una vite e in un altro numero presenta all'interno dentro una bustina di plastica degli occhiali attraverso cui leggere la vera storia dell'arte ecco quindi degli oggetti veri e propri inseriti nella rivista che forse nella versione digitale perdono o nel quel bel volume che è passato prima all'Europe de Revue e se non erro ci sono riprodotti alcune tavole dalle RIR in molti numeri delle RIR ci sono delle affiche ripiegate più e più volte che raggiungono dimensioni anche importanti e anche in questo caso la versione digitale forse non rende onore ecco all'originale c'è un esempio straordinario di questi inserimenti nelle riviste che è proprio l'inserimento chiamato Nib nella Revue Blanche ce ne sono tre inserimenti si chiamano Nib che vuol dire niente e sono una diciamo un esempio satirico della stampa del valore della stampa che è stata usata dalle riviste proprio per acquistare più un più grande pubblico no? c'è una parodia di questa dell'uso della stampa di avanguardia diciamo e questi tre Nib sono fatti di artisti proprio molto progressisti che non sono ancora riconosciuti come lo saranno in seguito sono fatti di Pierre Bonnard di Toulouse-Lautrec e di Vallotton si chiamano Nib che vuol dire in argot niente sono fogli piegati e inseriti nella rivista e io ho cercato di seguire come vengono riprodotti in vari stadi per esempio come sono riprodotti da da Slatkin quando Slatkin fa la riproduzione in facsimile della Rivian Blanche e come sono riprodotti di Gallica è molto interessante seguire la trasformazione di questi fogli che vengono inseriti per esempio in Gallica sono inseriti come immagini nel nel numero e non hanno più nessun senso forse vorrei aggiungere anche che riguardo alle illustrazioni c'è un problema ancora in aggiunta ricollegandomi anche a quanto diceva Duccio prima e cioè che le illustrazioni hanno uno spessore hanno una tecnica e quindi rendendole in maniera digitale tutto questo sostanzialmente va perso e quindi sostanzialmente vanno per forza di cose viste viste in originale se devono essere studiate come oggetti storico-artisti altrimenti studiamo come qualcosa di diverso anche perché attraversando il processo di stampa diventano ancora una terza cosa differente e questo devo dire ovviamente è un problema che riguarda sia le illustrazioni dei libri sia le riproduzioni di opere d'arte come ben sappiamo e a volte i due fattori si uniscono perché ad esempio nelle illustrazioni che Paladino ha fatto per Tristi Tropici che sono in realtà delle opere d'arte tridimensionali nelle riproduzioni sono assolutamente appiattite nel libro e quindi viene tradito totalmente l'opera d'arte d'altra parte anche una rivista come Continuum uno la può vedere sì certo digitalizzata ma per sapere che c'è e dove la va a vedere è per avere una memoria ma se deve studiarla deve fisicamente anche nelle dimensioni vedere questo oggetto perché le dimensioni fra l'altro sono un altro elemento che nella digitalizzazione si perde c'è forse un eccesso di timore da parte io sono sinceramente ammirato del lavoro che state facendo perché credo di appartenere all'ultima generazione che ha studiato le riviste quando avevamo a disposizione o l'originale quando c'era o le fotocopie o i microfilm e mi rendo conto di questo forse sono un po' spaventato retrospettivamente di quanto fosse scarsa la nostra attenzione la nostra sensibilità credo forse dovrei parlare a nome un po' di tutti quelli che mi hanno preceduto in tutto questo davanti ai problemi che effettivamente voi ritenete come reali quando ho lavorato sull'acerba non mi sono mai nemmeno posto il problema del fatto che ho lavorato non ho problema a confessarlo insomma sulle fotocopie di una ristampana statica ogni tanto riuscivo anche a trovare un forse per questo come dire eravamo più costretti a leggere i test e guardare le immagini senza prenderli in considerazione invece tutta la ricchezza la sofisticazione insomma del livello di lettura che adesso vi potete permettere perché avete a disposizione questi corpore che non 200 anni fa ma 20 anni fa non esistevano quindi insomma sì è vero che perdete qualcosa ma a fronte di un guadagno in termini di accessibilità del materiale che era impensabile un paio di decenni fa qui dentro però bisogna comunque tenere presenti come diceva Evangelia secondo me essere consapevoli che sono due modi che possono essere utilmente adesso integrati perché abbiamo tante più risorse ciascuno di questi due modi ci dà delle acquisizioni degli accrescimenti ecco io voglio dire che aprivo qua di sotto come lei sa gli armati cioè quelle cose in cui si rischiava di rimanere schiacciati così dove dentro c'era Emporium però Emporium non c'è più uscito dalla testa cioè era diventato un compagno di strada no? ecco scusate a proposito di questo per unire un po' le due riflessioni di ciò che è diciamo così in verticale in orizzontale un'esperienza personale proprio tangibile dal punto di vista pratico lei diceva giustamente tanti anni fa si lavorava sulle fotocopie ed era effettivamente così tanti ma ancora neanche alcuni anni fa ecco un problema che sta diventando molto significativo almeno ad esempio per quanto riguarda anche la riviera Ligure due fattori fondamentali la rarità estrema ad esempio di questa testata che porta a non avere nemmeno tutta la serie di numeri completi e l'estrema fragilità di alcuni di questi materiali che rende quindi non dico necessaria ma assolutamente così inderogabile la necessità di vedere determinati materiali una e una sola volta per la semplice questione che questi materiali si possono distruggere un esempio le veline di fra i libri o plausi e botte di boine sono delle veline sottilissime che si possono strappare o la cui stampa ormai si sta perdendo e questo diventa anche proprio una certificazione e una riproduzione di materiali che potrebbero anche un giorno non esistere più fisicamente o almeno non per altri 4, 5, 6 100 anni già nel centinaio di anni nei 100 anni che ci separano dalla riviera noi abbiamo visto appunto per il lavoro della riproduzione in molte veline e sia Veronica che Matteo me lo possono confermare e che ad esempio la slegatura che aveva fatto Mario Novaro già 70-80 anni fa ha creato dei danni all'epoca sua questa cosa non creava particolari necessità per noi prendere queste cose a volte è stato proprio non dico operazioni di chirurgia ma quasi ci si avviciniamo almeno nel nostro caso poi ovviamente ogni testata questo ci sono anche tante riviste degli anni 20 che ai nostri tempi si consultavano solo in microfilm allora ecco rispetto al microfilm la digitalizzazione almeno si vede che il microfilm era veramente qualche cosa di molto poco fruibile quindi fortunatamente appunto grazie a questo possiamo certamente avere una dimensione in quel caso soltanto verticale ma almeno è una dimensione che resta in qualche modo e quindi fortunatamente o speriamo appunto ci auguriamo che possa essere in qualche modo anche il digitale credo che ci sia esatto però bisogna sviluppare molto di più il metadata credo specialmente per questi casi in cui non sarà più possibile consultare gli originali un'altra riflessione che mi viene scusi ho tolto la parola a lei un'altra riflessione che mi viene da fare è vabbè innanzitutto sì la conservazione però anche il digitale e qui naturalmente c'è chi più di me potrebbe dirne e forse qualche dubbio e qualche problema comunque lo può dare altra questione in cui ci siamo imbattuti proprio per le riproduzioni come riproduciamo cosa riproduciamo è l'archivio non si tratta di riviste si tratta di documenti che abbiamo ritrovato nei formati più disparati ripiegati nei fogli ripiegati nei modi più strani e a quel punto come vengono riprodotti perché io perdo proprio la materialità del foglio così come viene ripiegato due, tre, quattro volte e come faccio a restituire questa informazione all'utente e poi si è risolto in una maniera che forse non è una soluzione straordinaria però era l'unica che ci è venuta in mente cioè con un campo descrittivo perché per forza poi era inevitabile inevitabile questo però lì abbiamo trovato una difficoltà notevole anche a questo proposito grazie io ero impressionato del stato della ricerca anche dell'aspetto pubblico perché ognuno può utilizzare questo materiale e qua si deve ammettere che l'Italia insieme alla Francia sono molto in avanti di altri paesi dunque grazie può anche essere un modello però io invito anche a porre questioni un po' di carattere più attuali e a un livello un po' allì fuori dei discorsi un po' sempre dentro le riviste e faccio un esempio le immagini oggi dei massacri in sudano del sud non sono più stati discussi perché assomigliano troppo agli immagini dei massacri in Burundi che abbiamo già conosciuti la fotografia di guerra non viene più pubblicata in riviste ma in gallerie d'arte perché perde una specie di efficacia invece c'è un nuovo medium che è il comic reportage c'è un autore come Joe Sacco molto discusso in questo momento che fa dei comic strip ma che sono dei reportage su Palestina su Sarajevo o sui rifugiati in Malta lui è di origine maltese malgrado che ha fatto tutta la sua carriera negli Stati Uniti ha fatto nel 2010 un comic strip di Malta sulla situazione molto attuale dei troppo profughi e dunque lui si compone come un un reporter con tutto il codice di serietà e di autenticità di un reporter fa una sola cosa che un reportage di solito non fa introduce il suo proprio personaggio nei comic strip per extra autentificarci per me questo è un 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 esempio di attuale ristrutturazione di tutto un sistema mediale per rispondere a una questione e questo mi importa molto di alla questione di come una società è capace di rendersi conto delle proprie condizioni di vivere all'interno e all'esterno e dunque quella questione di come le società si creano un immaginario capace di confrontare in maniera responsabile i great challenge storici o no questa questione ha tutto un sistema mediale a me sembra importante di tenerla in mente e se vedo delle cose cioè un esteticismo totale in confronto alla prima guerra mondiale eccetera penso che abbiamo il diritto di anche porci questioni su storici di grande durée su le qualità non solamente estetiche ma anche di responsabilità e per questo mi pare che bisogna prima tenere in conto tutto il sistema di media e dei cambiamenti che sottra ma anche dialoghizzare con storici storici microstorie all'Italia così ricca in questo per veramente far fruire questo materiale e farlo utilizzare non come un immenso archivio ma come una sfida dibattiti anche attuali tra l'altro mentre parlavi mi riva in mente che proprio all'inizio del novecento sull'illustrazione italiana la fotografia come sai la fotografia e il disegno collaboravano nei reportaggi giornalistici in particolare sull'emigrazione dove si iniziava con una fotografia e poi senza avvertire il lettore si passava al disegno e quindi anche questo è un oggetto mediale che in realtà cambiava nel corso dell'articolo senza avvertire il lettore che in realtà si stava facendo un'operazione di modifica dell'immagine che da fotografica e reale diventava in realtà prodotto della manipolazione del disegnatore per agganciare queste cose penso che c'è un'idea di internet adesso dove noi riversiamo questi dati al di là del fatto che siano riviste che sta ha sostituito la fotografia non nel ruolo di verità ma nel ruolo di integrità e fare i comics è la stessa domanda che ci siamo posti con Giorgio credo che sia una cifra di una generazione come possiamo tornare alla materialità fondamentalmente la stessa cosa perché ci stiamo accorgendo tutti che l'immaginario non soltanto l'immaginario ma anche l'epistemologia di come io guardo le immagini è affidata a questa intericonicità perché internet sta diventando una specie di metamedium e penso che il problema sia legato anche a questo quindi la domanda secondo me si riallaccia anche in questo non è soltanto l'immaginario ma anche la verità scientifica cioè siccome internet può contenere il video può contenere o noi crediamo che possa contenere tutte queste cose poi alla fine finiamo per domandarci questo e secondo me è che la fotografia venga sostituita dall'idea del comics rientra dentro a questo recupero di pratiche che sono antropologiche rispetto al problema dell'integrità della verità dell'immagine cioè altrimenti siamo defraudati da questa produzione di immagini cioè ci sta come posso dire soverchiando cioè si produce da sé al di là di noi e quindi credo che questa poi sia una cosa che in qualche modo ci accomuna ma è una riflessione veramente generica forse che bisogna riflettere un po' sulla nozione di remediation c'è stato un libro sì c'è stato un libro su remediation e i due autori dicono in introduzione che insomma remediation è migliorare il stato lo stato anteriore di una cosa mi pare che sia una proposta un po' brutta nel senso molto diretta senza interrogazioni perché non è detto che tutta remediation sia una migliorazione opacità e trasparenza ma esattamente la stessa discussione e paradossalmente noi quando abbiamo un medium opaco certe volte lo riteniamo più legato all'immaginario e quando crediamo di avere un medium trasparente lo orientiamo verso la conoscenza scientifica e in realtà le due cose confliggono internet sta diventando questo e certe volte noi scappiamo da tutto questo problema tornando alla materialità che è una cosa come posso dire una reazione in qualche modo però sicuramente il libro che mi ispira queste riflessioni è quello cioè è chiaro che da quel libro si parte è un libro ottimistico perché è un libro che ancora risente del clima degli anni 90 con i nuovi media ecco sì è da questo punto di vista ancora forse è appunto il segno nuovo forse è questo perché tutti stiamo riflettendo su come tornare invece ad altre cose che internet sta per me allora io saluto tutti ma credo che l'ultima parola aspetti a Giorgio perché è stato il grande regista di tutta questa queste giornate che ci sono state offerte siamo stati qua fino alle 7 probabilmente perché tutte queste sollecitazioni ci tenevano qua e quindi grazie a nome di tutti a Giorgio Baccia e alla Scuola Normale grazie a voi naturalmente Dennis Veronica Davide con i quali insomma abbiamo organizzato queste giornate che continuiamo che continueranno e finiranno domani mattina con l'approfondimento sulla sono talmente stanca poi sono anch'io qua domattina quindi non si vede perché grazie